E ci diamo con un certo ottimismo l'obiettivo ambiziosissimo solo al lato del nostro estediamento di arrivare al 65% di raccolta differenziata entro questo mandato. Apro una parentesi, questa amministrazione all'interno dell'Assemblea dei Soci di CMV e quindi assieme al resto dell'Assemblea ha proposto un emendamento al piano regionale dei rifiuti chiedendo una deroga ai tetto di raccolta differenziata per l'area del cratere chiedendo che venisse abbassato perché sostanzialmente noi abbiamo perso almeno due anni nella tensione all'obiettivo posto dalla norma. Non sappiamo ancora, a causa dell'avvicendamento e il rinnovo dell'organo regione, se questo emendamento è stato o no accolto. Noi crediamo che sarà comunque importante che il centro si faccia trovare il più possibile con il continuo ordine e se arriveremo alla scadenza di questo mandato con il 65% di differenziata sostanzialmente raggiunto sarà già un buon viatico per l'ultimo miglio che è quello di portarci al 70% nei tempi più rapidi possibile. Dicevo, il primo metodo è quello di incentivare la raccolta differenziata, lo stiamo facendo, tra poco arriveremo alla totale copertura del capoluogo, subito dopo inizierà un nuovo livello nell'attività di vigilanza e controllo, gestito sempre in una logica morbida, partendo da quei quartieri, quei quadranti che sono già a raccolta differenziata da più tempo, in alcuni casi da anni. In parallelo a questo mettiamo in campo un sistema di raccolta, di quantificazione della produzione di rifiuti di ciascun nucleo familiare all'apparenza banale ma in realtà abbastanza innovativo anche se nella nostra provincia è già stato sperimentato con successo da quei comuni che si riconoscono nella multi utility area. Sostanzialmente verranno distribuiti sacchetti per la raccolta indifferenziata in numero censito, quindi ogni nucleo familiare saprà quanti sacchetti di un colore specifico per la raccolta indifferenziata gli sono stati assegnati e ogni ulteriore sacchetto richiesto sarà ulteriormente censito. Quindi in questo modo si riuscirà a tenere monitorato con un certo margine di approssimazione ma con un discreto livello di interesse quant'è il livello di produzione di ciascun nucleo. Cioè in funzione di quanti sacchetti oltre alla dotazione base che ti è stata assegnata tu vai a richiedere, si capirà che stai andando oltre. Per essere chiari, secondo le analisi fatte dai tecnici di CMV e quindi secondo ciò che avviene a livello regionale ma anche nazionale la dotazione base dovrebbe essere sufficiente e quindi identifica un livello di virtuosità medio. Chi fa meno verrà premiato in una seconda fase chi fa peggio avrà un aggravio del carico della tariffa di smaltimento. Questo meccanismo sarà omogeneo in tutti i territori dell'Alto Ferrarese ed è questo un altro elemento di particolare interesse per la prima volta, direi, nella storia di questo territorio un tema così importante come quello della gestione dei rifiuti viene gestito, scusate il bisticcio di parole in maniera assolutamente coordinata. Faccio una pausa perché poi non vorrei che nessuno avesse capito niente perché non avendo nessuno ascoltato nulla io do per certo che lo sapete già, ecco la dico così non è per sgridare, è solo perché poi mi sento in colpa io se non capite o se non riesco a catturare la vostra attenzione quello che voglio dire è dunque che per la prima volta anche questo è un elemento dal punto di vista politico di particolare rilievo tutti i comuni dell'Alto Ferrarese stanno adottando il medesimo regolamento e il medesimo sistema di tariffazione allo stesso modo tutti i comuni dell'ambito di attività di CMV quindi l'Alto Ferrarese hanno adottato una un release, una revisione una revisione del piano liberi di differenziarci assolutamente omogeneo con parametri unici per ciascun comune cioè cosa vuol dire? vuol dire che i parametri sono gli stessi poi ovviamente cambiano le caratteristiche del comune quindi il modello si adatta sulle dimensioni dei vari territori e sulle dimensioni delle frazioni o degli sottoterritori però il modello è un modello unico che crea questo almeno l'obiettivo crea un'omogeneità di trattamento facilita la comunicazione con i nostri cittadini perché evita quelle fasi scusatemi l'espressione impropria di interferenza legate in particolare ai territori di confine cioè io fatico a capire come devo fare effettivamente o come funziona effettivamente perché quando sono al bar e parlo con chi abita all'altro lato della strada me la racconta e me la spiega in maniera diversa invece in questo caso sull'intero territorio alto ferrarese si farà tutto allo stesso modo con gli stessi parametri è un altro passo verso l'unione quindi credo che siano due delibere che vanno prese con la soddisfazione di accompagnare la nostra città in questo cambio positivo un ultimo beneficio che credo non sia marginale è come vedo qualche rappresentante del mondo economico in platea è il beneficio che si dà al mondo produttivo perché con l'introduzione di tariffa puntuale sarà possibile consentire agli operatori economici di recuperare l'IVA sulla tariffazione e quindi questo dà una riduzione del costo reale pari almeno al valore dell'IVA stessa quindi in qualche misura questa attenzione o questo nuovo modo di gestire la raccolta e lo smaltimento dà anche un beneficio concreto e immediato al mondo economico e produttivo in generale Bene, grazie signor Sindaco cominciamo un giro di interventi Consigliere Capogruppo Magagna prego, lei la parola Grazie Presidente per prima cosa mi voglio congratulare con che è riuscito a leggere comprendere il contenuto di queste due delibere con gli allegati in questi giorni festivi quindi voterà sapendo i pro e i contro di questa scelta io oggettivamente ammetto i miei limiti non sono riuscito adeguatamente a studiarle quindi permetto già che su queste due delibere il mio voto sarà d'astenzione però questo non mi vieta perché alla fine l'ho lette però non sono riuscite secondo il mio punto di vista adeguatamente ho trovato lo stesso alcune cose da chiedere quindi chiedo ugualmente dei chiarimenti io sono rimasto che queste tariffe almeno mi era stato detto nel capogruppo queste tariffe venivano applicate dove esiste il porta a porta nello specifico di 100 dato che il porta a porta viene fatto solo nel capoluogo vuol dire quindi che vengono escluso le frazioni quindi oltre a avere il danno cioè il danno diciamo di non avere questo servizio hanno la befa anche quindi di non poter usufruire di questa tariffa calcolando che dovremmo essere tutti uguali c'è il principio di uguaglianza sarebbe stato più corretto provare quindi di portare questo servizio a tutti e poi dopo fare questo passaggio questo passaggio alla tariffa alla tariffa puntuale era secondo me decisamente più corretto verso tutti i cittadini poi un aspetto che un aspetto una cosa che ho notato e quindi chiedo l'UMI nella relazione di CMV dice chiaramente che ci sarà dove è qua che leggo direttamente da qua un aumento annuale con un incremento sui costi operativi e tecnici da applicare nei piani economici finanziari pari a 2 milioni di euro che verranno nel prossimo biennio contenuti utilizzando il fondo insoluto e cantonati dai singoli comuni come voce di costo operativo quindi io mi chiedo quanto sarà quindi passate questi due anni il costo medio per ogni utenza perché se l'aumento è di 2 milioni di euro annui e per i primi due anni si riesce a limitare questo aumento perché poi tra l'altro sempre nella relazione dice chiaramente l'aumento secco ed immediato del costo ai cittadini non permetterebbe di valorizzare il percorso individuato dalle parti quindi è palese che ci sarà almeno inizialmente un consistente aumento quindi sarei curioso di capire perché io magari c'è io non l'ho vista però non sono riuscito a trovarla di quanto quindi aumenterà questo costo medio per utenza passati questi due anni dove verrà calmerato dall'utilizzo dall'utilizzo dei fondi insoluti e quindi sì io ribadisco che complimenti a chi riuscirà a votare sapendo esattamente i pro e i contro di tutto io non sono stato in grado nasterò però vorrei almeno chiaramente su queste cose e vorrei che questa ormai tra virgolette è una polemica che tiro sempre fuori io sempre i tempi ristretti stavolta anche il collegio dei revisori dice chiaramente a parte che c'è stata data adesso qua inizio consiglio il loro parere su questa delibera però gli stessi revisori invitano l'amministrazione comunale a far prevenire al collegio la richiesta di pareri con congruo anticipo quindi anche qui è l'ennesimo avere più tempo per poter studiare nella maniera migliore tutte le delibere che andiamo a votare queste cose bene grazie capoglucone Gaglia interviene capogruppo Mattarelli prego la parola speravo anche grazie presidente in un dibattito da parte della maggioranza cosa che in questi anni raramente ho sentito e mi piacerebbe avere anche la loro approfondita opinione sugli argomenti di queste 1200 pagine di consiglio per questa sera premesso questo che non vuole essere ovviamente polemico ma vuole semplicemente su questo punto dare il mio no secco per tre motivi primo motivo io come il collega Magagna ammetto la mia decadenza intellettuale nell'incapacità per le feste natalizie di leggermi 1200 pagine di delibere di consiglio e di conseguenza non sono in grado di dare dei pareri motivati razionali fondati ragionevoli e come diceva il grande Einaudi conosciuti perché si delibera quando si conoscono le cose però di CMV possiamo dire tre cose per quello che riguarda le proposte in ordine del giorno stasera primo ci viene confermato un aumento di 2 milioni e 2 da spargersi da come posso dire ammortizzare si può dire in 5-7 anni di probabile intervento dell'aumento della raccolta porta a porta e quindi sulla come posso dire sulla quello che viene chiamato il termine adeguato in questo momento mi sfugge la differenziazione dei servizi come si chiama la raccolta differenziata costerà 2 milioni e 200 mila euro in più le tariffe 2014 le abbiamo deliberate poco tempo fa con il mio voto favorevole il voto favorevole il mio voto contrario il voto favorevole della maggioranza del 5,82% le tariffe di CMV 2014 e probabilmente le tariffe in futuro aumenteranno ancora anche perché la legge impone la copertura dei costi i costi aumentano le tariffe ergo non possono che aumentare ma ciò che mi preoccupa di più è quello che è il futuro dei progetti che ha la nostra controllata per quello che riguarda la raccolta differenziata poco tempo fa sulla stampa abbiamo letto le dichiarazioni degli amministratori di CMV e del signor sindaco che dicevano che si sarebbe questa società probabilmente avvicinata in un progetto industriale con le consorelle di Argente e di Comacchio il giorno dopo sui giornali almeno ho letto così i sindaci di Argente e di Comacchio smentivano totalmente questa affermazione fatta in conferenza stampa forse mi sbaglio forse ho letto male però quando vedo un management e nel settore da cui provengo io fare grandi proclami sul futuro delle società normalmente le società hanno dei problemi di bilancio il bilancio della CMV lo troviamo analizzato questo mese dettagliatamente su vari organi di stampa in particolare uno dove possiamo vedere un bilancio che a parte il ramo energia e il ramo conseguente dell'energia cioè le controllate CMV energia e ATR che forniscono un servizio positivo al bilancio di CMV il bilancio della CMV che si occupa esclusivamente di rifiuti è piuttosto deludente è deludente complessivamente il bilancio di CMV e non stiamo a ripetere gli indici di bilancio che sono a disposizione di chi li vuol studiare non di chi li vuol leggere di chi li vuol studiare perciò per quello che riguarda il discorso tariffe poco tempo fa il signor sindaco mi disse ma noi non stiamo aumentando le tariffe più degli altri può darsi non lo so sa di fatto che recentemente poco dopo Natale o poco prima tutte le televisioni nazionali libere e a pagamento hanno riportato l'aumento delle tariffe anche dei rifiuti che sono in questi ultimi cinque anni aumentate di cifre di numeri a doppia cifra mentre gli stipendi della gente comune a parte i managers di stato e dei grandi conglomerati finanziari non fanno che calare perciò è chiaro che voi che rappresentate la cosiddetta elite progressiva quelli che guardano sempre alle tasche della povera gente dovreste preoccuparvi invece che di fare dei piani industriali che portano all'aumento della differenziata progetto che può essere condivisibile a dei piani industriali che portano a ridurre le tariffe della gente comune che ormai vedono eroso il loro potere d'acquisto dall'aumento a doppia cifra delle tariffe pubbliche in particolare e i loro stipendi ridotti decurtati e dalla crisi e dal contesto socio-economico di riferimento perciò a prescindere da quello che è il progetto che ripeto e denuncio qua la mia incapacità intellettuale di assorbire il mio tempo libero delle vacanze natalizie a studiarmi queste 1200 pagine di delibere il mio voto sarà a prescindere su questo argomento in particolare negativo per i suoi esposti motivi che ho testé annunciato grazie capo Montarelli altri interventi consigliere erano segnali di fumo segnali veri la parola come ah il microfono glielo facciamo avere adesso viene ha detto no 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 c'è c'è troppo utile dopo stiamo lavorando per voi bene consigliere Cosma Tassinari prego lei la parola grazie grazie presidente consiglieri innanzitutto dottor Mattarelli lei sa che io per cortesia lascio parlare Magagna lei e poi io intervengo in seguito ormai per una consuetudine istituzionale consolidata non sia mai che mi voglia sostituire ai vostri primi interventi io premetto che il gruppo del partito democratico e credo di poter parlare anche a nome della consigliera Carlotti voterà convintamente a favore della tariffa puntuale per una serie di motivi la prima cosa che ci tengo sempre a rimarcare quando si parla di rifiuti a cento è che quando noi ci siamo insediati in questa amministrazione il livello di raccolta differentiata di cento era un po' sotto il 30% più vicino al 25% che al 30% per l'esattezza oggi superiamo ampiamente il 50% e l'obiettivo come ben detto dal sindaco è quello di raggiungere a fine mandato il 65% che non è ancora quanto ci chiede la ragione ma che è decisamente un bel passo avanti rispetto alla situazione iniziale partendo da queste premesse ritengo personalmente che quella della tariffa puntuale sia a prescindere dal livello che poi raggiunge la tariffa per gli utenti sia una questione di civiltà perché quello che penso è che riteniamo normale punire sulla strada per esempio chi commette un'infrazione nessuno si sogna di pensare al fatto che il divieto di sosta sia una barbarie è un'ammenda che viene combinata a chi non rispetta le norme del codice della strada ora le norme che ci chiedono di fare la raccolta differentiata visto che è esattamente come quelle del codice della strada tanto per fare un esempio sono norme che servono a tutelare tutta la collettività ritengo che possano basarsi sullo stesso principio quindi per questo credo che il primo passo di creare una tariffa che vada a punire chi non applica la raccolta differenziata come richiesto dalle norme comuni che ci siamo dati come cittadini italiani prima ancora che centesi e anche ci tengo a dire alle norme etiche che chiunque di noi dovrebbe ormai essere tenuto a rispettare più dal proprio buonsenso e dalla propria morale che non dalle norme legali dicevo appunto che questo primo passo è un ottimo primo passo e come abbiamo già detto in più occasioni sicuramente il futuro sarà quello di poi arrivare a premiare anche chi invece è più virtuoso di altri e chi più di altri si integna andando oltre quello che è la richiesta diciamo morale ma andando a fare più fatica anche sicuramente più attenzione per ripeto migliorare l'ambiente in cui poi tutti viviamo anche qui le norme del spec grazie grazie consigliere Tassinari capogruppo Carlotti prego le la parola ok scusate la voce che non ha delle migliori due cose uno è difficile che ci vedrà discutere su questi banchi noi le nostre discussioni ce le siamo già fatte in privato e arriviamo qua con un'idea unica e condivisa quindi questo mi dispiace ma non lo vedrà o no non vedrà discutere noi prego voi fate il vostro lavoro noi facciamo il nostro sono due lavori ben distinti e separati seconda cosa innovare costa lo chiede a qualsiasi imprenditore lo chiede in giro a chi ha un'attività innovare qualcosa costa innovare nel campo dei rifiuti costa ha un costo e non si è chiesto che forse questo aumento delle tariffe dei rifiuti in tutte le zone qua intorno a noi è proprio perché da anni hanno già portato avanti questo progetto siamo noi che siamo in ritardo in alcuni comuni qua di fianco a noi è vero è costato molto qualche anno fa e adesso ne sta raccogliendo i frutti diminuendo le tariffe grazie capogruppo Carlotti altri interventi signor sindaco prego sì devo un po' di risposte alcuni sono chiarimenti qualche smentita su interpretazioni o affermazioni che non sono vere quindi colgo l'occasione per fare anche più informazione possibile e poi vi do qualche aggiornamento invece sull'altra vicenda che citava il capogruppo Mattarelli anche se con qualche errore anche in questo allora la tariffa puntuale che in realtà più correttamente si chiama tariffa corrispettivo si applica solo nelle zone col porta a porta punto di domanda risposta no capogruppo è stato probabilmente detto io non c'ero che si partirà dalle zone porta a porta nella fase di inserimento e poi si arriverà alla completa copertura del territorio comunale ti annoio ma credo che sia utile perché adesso a parte lei capogruppo Magagna che è di Pieve di Cento ma per tutti gli altri sarà anche una cosa che vi fa sì capito dopo di che lui non deve votare quello che doveva farlo ha già fatto in giù ma non è mica una colpa se di Pieve non si giustifichi di questo volevo semplicemente dire che l'informazione le verrà comunque anche comoda nella sua veste di cittadino e inquinatore perché chi parla di rifiuti in genere considera no ma non è offensivo considera ogni sacchetto un potenziale fonte di inquinamento il meccanismo è questo verranno consegnati dei sacchetti di colorazione specifica credo saranno rosa di un diurosa tipo salmone questi proprio per essere chiaramente identificabili e questi verranno utilizzati per il porta a porta nella giornata di consegna specifica e quindi questo è un elemento di cambiamento che verrà introdotto gradualmente perché voi sapete che ad oggi il porta a porta si applica su tutto il resto rispetto a cosiddette indifferenziate i sacchetti rosa sono per l'indifferenziata la non differenziata indifferenziata però la unica la stessa cosa verrà nel territorio non servito da porta a porta quando dicevo che l'intero territorio dell'Alto Ferrarese sia dato un parametro unitario si è dato con una sola eccezione che è il comune di Mirabello il parametro unitario di dire porta a porta nei modi e nei tempi questo è il disegno industriale in tutti i centri superiori ai 3500 abitanti altro sistema cioè quindi sistema a cassonetto nei centri di dimensioni inferiori questo non come risultato da qui all'eternità ma come risultato al termine di una prima fase di estensione del porta a porta perché questa logica perché qui do una notizia al capogruppo Mattarelli si guarda i conti e esiste un rapporto costo beneficio molto chiaro che dice che al di sotto di determinate concentrazioni di abitato il costo del porta a porta che è un costo che richiede un'aliquota di personale e un rapporto utenza operatori maggiore rispetto al mono operatore che ribalta il cassonetto nell'automezzo dicevo al di sotto di una certa concentrazione minima di popolazione l'operazione è anti-economica non sostenibile dal punto di vista economico lo è però sostenibile dal punto di vista ecologico ed è per questo che una volta completato una prima fase nulla vieta in molti centri molto più avanti di noi a ragione su questo il capogruppo Carlotti noi arriviamo come sempre buoni ultimi il merito che ha questa amministrazione comunale è di recuperare i ritardi la croce che porta questa amministrazione comunale che siamo poi noi a dover abbiamo quasi la sensazione di avere responsabilità sui ritardi ma se arriviamo per ultimi evidentemente è perché quando sono partiti gli altri qui non si è partiti ma non è questo il problema l'importante è partire e arrivare allora dicevo che siccome lo è sostenibile dal punto di vista ecologico nulla vieta che in una seconda fase una volta che la curva dei costi sul porta a porta ci avrà riportato alla parte dei benefici questo sistema possa essere esteso anche ai centri di dimensione inferiore ai 3500 abitanti lo chiarisco non è per gerarchizzare le frazioni su una base di un parametro di simpatia dicevo l'unica eccezione è per il comune di Mirabello perché il comune di Mirabello si sarebbe trovato senza l'applicazione del porta a porta visto che il capoluogo non rientra nel parametro minimo o sta attorno a quelle cifre quindi no non esistono cittadini serie A cittadini serie B esistono servizi fatti in un modo servizi fatti in un altro l'unica differenza è che nella frazione sotto i 3500 abitanti sacchetto rosa salmone lo butto in un cassonetto dell'indifferenziata nelle frazioni superiori a quel numero minimo di abitanti lo porto fuori dalla mia soglia di casa nei giorni e negli orari che sono indicati arriveremo con un percorso perché avete notato che tutte le espansioni del porta a porta gli scatti di avanzamento non hanno portato insurrezioni tensioni sociali o polemiche particolari al di là di qualcuno che metteva il cestino il sacchetto fuori dal cassonetto e gli faceva la foto e la pubblicava su Facebook ma pochissimi casi ma nella gran parte dei casi e qualche maleducato purtroppo c'è ma nella gran parte dei casi la nostra comunità ha reagito e ha risposto con maturità e con consapevolezza e sono convinto che andrà avanti andrà avanti così quindi no cittadini serie A cittadini serie B frazioni che vengono servite da una determinata metodologia di raccolta e frazioni che vengono servite da altre metodologie di raccolta ed è così per tutto il territorio dell'Alto Ferraresmo non c'è un aumento di 2,2 milioni di euro ci sono investimenti per 2,2 milioni di euro il meccanismo della tariffa e questo a capogruppo Mattarelli l'ho già detto più volte però evidentemente è un concetto che non lo non lo convince fino in fondo per l'amor di Dio si può anche non essere convinti solo che questo non è un fatto su cui si possono avere opinioni diverse il meccanismo di tariffa è banalizzandolo molto costi diviso abitanti secondo una formula di ripartizione che tiene conto delle dimensioni delle abitazioni dimensioni dei nuclei familiari eccetera tutto ciò che è investimento sta alla voce costi e quindi me l'avete visto fare mille volte questo gesto la curva della raccolta differenziata vede inevitabilmente il costo salire in funzione degli investimenti che vengono fatti sacchetti tecnologia codice a barre sistema informatizzato di gestione numero di squadre molto più abbondante sul territorio attività di formazione investimenti nell'educazione della gente presenza capillare degli operatori nelle piazze nelle vie a spiegare come funziona distribuzione dei sacchetti uno più bravo e più dentro dal mestiere di me potrebbe dirvi molte altre voci di costo poi pian piano il beneficio comincia a essere evidente perché pian piano perché non è vero che ciò che viene differenziato è un valore ciò che viene differenziato è potenzialmente un valore nel senso che una bella campana del vetro che abbia dentro solo del vetro di tipologia giusta viene venduta così com'è in consorzi che recuperano il vetro se invece non è solo vetro non è tutto vetro se ci sono anche i tappi di alluminio metallo quello che è dentro se le bottiglie sono sporche eccetera 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 ecco che il valore del vetro si riduce e a un certo punto se lo sporco supera una certa percentuale diventa un costo perché chi te lo viene a ritirare non ti dà dei soldi per portarla via ne vuole perché deve fare poi un lavoro di smistamento allora la raccolta differenziata in una fase iniziale ha delle quantità e delle sacche di inefficienza che sono fisiologiche e su quelle non si interviene con la repressione su quelle si interviene con la formazione e dando alla gente alle persone il tempo di prendere coscienza con un metodo che è innanzitutto un cambio culturale cioè io vuoto il mio brick di latte lo piego e lo metto dove riciclo il tetrapack io faccio la stessa cosa con la plastica con l'acqua sapendo che devo togliere il tappetto che devo togliere eccetera eccetera sono cose che vengono spiegate vengono stampati folder depian eccetera quindi in una prima fase la raccolta differenziata è comunque solo una speranza di recupero economico in una fase successiva comincia a dare dei benefici ecco che la curva scende ed ecco che gli investimenti cominciano a dare dei frutti sono percorsi lunghi per questo quasi tutti sono partiti da tempo noi stiamo recuperando e dovremmo fare la stessa fase che hanno fatto tutti prima investire e poi sperare di avere un ritorno non è possibile dire che cosa succederà fra due anni fra tre anni fra quattro anni perché dipenderà molto da come risponderanno le nostre comunità io sono convinto che risponderanno bene io sono convinto che si proseguirà su questa strada virtuosa e intrapresa e che molto presto potremo avere quei benefici a cui facevo cenno ma soprattutto sono convinto che riusciremo ad agire con quel piano industriale che è stato presentato e mai smentito da nessuno che porta al superamento della frammentazione in tre multi utility della parte del nostro territorio provinciale è diverso dal capoluogo quello che è stato detto in quell'articolo peraltro tutte e due i giornali hanno riportato con grande precisione il contenuto di quella conferenza stampa è che si sta lavorando alacremente per il superamento di CMV parte igiene ambientale per arrivare alla creazione di un'unica utility non multi utility di un'unica azienda provinciale per tutto il territorio provinciale tranne il capoluogo che si occupi di raccolta i distinguo di Argenta e Comacchio erano legati alla seconda società e se vogliamo essere pignoli non erano due comuni che dicevano noi non vogliamo entrare erano due comuni che dicevano perché la fate senza di noi e su questo in realtà non si discute sui giornali ma non è in alcun modo quello il ragionamento il piano industriale di CMV è di creare una seconda società sovracomunale in partnership quantomeno con area ma a maggior ragione dopo le sollecitazioni avute sulla stampa speriamo con un bacino di riferimento e una compagine sociale che si arrivi anche a sovrapporsi a quella della prima multi utility che si occupi di quelle attività di smaltimento diverse dagli inceneritori non so se vi annoio o se è una cosa che può in qualche misura interessare no vedo che stava lavorando al tablet avevo il dubbio che non gli fregasse niente interessa interessa oggi sono in cerca di attenzione perché ho la sensazione di raccontarvi delle cose e parlare da solo siccome le so quindi cosa voglio dire che la seconda società è quella che dovrebbe portare davvero a un cambio di politica dei rifiuti in questo territorio quando il capogruppo Mattarelli dice che a livello nazionale i costi dello smaltimento crescono dice una grande verità ma i costi dello smaltimento sono in gran parte da ricondurre al costo di conferimento in inceneritore è chiaro che per ridurre questa voce di spesa che è etero diretta cioè che non è frutta della nostra multi utility perché l'inceneritore come sapete non è di proprietà di CMV non è che CMV possieda gli inceneritori né peraltro li vuole possedere ma questa voce di spesa è una voce di spesa che puoi contrastare solamente andando a differenziare e a modificare quello che dovrai andare a conferire cioè maggiore è la quantità di differenziata migliore è la qualità di differenziato ecco che allora vai a ridurre in maniera significativa i volumi da conferire in inceneritore e a quel punto vai a ridurre il costo in aggiunta se la differenziata è buona determinati prodotti possono viaggiare in quella che è la rigenerazione cioè la via parallela il vetro si fanno cose egregie con la carta col vetro con la plastica eccetera ma persino sull'umido e sull'organico è possibile utilizzare meccanismi di smaltimento che sono alternativi rispetto alla combustione cioè rispetto all'inceneritore che sono ad esempio i digestori anaerobici che sono meccanismi impianti che trasformano l'organico e ne producono humus piuttosto che biogas in maniera significativa allora Centro non ha nessuna velleità ad avere un impianto di questo genere CMV non si candida in alcun modo ad ospitare questo tipo di impianti ma sappiamo che nel piano regionale rifiuti è previsto un impianto alternativo all'inceneritore in questa nostra provincia e pensiamo che sia opportuno e anche giusto che l'intera provincia si faccia carico di realizzarlo e traga beneficio di quello che è un ritorno economico evidente legato alla trasformazione di quanto da noi prodotto ancorché come rifiuto quindi c'è un piano industriale dietro c'è un lavoro dietro e lo dico così dire che pagare non va mai bene che è sempre meglio pagare meno e che cambiare le cose è sempre un rischio ho la sensazione che sia una scorciatoia facile ma è una scorciatoia che questo nostro territorio è imboccato per troppo tempo adesso invece bisogna mettere le cose sul binario corretto avere il coraggio di disegnare il futuro guardarci bene fare i conti ambiro a matita anche con la calcolatrice se serve dopodiché mettere in campo delle risposte strutturali perché di pezzi e di palliativi non si vive bisogna dotarsi di un piano industriale strutturale non è un caso che CMV abbia avuto il primo piano industriale della sua storia al lato di insediamento di questa amministrazione non è un caso che il piano industriale abbia visto l'azienda concentrarsi sulla propria attività quelli che parlano bene chiamano il core business non è un caso che da queste scelte ne sia disceso per la prima volta un dividendo soci ovviamente un dividendo soci che risente di due circostanze la prima che le multi utility per la gestione di servizi pubblici in concessione non possono fare utile per legge quindi non vedrete mai CMV servizi fare utile perché il meccanismo della tariffa è costo fratto abitanti e se vedete CMV fare utili correte dal guardia di finanza perché non li può fare vuol dire che sta prendendo impropriamente dei soldi dalle tasche dei cittadini e non potrete mai vedere ATR fare utili perché gestire reti del gas vuole dire costi di investimento in reti e costi di manutenzione diviso chilometri di infrastruttura questo è quella che può fare utili è CMV Energia che di fatti li fa perché ben gestita e che ovviamente risente del fattore climatico quindi deve venire un inverno freddo perché la gente consumi del gas ma noi siamo tra quelli che fanno il tifo per l'inverno caldo perché anche se guadagniamo qualcosa in meno sul gas spendiamo un po' in meno sul sale e soprattutto ci godiamo un clima che a me personalmente piace di più detto questo la galassia CMV è una galassia in evoluzione perché sta cercando di vivere da protagonista un periodo di trasformazione nella concezione della raccolta che coniughi efficienza in termini industriali e obiettivi virtuosi in termini ambientali facciamo un altro giro di interventi o siamo sufficientemente in grado di andare alla votazione dichiarazione di voto non ce ne sono quindi mettiamo in votazione il punto numero due all'ordine del giorno no non stava dicendo altrimenti fermavo io dicevo come? no vai mi dica io ho appena detto se non ci sono secondi interventi ma se ce ne sono prego capogruppo Mattarelli però chiaro giusto per chiarire alcune cose certo per per evitare di far polemiche inutili e poi in ogni caso non 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 profittevoli ecco né per la città né per il consenso per quanto riguarda le notizie di stampa io ho qui sotto gli occhi dice no all'azienda unica per i rifiuti i sindaci di Comacchio Argenta smentiscono le affermazioni di CMV e Lodi poi questa è la nuova del 23 di dicembre e la pagina è la pagina 25 io adesso non sono entrato nel dettaglio probabilmente il senso il senso era era questo e quindi i due sindaci dicevano questo questo fatto qua benvenga l'idea di fare un qualcosa che possa dal punto di vista industriale chiamare quello che io ho visto fare per 25 anni quando mi proponevano i cosiddetti piani industriali i cosiddetti imprenditori per avere i soldi veri però dalle banche era l'economia di scala l'economia di scala serve per tu fai una cosa uguale alla mia tu fai un'altra uguale alla mia tu fai un'altra uguale alla mia le facciamo una per tre probabilmente anziché spendere 300 spendiamo 250 in tutto il settore industriale questo è stato fatto è normale nel settore pubblico non è ancora stato fatto da nessuna azienda pubblica quindi se CMV la farà vedremo quando sarà ora di farla e se verrà fatta e se i sindaci di Argente di Comacchio saranno d'accordo le voglio anche ricordare che il primo ordine del giorno che ho presentato in questo consenso nell'aprile del 2012 era quello di prendere in considerazione non votato da nessuno quell'ordine del giorno sicuramente non dalla minoranza ma neanche non dalla maggioranza ma nemmeno dai miei colleghi di minoranza perché a loro dire non era chiaro era quello di prendere in esame il futuro di CMV intendendola come privatizzazione privatizzazione che vuol dire non per forza darla a un privato che vuole fare i soldi sulle spalle della gente ma una logica come quella che lei ha appena accennato cioè quella che tenta di rendere efficiente una macchina che è efficiente e non è perché ha un ROI una reddittività industriale inferiore al costo dei mezzi di terzi e più fa bilancio più fa fatturato meno è efficiente dal punto di vista industriale perché questi sono i dati di bilancio che poi dopo sono pronto a confrontarmi con gli amministratori anche di CMV se lei vuole ma non è la sede e quindi più la macchina diventa efficiente e se questa è una strada meglio è perché l'obiettivo è quello di ridurre i costi e quindi di ridurre le tariffe per i cittadini io ho voluto dire un'altra cosa le tariffe in questi anni sono decuplicate sia di CMV sia di tutto il settore rifiuti e servizi pubblici non solo di questa città però se questa equazione continua ad andare avanti in questo modo i servizi pubblici continuano a costare sempre di più e gli stipendi sono sempre più bassi o sono fermi o si perdono perché la crisi è quella che stiamo vivendo ormai da otto anni dove il PIL di questa nazione sventurata io la chiamo ma anche di questa città è in continuo calo e la risposta alla sua domanda che mi dice come fa a capire quant'è il PIL della città ecco ce l'ha detto il CDS poco tempo fa quant'è il PIL della città di Cento è calato del 12% dal 2007 ad oggi almeno così ha riportato i dati del CDS perciò se i redditi calano e le tariffe aumentano gioca forza che i consumi vanno a diminuire perché è anche vero che non potevamo permetterci e non possiamo permetterci che le tariffe siano sempre solo applicate in perdita per le società controllate dai comuni però è anche vero che la ricerca di una maggiore efficienza non sempre passa per i piani industriali fatti dalle società controllate dai comuni stessi fermo restando che la tariffa che è individuale e la differenziata noi sì è vero forse abbiamo recuperato del tempo che abbiamo perso però in tutti i paesi civili dell'Europa specialmente quella del nord la differenziata e in particolare in Svizzera la fanno dal 1960 i sacchetti differenziati per i rifiuti delle persone e delle aziende in Svizzera ci sono dal 60 e se tu non differenzi ti fanno delle multe da sant'uffizio che vengono impiegate per migliorare i servizi pubblici non volevo in qualche modo dire che la scelta della tariffa individuale è una scelta sbagliata io sono fondamentalmente contrario all'aumento delle tariffe camuffato come investimenti che in realtà sono investimenti che lo vedremo solo in futuro quando daranno i ritorni reali al momento i ritorni non li possiamo ipotizzare bene grazie consigliere Capurco Mazzarelli non ci sono altri interventi le dichiarazioni e i voti sono già state esplicitate quindi punto numero 2 all'ordine del giorno regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato di rifiuti urbani e assimilati avente natura corrispettiva copertura ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani essenza dell'articolo 1 comma 639 668 della legge 27 dicembre 2013 numero 147 adozione chi è favorevole favorevole gruppo PD federazione la sinistra chi si astiene astenuto per le frazioni lega nord che è contrario contrario gruppo noi che e forza italia approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera non c'è la immediata passiamo al punto 3 e andiamo a votare anche questo tariffa puntuale in senso dell'articolo 1 commi 639 668 della legge 27 dicembre 2013 numero 147 istituzione che è favorevole favorevole gruppo PD federazione della sinistra che si astiene astenuto gruppo noi che e lega nord che è contrario contrario forza italia e noi che per le frazioni per le frazioni si astiene e lega nord contrario noi che e forza italia anche questo approvato a maggioranza mettiamo in votazione l'immediata esecutività del punto 3 unanimità di votazione punto 4 scuola d'infanzia di Casumaro acquisizione dell'immobile a sito in cento frazione Casumaro via Pavani rientrencato catastalmente al foglio 2 mappale 901 al patrimonio comunale relaziona il signor sindaco prego prego sì credo che in questo caso sarà abbastanza veloce la mia relazione poi se ci sono domande o chiarimenti ovviamente sono più che a disposizione è poco più che un atto tecnico un atto dovuto acquisiamo al patrimonio comunale la splendida scuola materna di Casumaro si chiude un percorso l'acquisizione del patrimonio comunale ha seguito di parecchio l'inaugurazione della scuola stessa ma d'altra parte ne avevamo già il possesso e la disponibilità non facciamo altro che iscriverla diciamo nei registri del nostro patrimonio con una una presa con una ratifica diciamo da parte del consiglio comunale che chiude un passaggio di quella che è una donazione importante che abbiamo avuto e che abbiamo anche in parte procacciato guardo il consigliere Mattioli che insieme a me andava spesso a Milano per convincere l'associazione nazionale alpini a realizzare a cento questo splendido oggetto e quindi la acquisiamo al nostro patrimonio e la facciamo diventare davvero una dote per le prossime generazioni sapendo che già le generazioni attuali se la stanno quotidianamente godendo grazie capogruppo Magagne prego grazie presidente il mio voto sarà favorevole volevo solo far presente una cosa che ho fatto presente al capogruppo come è tutto splendidamente dettagliate le spese secondo me questo è un bel esempio di trasparenza che dovrebbe passare anche verso le amministrazioni le amministrazioni è stato fatto presente che ci vuole personale però penso che se ce l'ha fatta l'ANA ce la può fare anche un comune questa qua è come veramente si spiega dove viene speso tutto invece di una cifra totale dove si dice è costato questo per fare una determinata cosa un prospetto così dettagliato è quando si dice trasparenza dal mio punto di vista perché è incontestabile di dove ogni centesimo è finito quindi secondo me è un esempio da provare di utilizzare anche per quanto riguarda la cosa pubblica gestita dal comune direttamente e non da te altri comunque il voto comunque per questa delibera sarà ma vorrei grazie capogruppo Magagna altri interventi capogruppo Mattarelli prego le parole in merito all'argomento vorrei dire questa riflessione do atto e mi complemento con il consigliere Mattioli che ovviamente di Casumaro perciò ha fatto tanto per questo nonché con il sindaco che sono riusciti ad ottenere dall'ANA questa possibilità di fare questa scuola quindi prenderla in carico adesso i costi saranno nostri di gestione però intanto abbiamo un edificio che sicuramente ricorderà oltre che quel dramma che è stato il terremoto ha fatto anche l'impegno di questa amministrazione per ottenerlo aggiungo però anche una cosa e cioè è vero che qui c'è un dettaglio di costi per 1.032.040.07 euro per che sembrerebbero i costi sostenuti per fare questo immobile con tanto di sottovoci applicate eccetera eccetera e oltretutto vedo che ci sono anche parecchi fornitori locali quindi in un certo qual modo anche l'economia locale ne ha beneficiato perché oltre che stare sul nostro territorio oltre che servire i nostri cittadini è stata anche data la possibilità di vendere del materiale delle aziende locali per farle ben controllate dai costi è anche vero quello che dice il consigliere Magagna questo è un dettaglio piuttosto semplice piuttosto come posso dire chiaro di come è arrivata la costruzione come è costata questa scuola però è anche vero che quando di questi prospetti privati io nella mia pur non modestissima ma non ciclopica carriera ne avrò visti qualche migliaio di questi prospetti per sapere quanto veniva a costare un progetto quindi per ottenere poi i relativi finanziamenti molto spesso molto spesso poi quei progetti non erano attinenti al costo reale ottenuto e verificato sul campo sia prima che dopo questo non è modo di verificarlo noi la prendiamo in carico essendo una donazione sicuramente avranno speso questi soldi quello che noi dovremo però verificare è quanto ci costerà di manutenzione che mi sembra di non vederla nella delibera a meno che come ripeto nelle 1200 pagine di materiale che ci avete fatto ovvero il 23 non sono stato in grado di verificarlo tutto profonditamente quindi la domanda è bene bravi abbiamo ottenuto una scuola gratuitamente grazie a chi ce l'ha fatta il nostro costo di manutenzione annuo da qui a venire quanto sarà quanto ci costerà questo immobile essendo un immobile in più nel patrimonio comunale l'1 il 2 il 3 il 5% del valore nominale quanto sarà perché è questo che poi dobbiamo valutare in futuro oltre che il beneficio di averlo chiaramente anche nel bilancio dei prossimi anni valutarne la capacità di sostenere sia come costi che come manutenzione tutto qua bene grazie capogruppo Mattarelli consigliere Massimo Mattioli prego lei la parola adesso arriva il microfono cerchiamo di veicolarlo è inconveniente se ne siamo e dopo diamo consigliere ad onore all'associazione tecnico grazie due parole solo innanzitutto per ringraziare ancora una volta l'ANA perché veramente è stata incommiabile non solo per la scuola ma per tutto il lavoro che ha svolto durante l'evento del terremoto ma ovviamente a caso umano devono ringraziarla in modo particolare appunto perché hanno lasciato in dono questo splendido edificio e quindi volevo ringraziare ulteriormente per quanto riguarda il discorso che faceva Mattarelli il discorso della spesa per le utenze perché la manutenzione si spera che non ci sia adesso essendo un edificio nuovo non credo ci debbano essere spese di manutenzione o meno per un po' di anni saranno solo ed esclusivamente le utenze le spese che non sono altro non una spesa in più perché non sono altro che le spese che si sosteneva già con la scuola che c'era prima del terremoto insomma voglio dire perché la scuola materna c'era anche prima Casumaro con il terremoto è stata chiusa si è dovuto costruirne una e le utenze il riscaldamento la luce l'acqua dovevamo pagarla anche prima la pagheremo anche adesso quindi non c'è nessun aggravio di costi sulle utenze e di conseguenza credo che la risposta sia già data grazie consigliere Massimo Mattioli bene due parole sindaco prego solo per due risposte ma proprio dovute il capogruppo Magagna chiarisco che trova quell'analitica indicazione dei costi perché è una donazione e quindi il donante ha scelto di inquietanzare ciascuna singola fattura intestandola a noi e quindi chi ha istruito la delibera ha dato conto della medesima suddivisione in tante voci di spesa qualunque opera pubblica in genere viaggia con il meccanismo dell'appalto e quindi tutto sta nella fattura in entrata che poi riceviamo dall'appaltatore per cui non vengono riportate in delibera perché in genere noi vediamo un'opera pubblica e la deliberiamo prima che venga realizzata in questo caso è un'accettazione di donazione quindi proprio la struttura della delibera può essere concettualmente molto diversa ma le stesse informazioni sono acquisite all'ente per qualunque opera pubblica venga realizzata sì no il tornare in consiglio per dire prendiamo atto che l'abbiamo pagata diventa una cosa che non ho mai visto fare in nessun consiglio comunale del mondo poi qualche strumento lo possiamo anche individuare se lei ha questa curiosità ma le posso garantire che va bene l'altra cosa sulle utenze invece voglio cogliere l'occasione per dire che ha detto bene il consigliere Matteoli quando dice che questo non è un nuovo edificio è un edificio di proprietà comunale che sostituisce un edificio che il comune aveva in locazione e quindi in prima come? e quindi sì stavo proprio dicendo questo non si fidano e quindi in qualche misura il primo beneficio è che andiamo a togliere il canone di locazione in aggiunta andiamo a sostituire un edificio in elevata classe di efficienza energetica oltre che in elevatissima classe di efficienza sismica prima avevamo un edificio in molto modesta classe di efficienza energetica figlio dell'epoca in cui era stato costruito quindi non solo non avremo un aggravio ma stiamo già sperimentando e toccando con mano un significativo risparmio in termini di utenze in aggiunta a questo le metodologie e le modalità di progettazione dell'edificio che è caratterizzato per chi c'è stato da uno straordinario impiego di luce naturale porta al duplice beneficio teniamo un po' più spenta la luce elettrica e questo aiuta il portafoglio ma soprattutto facciamo in modo che i bambini stiano in un ambiente illuminato da luce naturale che è sicuramente più riposante più rilassante più adatta alla vista e quant'altro quindi i benefici sono in termini di salubrità in termini di portafoglio in termini di sicurezza talmente rilevanti che da questo punto di vista un bilancio comparativo può essere fatto ma da dei risultati a straordinariamente lusinghieri bene allora con il grazie di questo consiglio comunale all'associazione nazionale Alpini mettiamo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno scuola dell'infarsa di Cagio Maro acquisizione dell'immobile sito in cento frazione Cagio Maro via Pavani identificato cassosalmente al foglio 2 mappale 901 al patrimonio comunale chi è favorevole favorevole gruppo PD federazione della sinistra per le frazioni lega nord chi si stiene astenuto noi che e forza Italia approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità passiamo al punto 5 all'ordine del giorno acquisto porzione di immobile scuola dell'infanzia del plesso scolastico di Corporeno identificato al catastro fabbricati in comune di Cento foglio 40 mappale 996 sub 9 determinazione relaziona sempre il signor sindaco parliamo ancora di scuola parliamo ancora di aumento e crescita e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale in questo caso andiamo ad acquisire una porzione della nuova scuola di Corporeno e segnatamente la parte che ospita la materna statale come trovate scritto con chiarezza in delibera il percorso logico che porta all'acquisizione è il seguente nel 2013 l'ufficio scolastico provinciale ha previsto nell'organico di fatto la costituzione di una materna statale in Corporeno ed è un fatto nuovo nel senso che Corporeno non aveva mai avuto una materna pubblica nel 2014 la medesima è stata prevista nell'organico di diritto per chi non è avvesto la terminologia specifica del settore vuole dire che nel 2013 è stata introdotta in via transitoria nel 2014 è stata confermata in via definitiva come si direbbe nel mondo della scuola anche la scuola materna statale di Corporeno è passata di ruolo quindi è una scuola che rimarrà da qui sino a nuove determinazioni che in ragione del trend demografico molto positivo della frazione ci portano a dire che avrà vita lunga per questo motivo l'amministrazione comunale che come sapete in ambito scolastico ha il compito di mettere a disposizione degli edifici mentre l'attività didattica delle scuole statali è a pannaggio della direzione didattica per il tramite di questa dell'ufficio scolastico provinciale e regionale l'amministrazione comunale ha deciso di acquisire quell'immobile quella porzione di immobile quella parte autonoma di immobile perché la scuola materna statale di Corporeno rimarrà per le prossime generazioni l'attuale deliberazione ha alcune specificità nulla di particolare però una cosa la voglio chiarire perché potrebbe essere oggetto di equivoco noi potremmo agire per l'acquisizione di quella materna ai sensi della deroga ai limiti al blocco degli acquisti data con ordinanza al commissario per la ricostruzione scegliamo però di agire ai sensi della normativa ordinaria diciamo così e quindi proprio nella logica di massimizzare scusatemi la brutta espressione la trasparenza scegliamo di avvalerci di una validazione del prezzo da parte dell'agenzia del demanio un'agenzia nazionale che ai sensi di una recente normativa che sta dentro una delle varie pieghe della spending ha il compito di validare la congruità dei prezzi di acquisto per andare a individuare il prezzo di acquisto abbiamo sviluppato un meccanismo a tre fasi scusate anche qui la banalizzazione abbiamo una prima perizia da parte dell'agenzia del territorio che è quella sulla base della quale è stato stipulato il contratto di locazione che ci dà un costo metro quadro per l'edificio abbiamo una perizia da parte di un tecnico professionista individuato con metodologie di selezione di consulenza che dà una stima e abbiamo sottoposto questa stima alla validazione da parte dell'agenzia del demanio oggi noi andiamo a prendere la seguente determinazione noi andiamo a dare mandato al comune di acquisire a quel prezzo che è il frutto della stima fatta dal consulente fatta salva la verifica di coincidenza della valutazione dell'agenzia del demanio voglio essere chiarissimo noi compriamo dunque a qualunque cifra cioè noi diciamo al comune di comprare a qualunque cifra fino a quella scritta in delibera fatto salvo che compreremo solo alla cifra indicata all'agenzia del demanio se la qualora l'agenzia del demanio indicasse un valore più basso questo valore per noi come consiglio comunale sarà già da intendersi buono nel senso che ovviamente nel più sta il meno scusate anche qui la banalizzazione resta evidente che sarà però necessario una nuova fase di trattativa con il privato col privato si è raggiunto un accordo al valore indicato dalla nostra perizia le motivazioni credo siano chiare le finalità mi sembrano evidenti il nostro desiderio è quello così come abbiamo fatto prima su Casumaro abbiamo sostituito una scuola in locazione con una scuola in proprietà ecco che anche in questo caso stiamo acquisendo al patrimonio immobiliare comunale una bella scuola nuova in classe energetica elevata in classe sismica elevatissima e con tutte le caratteristiche tecniche che valevano anche per la scuola di cui parlavamo prima e la acquisiamo al nostro patrimonio se ci sono domande ovviamente sono a disposizione interventi Preschi consigliere comunale prego un attimo il microfono che ce l'ha facciamo c'è la signora non disturbiamo il tecnico questa volta bene prego grazie presidente dunque intanto volevo dire che secondo me ci sono questi tre punti che vanno a seguire nel nostro ordine del giorno non ben organizzati nel senso che adesso acquistiamo la scuola poi c'è il piano organico poi c'è il piano della ricostruzione secondo me era giusto fare prima il piano della ricostruzione poi il piano organico che ne è legato e successivamente acquistare la scuola perché credo che nel piano organico ci siano delle risposte che interessano comunque volevo fare una domanda il comune ha fatto un contratto di locazione con opzione di acquisto questo nel 2012 quando ha costruito quando è stata costruita la scuola poi stipulato un contratto di locazione sempre nel 2012 con l'assestamento di bilancio 2013 il consiglio comunale ha finanziato con l'avanzo di bilancio l'acquisto di una porzione della scuola per un importo di 700.000 euro successivamente la stima di Espro Progetti ha fatto una stima di 570.000 oltre IVA e portando a 696.000 euro quindi un costo che si equivale a quello che era stato ipotizzato quando è stata stanziata la cifra poi che andrà validata dall'agenzia del demagno chiedevo il valore dei 700.000 è stato fatto è stato fatto c'era già la stima di Espro Progetti o è stato preso dalla stima fatta precedentemente dall'agenzia del territorio che ha citato il sindaco prima nel momento in cui è stato locato l'immobile nella mia delibera manca poi l'allegato A che era la parte integrante che non ho potuto vorrei fare un'altra domanda al sindaco l'opzione del contratto stipulato è un diritto che il comune l'opzione di acquisto è un diritto che il comune si è riservato mentre ha fatto il contratto di protezione non è un obbligo dovrebbe essere un diritto chiedevo che interesse ha il comune oggi ad opzionare questo oggi e non a fine contratto o in altro momento chiedevo altra cosa chiedevo visto che non si sa neanche ancora il prezzo è poco che è stato chiesto all'agenzia del demanio perché vedo che è stato inviato il 16 di dicembre visto che non si sa ancora il prezzo è proprio indispensabile procedere ora all'acquisto grazie per il momento altri interventi capogruppo Magagna prego grazie presidente a lui mancava un allegato l'allegato a io qui sempre a inizio consiglio mi è stato dato il parere del collegio dei revisori ma c'è la prima pagina su due non so cosa c'è nella due e nella due presumo ci sia il parere perché nella uno non c'è e quindi sinceramente non so cos'è che dicono leggendo nella prima pagina si è andato a riprendere quello che avevano detto nel nel 2013 che non erano proprio convinti dell'utilizzo dell'avanzo di destinazione per l'acquisto della scuola di Corporeno però oggettivamente questa è la cosa del 2013 quindi non c'è quella relativa da adesso una pagina sola sì uno su due però manca la due dove dice il parere dei revisori finisce finisce la pagina dicendo la proposta di delibera e la relazione illustra in modo dettagliato il processo logico mediante il e poi non si sa più che cosa manca qualcosa di importante secondo me in più però rimane il fatto che viene dato a consiglio iniziato non è proprio il massimo della procedura in più a sto giro sono contento che almeno c'era il parere dell'ufficio ragioneria a differenza di quando abbiamo provato la SRL sulla fiera che sì era arrivato due ore prima però per chi non va a casa e non vede le mail io l'ho potuto leggere al consiglio finito per la cronaca non era propriamente favorevole il parere della ragioniera capo su quella delibera comunque questo giro c'è fa presente è favorevole però io volevo capire di quanto sarà la diminuzione dell'affitto perché la dottoressa Frappicini fa presente alla fine della relazione che la modifica della proprietà da privata a comune fa venire meno parte dell'introito IMU largamente compensata in prospettiva dalla diminuzione dell'affitto passivo cioè in coerenza con le sempre più stringenti normative della spending review però sì vorrei capire di quanto si pensa che possa ascendere capisco che bisogna vedere quanto l'agenzia del demanio dirà quanto è il costo però a spanne probabilmente si sa già di quanto consiste questa diminuzione finito capogruppo Magagna finito capogruppo Mazzarelli prego in merito a questo punto conviene fare un paio di valutazioni di carattere politico e anche economico premesso che non mi è chiaro e quindi la domanda è l'immobile che andiamo la scuola che oggi andiamo a comprare nel complesso il calabrone è dentro al complesso della scuola di legno quella complessiva o è quella laterale che è la scuola di infanzia costruita già da un po' di tempo è dentro al complesso della scuola di Corporeno quindi tutto il complesso che conosciamo è costruito in legno o è quella laterale questo che non si capisce non sembra che sia almeno dai disegni non non si riesce a capire premesso questa domanda che poi il sindaco mi risponderà tempo fa quando in sede di una commissione mi pare una commissione bilancio mi pare si parlò di spending review e si parlò della necessità l'obbligo praticamente il signor sindaco ma anche risposto per iscritto in questi termini alla mia interrogazione che feci su quella particolare su quello specifico argomento di ridurre quindi la spending review per ridurre l'affitto in generale pagato dal comune e in particolare per due affitti importanti uno per il nostro archivio lì in via Fazzoni Galerani e uno per la scuola di Corporeno che ricordo essere di 601.000 euro più IVA quindi 728.000 euro più IVA compresa rivalutati a 737.000 come da contratto secondo gli indici Istat 737.000 euro annui per nove anni e la spending review imponeva una riduzione dell'affitto di pari di circa il 15% per circa 55.000 euro all'anno mi sembra di vado memoria e naturalmente nella risposta alla mia interrogazione il sindaco mi diceva che verrà sicuramente applicata perché noi applichiamo la legge ora quando fu come ha detto poco fa il collega Pareschi deliberata di accantonare una parte dell'avanzo di bilancio per l'acquisizione di una parte dell'immobile di Corporeno o di un immobile ad uso scuola a Corporeno adesso non ricordo bene se era ripeto una parte dell'immobile in legno o una parte aggiuntiva si disse che questo avrebbe poi consentito di ridurre ovviamente il canone anno perché chiaramente comprando un prezzo di immobile riduco la quantità che ho in affitto quindi chiaramente posso ridurre l'affitto anno e peraltro il parere dell'ingegnere Piacquadio qui presente in sala stasera è proprio questo che ci dice e cioè la spending review ci induce un obbligo di riduzione dei costi di affitto e per questo l'acquisto di questa scuola di questa parte di questa porzione di scuola ci consente di rispettare l'obbligo della spending review perché riduciamo di conseguenza l'affitto in quanto una parte dell'immobile lo compariamo quindi di conseguenza non affittiamo più tutto il complesso ma solo una parte perciò sembrerebbe tutto logico io invece sottopongo al consiglio questa riflessione sembra quasi che per ottemperare l'obbligo di spending review quindi di riduzione dell'affitto annuo di 737.000 euro noi comperiamo dalla centro Emilia Terremoto 2012 SRL una parte di quell'immobile senza ovviamente fare debiti nuovi ma utilizzando una parte dell'avanza di bilancio quindi sempre soldi pubblici sono così facendo noi riusciamo a ridurre l'affitto senza ricorrere a particolari interpretazioni normative della spending review che invece sembra essere a tappeto obbligata ad applicarle per tutti gli affitti dei comuni quindi io compro una parte dell'immobile e quindi in questo modo riduco il valore della parte in affitto di conseguenza posso calare l'affitto dell'immobile e quindi ottempero sia all'obbligo della spending review che al fatto che naturalmente ho già cominciato a comprare un pezzo di immobile prima della scadenza dei nove anni di contratto stipulati in dicembre del 2012 per l'affitto di quella scuola che ricordo essere 728.000 euro iniziali annui per nove anni fa 6.552.000 euro più la differenza eventuale di acquisto fra e vado a memoria mi correggerà il sindaco se mi sbaglio o il tecnico se ho qualche imperfezione più la differenza che deve essere almeno il 30% fra il valore versato e il valore stimato dall'agenzia del demagno all'inizio quindi quella scuola secondo i calcoli fatti così potrebbe costare circa 9 milioni finita nel corso dei nove anni oggi anticipiamo 700.000 euro e io mi chiedo e quindi il mio voto sarà contrario per questi motivi è il caso di farlo oggi è giustificata un'operazione del genere pur se nella pianta come ha detto il sindaco nella dotazione di diritto ormai nella frazione che è diventata popolosa pluriabitata con problemi di traffico che ormai la stampa riporta tutti i giorni i media tutti i giorni si lamentano il responsabile altoferrarese della Lega anche oggi sui giornali riporta della problematica relativa a questo semaforo messo in modo secondo i cittadini di Corporeno non adeguato secondo lui vabbè io adesso ripeto rappresentativa la Lega ma non è già lei si no ho capito però io leggo quello che io ho visto però che la coda alla mattina di gente che si ferma lì è abbastanza è chiaro che il problema è per un quarto d'ora 20 minuti alle 8 e per un quarto d'ora 20 minuti all'una però insomma sì però insomma il problema il problema c'è e non voglio ritornare su quel famoso consiglio del 9 agosto 2012 quando applicammo la delibera 83-84 col mio voto di astensione e il presidente del consiglio mi concesse 37 minuti di intervento in cui svisserai allora tutti i problemi che oggi vediamo i problemi di traffico i problemi di spostamento i problemi di possibilità poi la scuola è stata realizzata opera bella in legno tutto quanto costerà 6 milioni e mezzo più l'opzione di acquisto tutto bene io però credo che sia tutta un'operazione anche oggi rileggendola a due anni e mezzo di distanza compreso questo acquisto sia tutta un'operazione che si porta a patrimonio dell'ente e qui andiamo contro corrente ancora una volta andiamo a comprare un immobile con tutti le cautele del caso con tutti i pareri del caso adesso ovviamente qui i sindaci e i revisori hanno un parere anche in questo caso che è abbastanza insomma il collegio invita l'amministrazione a definire in modo compiuto la gestione contratuale della scuola di Corporeno e relativi sviluppi programmatori questa è la parere di proposta 196 del 2312 quindi quella di oggi quindi i sindaci e i revisori manifestano un certo dubbio pure loro il mio non è un dubbio il mio ormai è una certezza perciò il mio voto stasera al contrario di quello del 9 agosto 2012 che fu di astensione sarà un voto contrario ma non perché non perché abbia diciamo così dei dubbi sulla giro finanziario dell'operazione il giro finanziario dell'operazione è evidente è per evitare di non andare in lite col proprietario dell'immobile che ha stabilito un contratto che oggi gli viene modificato per legge dalla spending review e quindi non è né colpo del sindaco né del contraente il quale però dice io con quel contratto non posso sostenere l'onere io dico eventuale probabilmente certo di un'operazione di indebitamento perché il bilancio di quella società è pubblico si può reperire chiunque lo può vedere e quindi dobbiamo trovare una soluzione e la soluzione qual è? Il signor sindaco il consiglio comunale la maggioranza dice bene ti compro un pezzo dell'immobile così alla fine tu riduci il tuo debito la tua rata di mutuo vado per ragionamento logico la tua rata di mutuo probabilmente calerà e quindi potrai fare lo stesso quello che avevi deciso di fare cioè mantenere in piedi la società questo è quello che mi sembra piuttosto questa costruzione di oggi premesso i dubbi che il decentramento di questa scuola nei pressi a Corporeno creandosi un complesso nuovo moderno la palestra tutto quanto crea una serie di indotti che al momento mi sembra che bilancino gli aspetti positivi e quindi gli aspetti negativi bilancino gli aspetti positivi però ripeto tirerò delle somme solo quando avremo qualche anno ancora più di studio su queste cose perché ricordo tutti e finisco signor Presidente non vorrei essere fuori tempo che quando fu costruita la Torre Eiffel alla fine dell'Ottocento fu costruita e sembrava fosse una cosa per dimostrare la famosa Expo 2000 come fosse l'Expo 2015 di allora tant'è vero che i più come posso dire avveduti dal punto di vista culturale la volevano abbattere oggi in realtà sappiamo tutti che il monumento più visitato al mondo è la Torre Eiffel non è il caso della scuola di Corporeno e quindi non voglio tirare oggi le somme anticipatamente per quella scuola è vero però però mi sembra che quella costruzione sia stata più che altro una come posso dire una e questo acquisto quindi anticipato sia stata più che altro una una formula sperimentale per la quale credo che pagheremo dei costi non modesti bene grazie capogruppo Mattarelli consigliere Conti prego lei la parola adesso le passano il microfono addirittura addirittura l'ingegnere Piacquadillo non è colpa del terremoto però ci organizzeremo meglio pronto bene buonasera a tutti grazie per la parola volevo solo dire una cosa riguardo lo stabile è chiaro che ci accingiamo a comprare quello appena costruito quello di fianco è lì da dieci anni ed è un privato quindi non penso che sia l'oggetto del nostro acquisto però mi sembrava abbastanza evidente la cosa comunque poi volevo dire due parole anche sulla strada visto che la utilizzo giornalmente io devo dire che il momento in cui io riesco a passare meglio dalla mia abitazione è quando ci sono o i vigili o il semaforo perché mi fanno passare quando non c'è vigile e semaforo non riesco a passare ma dovuto a un traffico già antecedente quindi non è il problema della scuola anche perché il problema della scuola riguarda solo un determinato periodo cioè stiamo parlando di mezz'ora è chiaro che c'è qualcuno che sta cavalcando questa situazione perché è evidente che c'è qualcuno che dice ok un malcontento di qualcuno che deve andare a lavorare a 100 che ci metterà forse 5-10 minuti in più cerca di cavalcarlo però in realtà vi garantisco che la situazione sicuramente in certi momenti è critica ma lo era anche precedentemente e noi sappiamo che questa amministrazione sta già lavorando per fare una strada nuova che migliorerà la situazione anche quella antecedente noi abbiamo lì un quartiere che siamo quartiere della strada Ferrari che avevano questo problema ma prima della scuola ma prima noi quando faremo la strada nuova e sono convinto che arriveremo in tempi abbastanza brevi diremo via un problema che c'era già da prima però rimarrà una cosa molto importante una scuola nuova di 600 bambini nuova antisismica e soprattutto con i canoni i migliori canoni che ci sono attualmente esistenti quindi io dico e io direi questo come sia come rappresentante del consiglio come consigliere sia anche come rappresentante del territorio visto che vengo da Corporeno noi credo anche di rappresentare l'opinione di tutti i consiglieri della maggioranza siamo molto contenti del fatto che finalmente si compra un pezzo di questa scuola che è un atto di coerenza cioè noi l'abbiamo dichiarato da subito che il nostro intento è quello di comprare quella scuola quindi attualmente ci sono accantonati ci ha accantonato la possibilità di poter acquistare una parte di queste scuole noi lo facciamo quindi è semplicemente un atto di coerenza capisco che la coerenza non è una cosa che va molto di moda però voglio dire l'abbiamo dichiarato in tempi non sospetti stiamo andando avanti per questa strada ma io direi che chiaramente io penso già di dire che noi siamo favorevoli ovviamente a questo acquisto buonasera grazie consigliere Conti chiarissimo ed efficace quindi signor sindaco prego sì io mi sono segnato spero tutto quello che mi dimentico come lo ricorderete parto dal capogruppo Pareschi lui chiede i 700 mila euro li avevate destinati allora sulla base del risultato di ESPRO di oggi siamo bravi però lo spazio tempo non riusciamo ancora a attraversarlo no li avevamo indicati sulla base di una valutazione fatta al nostro ufficio tecnico e anche adesso ce lo possiamo anche dire sulla base di quello che riuscivamo effettivamente a stanziare rispetto alla destinazione dell'avanzo il risultato ci dà ragione nel senso che la valutazione è coerente con la cifra che avevamo stanziato allora e quindi a volte esiste anche il destino che ti dà una mano ma nel complesso l'operazione risulta coerente con quello che avevamo stanziato allora le due domande che invece lei fa capogruppo Pareschi sono tutte e due molto azzeccate cioè lei dice perché oggi comprare questa scuola e non fra nove anni o fra diciotto e perché ora cioè prima della fine dell'anno e non fra dieci giorni ci sono due motivazioni che sono legate a come funziona il sistema paese io ci sono più affezionato forse del capogruppo Mattarelli e non lo chiamo sventurato però è sicuramente un paese che sta trovando una sua una sua dimensione dal punto di vista normativo allora oggi cioè in questo momento fisico nel 2014 agli enti locali è consentito acquisire immobili così non era nel 2013 cosa sarà nel 2015 lo scopriremo vivendo e quindi in questo momento è possibile acquisire immobili a patrimonio pubblico quello che fino a qualche anno fa era normale no? cioè il comune ha l'obbligo di rispondere a esigenze di spazi per il mondo scolastico ha obbligo di rispondere a esigenze di spazi per la propria dotazione di personale per erogare servizi al cittadino ha obbligo di dare spazi per l'associazionismo se questi spazi non li ha li compra o li prende in locazione è stato così diciamo dall'unità d'Italia al 2012 a un certo punto si è detto no non si può né acquistare né prendere in locazione spazi perché la situazione congiunturale del paese è tale che dobbiamo fare tutti i sacrifici questo cosa ha comportato e l'avete sentito dire a qualunque sindaco virtuoso o che si ritiene tale non lui la sua comunità d'Italia che chi aveva sprecato in passato aveva del margine chi non aveva sprecato in passato non aveva margine il nostro è un comune che ha sempre avuto una dotazione di patrimonio men che dimensionata o comunque al massimo giustamente dimensionata rispetto alle nostre dimensioni nel settore scolastico invece avevamo un ritardo dal punto di vista delle dimensioni e della qualità edificatoria importante perché avevamo molti edifici in locazione molti edifici in locazione da parrocchie o da enti quindi edifici intrinsecamente caratterizzati o da vetustà perché edifici molto risalenti o da livello manutentivo intermedio diciamo non voglio dire proprio quello che penso cioè medio basso dico intermedio e quindi un comune sciupone poteva avere sedi faraoniche palazzi palazzine in abbondanza può tranquillamente reggere al blocco degli acquisti il nostro è un comune che non avendo sciupato in passato e in altri ambiti non avendo programmato e pianificato in passato in ambito scolastico non è parsimonia è scarsa capacità di visione quella che stiamo pagando adesso perché si ricavavano sezioni di scuola dentro a case private dentro a estazioni dei carabinieri dentro con cortili nei cortili di abitazioni private in comunione penso alla materna di via Vittorio Veneto materne al terzo piano dell'oratorio della chiesa di San Pietro soluzioni che van bene come attualmente abbiamo ancora sezioni ospitate nella foresteria di un albergo cioè noi ci siamo abituati ma sono certo che se uno che viene da un'altra città dell'Emilia Romagna e sente che noi abbiamo sezioni di materna nella foresteria di un albergo pensa che abbiamo avuto il terremoto ma erano lì anche il giorno del terremoto cioè era una soluzione antecedente quindi avevamo un ritardo dal punto di vista quantitativo e qualitativo di immobili di edilizia scolastica stratificato risalente oggi inteso come in questa fase storica cioè con le normative oggi vigenti è possibile acquistare e questa è la domanda perché adesso la domanda è perché ora perché ora acquistiamo nel 2014 con una prima tranche di pagamento nel 2015 con la seconda tranche quindi massimizziamo l'opportunità dal punto di vista degli equilibri di patto cioè spalmiamo la cifra su due esercizi la dico un po' così e gestiamo gli spazi di patto al meglio l'avremmo fatto anche se non avessimo utilizzato questa attività prima e dopo alla fine dell'anno certo che sì però nell'altro caso avremmo dovuto impegnare una cifra importante dal punto di vista degli spazi di patto su un'unica operazione in questo modo possiamo smizzare questo tipo di calcolo me l'avete sentito dire mille volte comprare una scuola realizzare un'opera pubblica è il meno la cosa difficile è pagarla e nel pagarla avere i soldi è il meno la cosa difficile è poterli spendere e quindi in qualche misura sfruttiamo posto che abbiamo deciso in tempi non sospetti di farlo posto che la volontà programmatoria dell'amministrazione è chiara posto che si sta andando in quella direzione posto che Corporeno è sempre lì posto che i bambini li continueranno a fare quella scuola serve lo vogliamo fare quindi la motivazione per cui la compriamo è perché abbiamo spazi di patto no la motivazione per cui la compriamo è perché vogliamo avere in proprietà una scuola a Corporeno perché vogliamo ridurre il costo degli affitti perché vogliamo se le cose ci piacciono che siano pubbliche se pensiamo che servano per finalità pubblica perché lo facciamo in questo momento perché già che facciamo la cosa giusta cerchiamo di farlo nel momento in cui sfruttiamo al meglio gli spazi finanziari che abbiamo queste erano le cose che avevo segnato per quanto la riguardano sul capogruppo Mattarelli tutta l'elucubrazione sul fatto che compriamo per applicare la spending e dunque non ridurre il canone è fantascienza noi applichiamo la spending no segua le parole rispettare la spending vuol dire tendere a una progressiva riduzione e a un progressivo efficientamento del bilancio pubblico quindi ridurre il titolo relativo alla spesa corrente è rispettare la spending applicare il taglio del 15% previsto dalla normativa è rispettare la legge ed è stato fatto se funziona se è dovuto o no è ancora oggetto di verifica perché le obiezioni che sono state poste sono fondate ma in generale proprio la norma è discutibile perché a mio modo di vedere mina il rapporto fiduciario tra il privato e lo Stato cioè se lo Stato fa un contratto con il capogruppo Mattarelli lo uso come esempio e poi non lo rispetta unilateralmente ne modifica una contenuta essenziale come il corrispettivo la seconda volta forse il capogruppo Mattarelli il contratto con lo Stato non lo firma più perché dice se cambiate il prezzo da soli l'ha fatto anche in molti altri casi va bene al di là della sua valutazione e del suo senso dello Stato il punto di forza dunque è noi contiamo di ridurre il canone di una cifra indicativa al valore percentuale della quantità di acquisto rispetto al complessivo valore dell'immobile quindi in una forbice che si aggira attorno all'8% del valore complessivo perché questo è il rapporto di proporzione ovvio che sarà valutato in maniera un po' più compiuta esattamente l'importo della riduzione del canone sul qual è la cosa la scuola che compriamo le ha risposto il consigliere Conti ha detto una cosa prima e non l'ho capita davvero adesso invece l'ho capita adesso ok quindi quello che l'ho detto prima a maggior ragione provo a spiegarglielo ancora perché c'è proprio una confusione tra due espressioni che si riconducono comunque alla galassia spending cioè quando l'ingegnere dice che dobbiamo ridurre e rispettare gli obiettivi della spending review relativamente alla spesa corrente e fa l'esempio di fazzoni gallerani e di corporeno chiarisce inequivocabilmente quello che cercavo di dirle io cioè ci sono due norme la prima dice comune cerca di ridurre tutte le spese non incomprimibili per spese incomprimibili si intende quella da cui veramente non puoi prescindere tutte le altre cerca di ridurle questo è un obiettivo di spending review sulla spesa corrente le nostre due locazioni più significative sono le due che citavo poi c'è un'altra norma del 2013 faccio un cenno se è 13 13 che dice ridurre sui contratti locativi in essere ad oggi ridurre del 15% tutti il tema di Corporeno si pone perché Corporeno è stato preso in locazione dopo l'entrata in vigore di questa seconda norma che solo successivamente è stata estesa anche agli edifici in proprietà degli enti locali presi in locazione dagli enti locali quindi c'è un dubbio interpretativo su qual è ad oggi da cui si deve decidere se applicare o meno il canon il taglio spero di averlo spiegato quindi sono due meccanismi paralleli che si riconducono sotto l'ombrello di spending review in ogni caso la scelta di acquistare questo immobile è per dotare la frazione di Corporeno in via definitiva e stabile della materna statale che sta a qualche decina di metri dalla materna privata che è l'edificio con cui Mattarelli faceva confusione bene primo giro se c'è prego capogruppo Magania prego grazie presidente sindaco lei si dimentica sempre di dare risposte alle mie domande me lo dica che le sto antipatico e non le faccio più ho chiesto solo di quanto si abbassa l'affitto una mi ha fatto e manco mi ha risposto io ho chiesto di quanto si abbassa lei mi ha detto percentualmente ma mi lo dica anche i soldoni io non ho la calcolatrice poi dopo voglio rispondere anche al consigliere Conti io non credo adesso io l'articolo l'ho letto non mi sembra che stia cavalcando niente il segretario alto per la resi della lega con quell'articolo ha evidenziato una problematica che c'è sulla statale oltre a altre problematiche di Corporeno poi lui avendo un negozio sulla statale si vede la fila fino lì quindi si intuisce che è abbastanza lunga lei invece probabilmente la vede solo nel momento della traversa per andare a lavorare poi ha voluto evidenziare quella famosa strada che dovete fare due anni che lo dite due anni che ancora li ferma in passato mi sembra qualche mese fa chi aveva donato il supermercato aveva donato quella cifra per la strada anche andato sulla stampa lamentandosi del fatto che non era ancora stata realizzata mi è stato detto perché ci sono problemi di esproprio però io ho sempre saputo che esiste che per l'interesse pubblico si può espropriare penso che una strada del genere l'interesse pubblico ci sia in più lei mi dice che c'era quel problema già prima quindi ancora più grave sapendo che il problema c'era prima prima si doveva fare la strada sapendo che c'era questa problematica invece si è voluto intesare ulteriormente quella zona e quindi siamo arrivati a questo punto capisco che la scuola aveva giustamente una priorità e quant'altro però allora fatene un altro posto se già c'è un problema di traffico e quant'altro e questo è quanto grazie capogruppo Magagno ancora il secondo foglio del revisione era solo per chiarire un attimo un attimo un attimo solo capogruppo Mattarelli ho dato la parola adesso prego capogruppo Mattarelli io mi attengo alle disposizioni era solo per dire per evidenziare che i 570.900 euro più IVA che andremo a pagare per quella porzione di immobile per i 427 metri quadri che mi sembra di aver letto valga quella scuola vengono 1.337 euro al metro quadro che per quello che riguarda un immobile ci sarà la valutazione dell'agenzia e tutto quello che tutti i parametri di congruità pubblici possibili immaginabili che però considerato oggi la crisi immobiliare che c'è e la situazione di mercato che troviamo 1.337 euro al metro più IVA quindi più 21% quindi sono un prezzo che oggi ci sono parecchie aziende che sarebbero disposte a lavorare a fare qualcosa di nuovo anche oggi a distanza di due anni dall'inizio di quella scuola pur essendoci un stato un incremento dei prefi in particolare di alcune materie ma un calo di altre materie prime quindi non la stiamo pagando anche se sarà fatta la congruità del demagno o di tutti gli enti preposti alle verifiche non la stiamo pagando comunque in saldo ecco soprattutto secondo luogo per quello che riguarda le definizioni del sindaco che è fantasienza sarà però io leggo che leggo che il il parere dell'ingegnere l'ingegnere Piacquadio fa un chiaro riferimento al fatto che comprando una parte dell'immobile diminuiamo il canone d'affitto della scuola quindi sembra quasi un collegamento logico al fatto che riduciamo il canone d'affitto è chiaro comprandone un pezzo è chiaro che paghiamo meno d'affitto ma questo è evidente ma è altrettanto evidente che sembra quasi che il diciamo così il driver di tutta l'operazione non sia il comune che ha l'esigenza di acquisire quella scuola ormai per obbligo contrattuale anzi per facoltà contrattuale perché l'obbligo di acquisto non c'è è una facoltà di acquisto che abbiamo solo alla fine però sembra quasi che il driver di tutta l'operazione non sia il comune ma sia il privato e mi fermo a questa considerazione che rimane nella mia testa nonostante le vostre continue e ulteriori e ridondanti e ripetitive motivazioni di supporto a questa operazione grazie capogruppo altorelli consigliere capogruppo pareschi prego grazie presidente io volevo solo fare una considerazione oggi la scuola c'è nata per fronteggiare un'emergenza terremoto è stata fatta in fretta i bimbi sono tornati a scuola in fretta e quindi bene tutto bene io però non capisco ancora nonostante le situazioni del sindaco anche se lo intuisco perché già dal secondo anno dobbiamo opzionare il diritto di acquisto quando abbiamo delle scuole a cento e parlo di pascoli e rodari che sono in attesa di essere riparate e probabilmente costerebbe anche meno visto che c'è il contributo quando dico che intuisco il motivo è perché guardando il successivo punto che è il piano organico e riferendomi anche a quello che ho detto prima che secondo me voleva discusso prima ho visto che le pascoli vengono di intolta la destinazione scolastica non capisco bene se del 90% o del 50% mentre per le rodari viene completamente cancellato ora io credo che questo sia un passo politico importante che lascerà la città di Cento senza i necessari servizi scolastici con tutte le conseguenze che ne deriva anticipo anche il mio voto che sarà contrario bene finito gli interventi consigliere Conti Roberto prego la parola sono una precisazione riguardo quello che ha detto Magagna io voglio ricordare una cosa che noi facciamo parte di uno stato di diritto quindi tutti sappiamo perfettamente che quando si tratta col privato un pubblico non può fare quello che vuole ma deve procedere con essensi di legge noi abbiamo avuto un terremoto il 29 di maggio e i bambini sono andati a scuola dopo 4 mesi e mi ha fatto la scuola quindi ci si è concentrati sulla scuola pensando anche di fare la strada punto i tempi sono allungati perché evidentemente il privato non ha ritenuto opportuno andare avanti con le trattative questo però non escludi il fatto che abbiamo risolto il problema vero che è quello di mettere a scuola dei bambini e non mettere sotto una tenda io ho fiducia nel fatto che si verrà fatta la strada in breve tempo se non è stata fatta in breve tempo perché ci sono state delle problematiche oggettive dove non ci sono state problematiche siamo arrivati fino in fondo e abbiamo fatto la scuola quindi credo che si sono questioni di tempo grazie consigliere Conti capogruppo Corvini prego grazie per si due parole per anticipare il nostro voto contrario il voto contrario di Forza Italia e motivandolo in maniera anche molto semplice e forse anche un po' semplicistica semplicemente perché questo è un consenso politico che il sindaco e il consiglio comunale fanno delle scelte politiche e io richiamandomi all'intervento del consigliere Pareschi io ribadisco anche alla luce anche alla luce delle polemiche che sono sorti negli ultimi tempi ribadisco che secondo me era opportuno fare scelte politiche diverse era forse opportuno fare la scelta politica di ristrutturare le scuole pascoli di mantenere un flesso scolastico a 100 e valorizzare maggiormente quello che già esisteva su 100 sempre che ovviamente il costo e pare che lo fosse fosse più basso del costo sostenuto per fare una scuola corporena quindi per annuncio il nostro voto contrario motivandolo sul fatto che ovviamente non è a nostro avviso condivisibile la scelta di portare per una scuola corporena quando si poteva aggiustare tra virgolette la scuola di 100 le scuole pascoli e le scuole rodenti grazie consigliere Massimo Mattioli prego lei la parola per dichiarazione di voto sì perché vorrei come dire con un esempio magari rispondere sia al consigliere Magagna che al consigliere Pareschi sulle loro perplessità e anche quelle del consigliere Corvini io abito a Casumaro vado a lavorare a Ferrara parto le 6 e mezza del mattino arrivo a lavorare verso le 7 sempre tra le 7 e 10 e le 7 e un quarto faccio la media dei 32 all'ora io credo che qualcuno che abita corporeno se per un anno ha un semaforo credo che non sia la fine del mondo credo che come diceva anche Conti questo possa solo come dire migliorare anche per certe situazioni la viabilità se ho letto la lettera di uno che abita a Ferrara che viene a lavorare a 100 e si lamentava perché deve partire un quarto d'ora prima a causa del semaforo e sarà una cosa temporanea lo sappiamo io sono anni e ci dovrò andare ancora per degli anni ne trovo 50 dei semafori andare a lavorare cosa dovrei fare cosa dovremmo dire e lo stesso discorso mi sembra quello di sia di Preschi che del consigliere Corvini il fatto della scuola di corporeno ora dire che non ci sono scuole a 100 mi sembra un'assurdità ne abbiamo appena inaugurata una nuova pensale meno che non si ritenga pensale non 100 pensale non è 100 le Carducci le sono appena state ristrutturate è stata fatta una scuola come dire con tutti i crismi della sicurezza che prima non c'era ovviamente e non è una scuola di 100 io credo che sempre tornando all'esempio di Ferrara ci sarebbero tante persone che abitano a Ferrara e dovessero portare il loro figlio a 2 km di distanza da casa quello che è da 100 a Corporeno che sarebbero contenti tutti i giorni ci metterebbero 5 minuti ci si mette ad andare a Corporeno ci si mette 5 minuti se vanno poi per la pista ciclabile forse anche prima io quando ho dei parenti a Ferrara per portare i loro figli a scuola ci mettono mezz'ora 35 minuti perché devono attraversare la città cosa dovrebbero fare cosa dobbiamo fare dobbiamo portare le città per venire ad abitare a 100 perché così apriamo le pascole ho premesso che non so quale sarà il futuro delle pascole perché qua si si dà per certo che le scuole pascoli saranno chiuse cosa che nessuno lo sa perché se non lo so io credo che non lo saprete neanche voi quale sarà la fine delle pascole quindi è inutile che diciate che le pascole sono chiuse saranno chiuse definitivamente quindi mi sembra una polemica più che altro strumentale grazie grazie a lei consigliere Mattioli quindi parola signor sindaco poi mettiamo in votazione prego sì purtroppo devo fare un secondo intervento perché perché non mi rassegno al fatto di parlare per niente quando parlo in questa assemblea comunale anche se le stesse cose ci avrò già detto solo qui dentro 30 volte e tutte le volte facciamo finta perché adesso vi dico poi le cose davvero come stanno di non saperlo e facciamo finta di fare delle domande quando in realtà non sono domande poi io capisco che si fa la politica anche così forse qualcuno la fa anche così io dico che l'Italia ha avuto tanti problemi perché c'era troppa gente che la politica la faceva così faceva la domanda facendo finta di non sapere la risposta faceva finta di non capire come funziona un bilancio faceva finta di non capire come funziona un comune allora se uno la dico davvero capisco che dico una cosa un po' dura se uno non sa davvero come funziona un bilancio come funziona un comune glielo si spiega in modo che lo capisca e possa dare un contributo se no davvero non ha mica senso quando uno mi dice anziché prendere in affitto una scuola si poteva ristrutturarne un'altra anziché l'ha detto lei capogruppo Pareschi un secondo fa con i 700 mila euro potevate riparare le pascoli che costa 3 milioni e 8 e non c'è mica da ridere perché quando si parla ci sono due modi o si parla seriamente o si sta scherzando in consiglio comunale si deve parlare seriamente prendiamo un esempio concreto che ho già fatto in consiglio comunale almeno tre volte la vicina San Giovanni in Persiceto una sola scuola danneggiata dal terremoto di dimensioni un po' più ridotte rispetto alla nostra hanno fatto la scelta hanno fatto la scelta di ripararla con i soldi alla ricostruzione il cantiere è partito da poco si concluderà probabilmente entro il 2015 e forse nell'anno scolastico 2015-2016 i bambini rientreranno a scuola fino ad allora ci sono 600 alunni circa in dei moduli prefabbricati è una scelta è una scelta noi abbiamo fatto la scelta di recuperare l'edificio Pascoli dal primo giorno eravamo ancora nella fase più calda del terremoto e questa amministrazione comunale per bocca del sindaco di Centro diceva le Pascoli saranno recuperate e io sono anche un po' stufo di sentir dire che abbiamo abbandonato le Pascoli che le Pascoli sono abbandonate chi ha mai abbandonato le Pascoli dedico 2-4 ore a settimana a lavorare sul recupero delle Pascoli e assieme a me la struttura tecnica di questo comune dopodiché e lo dico al geometra che è in lei capogruppo gli interventi sono complicati io capisco che qualcuno per logica politica dice con la mano di bianco le ripristiniamo però se ci mettiamo i nostri figli dentro un edificio scolastico lasciamola fuori la politica facciamo le cose che vanno fatte mettiamo quelle scuole nella condizione di sicurezza che vorremmo ciascuno di noi avessero prima di mandarci i nostri figli non si fa politica così non si fa politica così perché se firma lei geometra pareschi di riaprire le scuole io mi prendo la fine dell'anno per pulire e dopo il 7 gennaio la apriamo però firma lei che se muore qualcuno è il geometra pareschi che dice che le scuole sono buone è il capogruppo mattarelli che porta dentro la sua commissione di tecnici che dice che con 300 mila euro quelle scuole diventano perfette se firmate voi l'8 gennaio apriamo ok però voglio vederla dormire la notte e so che non dormirebbe perché non si fanno scherzi non si fa politica sulla sicurezza non si fa questa politica da bar sulla sicurezza le scuole pascole saranno recuperate nei modi e nei tempi in cui ciò è possibile il più rapidamente possibile è un edificio che ha una delicatezza dal punto di vista strutturale è un edificio su cui stiamo dedicando ore per cercare di capire cosa è capitato e cosa dobbiamo ancora fare su quell'edificio abbiamo già assegnato un incarico di progettazione preliminare per avere una valutazione compiuta dei danni non siamo mica fermi ci stiamo lavorando allora siamo sicuri che mentre noi ci stiamo lavorando tenere 600-700 bambini dentro dei moduli sarebbe stata la soluzione auspicata era la sua capogruppo Pareschi era la sua capogruppo Mattarelli capogruppo Magagna d'accordo anche lei li mettiamo tutti nei moduli finché non siamo pronti io dico che abbiamo messo 700 bambini in una scuola splendida che non è neanche nostra perché è in affitto e entro nove anni se avremmo sostituito l'edificio scolastico l'esigenza di edificio scolastico oggi coperta e concorporano con un altro edificio scolastico avremmo chiuso l'operazione perché non ci vuole mica molto meno a sistemare una scuola a fare un intervento come deve essere fatto ci vogliono degli anni e lo dimostrano quello che succede da queste parti attorno ma leggete i giornali io dico leggete i giornali sul terremoto dove avete visto che una scuola con un livello di danni da 4 milioni è stata riparata in due anni ma dove l'avete letto io non ne ho letto neanche una di queste situazioni e allora io dico smettiamola di dire alla gente delle cose che sono irricevibili per le orecchie di chi le sa a meno che non sia una persona che non conosce l'oggetto di cui parla e non è il caso di un geometra che sa perfettamente quanto dura un cantiere di quella delicatezza e complessità allora me lo dica lei li rimetto nei moduli finché non abbiamo finito le pascoli a dove li metto a casa sua a un salotto grande dove li metto no non so se le do ma sarà il presidente a decidere chi parla o no io quello che le dico è che questa discussione l'abbiamo già fatta 200 volte e ancora continuo a raccontare le stesse sciocchezze che con 4 mani di vernice le pascoli le riapriamo ah no ha detto con gli stessi soldi ha detto con gli stessi soldi allora se lei la ripara con 700 mila euro e le faccio un contratto quadro lo firmo adesso e dopo riscolteremo cosa ha detto quello che voglio dire con chiarezza è che noi abbiamo costruito la scuola nell'unico posto in cui la programmazione scolastica pre-approvata da questo consiglio comunale consentiva di costruire una scuola nuova cioè a Corporeno abbiamo dotato il nostro territorio di un edificio splendido dove 700 bambini vanno a scuola tutte le mattine in assoluta sicurezza e salubrità e l'abbiamo fatto in 78 giorni quando sarà finita avremo speso meno di quello che avremmo speso anche se la riscattassimo facendo un mutuo in ogni caso avremo una dotazione di edifici pubblici di cui in questo comune abbiamo un bisogno sacro santo sarà scuola la nuova scuola di Corporeno per sempre lo deciderà che ci sarà ma comunque sia sarà un edificio pubblico se la riscatteremo e di edifici pubblici ne avremo sempre bisogno ve lo dicevo prima siamo scarsi di edifici pubblici viviamo tutti a cento sappiamo che non ci sono spazi pubblici in questa città allora perché continuiamo a dire che la scelta programmatoria di questa amministrazione è di superare le pascoli chi l'ha mai detto abbiamo lasciato lì il contributo la scelta programmatoria di questa amministrazione è di superare le rodari si si era una vergogna che le rodari fossero una scuola di questa città lo era prima del terremoto non si fa una scuola con una sezione non si fa a meno che non sia un comune di 2000 abitanti semplicemente non si fa non è buona politica programmatoria chi ha fatto quella scelta ha buttato il denaro pubblico di una ristrutturazione antieconomica e inefficiente non si fanno scuole di una sezione lo vado a dire al dirigente scolastico che deve tenere due bidelli al servizio di una sezione di scuola le è capitato di stare in una scuola recentemente ha visto che stanno sparendo i bidelli si è accorto che il personale non docente è sempre più centellinato allora programmare vuol dire ragionare in prospettiva il capogruppo Magagna che stava in un'amministrazione che aveva scritto nel PSC che 100 sarebbe diventato di 56.000 abitanti nei prossimi 10 anni lui non ha votato ma non mi risulta che abbia fatto cadere l'allora governo beh è un po' tardino detto questo concludo sto arrivando a conclusioni detto questo chiariamoci diventiamo 56.000 abitanti o no? avremo bisogno di edifici pubblici o no? cioè non facciamo davvero politica su sta roba qui perché perdiamo del tempo perché la scelta è già stata fatta è una scelta irreversibile dal punto di vista della materna la materna è la materna statale di Corporeno la teniamo a Corporeno quella perché sarebbe complicato mettere la materna di Corporeno alle Pascoli ed è per quello che compriamo quel pezzo non mi ha mica visto comprare la terza B stiamo comprando la materna statale di Corporeno dove la compriamo quella? a Corporeno a me sembra coerente io ci vedo un filo logico nel frattempo stiamo recuperando le Pascoli sì stiamo recuperando le Pascoli saranno tutte a scuola le parleremo dopo forse no in questa fase ma perché nel frattempo e lo diceva bene chi ha parlato prima abbiamo rinnovato completamente le Guercino rimodernato completamente le Carducci messi in sicurezza tutte le scuole con i certificati di prevenzione incendi non ce n'era uno quando mi sono insediato non avevamo un solo edificio scolastico con un solo certificato di prevenzione incendi in questa città era situazione da Angola abbiamo recuperato quel ritardo nonostante il terremoto nonostante due anni in cui ci siamo occupati di macerie allora sulla scuola io posso questa amministrazione può essere criticata su qualsiasi cosa ma sull'edilizia scolastica no abbiamo recuperato in tre anni trent'anni di dormite e allora ci vuole io capisco che uno sta nei banchi dell'opposizione e deve fare opposizione ma non è mica questa la logica date un parere date un consiglio ma non continuate a dire dei numeri finti o delle robe che sapete anche voi che non sono vere perché quando si va fuori si dice che con quattro mani di vernice le pascoli tornano nuove si dice una sciocchezza è lei che fa questo mestiere si prende il progetto preliminare se non l'ha già avuto se lo guardi e capirà voce per voce spesa per spesa come piace a capogruppo magagna dove vanno quei 3 milioni e 6 3 milioni e 7 per risistemare quella scuola in modo da poterci mettere i suoi figli o i suoi nipoti con la serenità di mandarli in un posto sicuro oltre che bello perché è questo che serve a questa città no continuare a ripetere a macchina bo 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 le stesse cose oramai da tre anni con sempre meno motivazioni perché anche la teoria che lasceremo un debito oggi ne compriamo un primo pezzo quindi il debito è sempre più piccolo però sempre cose continuo a ridire stanno nella categoria della fenoftaleina nella categoria delle sciocchezze da bar se mi promette due minuti glieli concedo altrimenti diventa polemica e non voglio che questo le concedo due minuti prego grazie presidente di questa no io non parlerò non voglio neanche rispondere al sindaco io voglio solo dire di non avere mai detto che con una mano di bianco le scuole sono agibili un'altra volta tutt'altro io proprio non ho detto niente in merito a questo e sono convinto ho visto anche una perizia fatta dal professor Diotto Levi ho visto cosa serviva per fare penso che quello sia la cosa io ho solo detto che c'è stata una scelta dell'amministrazione che è stata non ho detto che neanche che è stata sbagliata io ho detto che questa scelta ha permesso a tutti i bimbi in tempo rapidissimo di tornare a scuola e io non ho detto che devono tornare in contenimento chissà dove io ho detto solo questo mi dispiace che lei dica che i miei interventi non sono propositivi e sono polemiche da bar assolutamente se io dico che le scuole pascoli sono un attimo lasciate indietro e sono state messe lo dico sulla base di quello che ho letto nel piano organico che guarderemo dopo però lasciamo stare io volevo solo dirle che non scherzo in questo consiglio comunale assolutamente non faccio polemica assolutamente e non credo e non la farò mai grazie capogruppo Pareschi siamo arrivati alla conclusione mettiamo in votazione il punto numero 5 è l'ordine del giorno acquisto porzione di immobile scuola dell'infanzia del plesso scolastico corporeale identificato catastrofabbricato del comunicento foglio 40 mappalle 996 sub 9 determinazione chi è favorevole favorevole gruppo PD federazione a sinistra chi si stiene che è contrario contrario noi che per le frazioni Lega Nord Forza Italia immediata esecutività della delibera unanimità punto 6 l'ordine del giorno approvazione del piano organico ai sensi dell'articolo 369 della legge 147 del 2013 dell'articolo 1 dell'ordinanza 23 del 2014 con assunzione dei contenuti preliminari finalizzati alla predisposizione del programma d'area rigenerazione e rivitalizzazione dei cerchi storici colpiti dal sisma attuazione dei piani organici di cui alla legge decreto legge 1094 del 2014 relaziona sempre il signor sindaco anche qualità di assessore ai lavori pubblici prego io farò una prima introduzione poi se se lo ritenete visto che c'è anche presente l'ingegnere capo magari gli chiederei anche una breve illustrazione oppure eventualmente a risposta sul secondo giro magari dopo fatemi capire cosa preferite oggi stiamo parlando del piano organico stiamo parlando del piano organico scusate stavo dando un pari di risposte finalizzate alla rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici è un intervento importante me ne avete sentito parlare anche in questo contesto stessa comunicazione anche all'assessore dicevo è una manovra importante che la regione ha voluto mettere in campo per dare una risposta complementare rispetto al sistema delle ordinanze della ricostruzione me l'avete già sentito dire così in altri contesti cioè si sta gestendo da un lato la ricostruzione del terremoto all'insegna dello slogan come prima meglio di prima ma tendenzialmente viene ricostruito ciò che c'era dove era meglio di com'era con il piano organico si va a dare risposta a quei bisogni o che sono emersi in ragione o a causa del sisma o che magari preesistevano ma il sisma dà l'occasione per recuperare anche questo aspetto e che comunque in generale riguardano interventi che possono dare un contributo positivo in termini di ripartenza e di rivitalizzazione appunto dei centri storici l'esempio più eclatante di cosa occupa il piano organico sono i cosiddetti oggetti impropri cioè un edificio magari incongruo che prima poteva starci in un contesto diciamo consolidato e che dopo l'accantieramento del restante complesso risulta davvero fuori posto oppure l'edificio che viene demolito e non viene ricostruito perché ad esempio al suo posto nasce una piazza cioè interventi complementari rispetto al sistema di finanziamento pubblico legato al piano della ricostruzione in questo contesto la giunta regionale ha messo 11 milioni e 7 circa e il neopresidente Bonaccini ha già pubblicamente in più occasioni espresso la sua convinzione che questo piano vada successivamente rifinanziato perché apre un'occasione positiva di definizione costruzione di una qualità urbana migliore rispetto a quella che avevamo prima del terremoto ecco che noi candidiamo a questo piano organico un sistema di riqualificazioni complessive del nostro centro storico che ha come perno principale Piazza Rocca la fortezza l'edificio Pascoli che la fronteggia e i rodari che stanno dall'altro lato ma che sostanzialmente raccoglie l'attenzione che viene dall'area stazione passando per il parco delle rimembranze le aree verdi che potranno e dovranno dialogare con Piazzale Rocca e poi si incunea verso Corso Guercino nel sistema delle gallerie parallele al corso vero e proprio il corso in particolare lato Rocca e poi arriva fino a Piazzale Bonzani e alcuni edifici strategici che stanno strategici diciamo dismessi che potrebbero un domani avere nuova centralità nel nostro territorio sostanzialmente noi a questo piano candidiamo un progetto di riqualificazione e recupero siamo nella logica delle suggestioni non di un piano dettagliato e puntuale vero e proprio per dire che noi immaginiamo che dopo completata la fase di ricostruzione la nostra città possa superare quella fase di centro storico a una piazza sola cioè Piazza Guercino e possa sostituire a questo un modello diviso almeno su due centri aggregativi quindi oltre a Piazza Guercino anche Piazza Rocca l'amministrazione aveva già sottoposto al vaglio della città una sorta di idea di rifunzionalizzazione della fortezza della Rocca come nuova biblioteca nella logica di vivere la Piazza Rocca come una piazza al taglio più giovanile la piazza dei giovani con luoghi di aggregazione sale studio pensata per gli universitari eccetera in questo contesto ci sta il ragionamento delle Pascoli che pensiamo in gran parte dovrà tornare a scuola non siamo convinti che oggi la priorità delle priorità sia ridestinare le Pascoli a scuola si dice primaria di primo grado quella che una volta è la scuola elementare per capirci perché siamo convinti che ad esempio sul fronte scolastico abbiamo ancora un livello di emergenza più alto nel capoluogo nel segmento delle scuole materne lo dicevo prima abbiamo ancora sezione di materna in una foresteria d'albergo e questo è sbagliato da due punti di vista uno per la qualità intrinseca degli immobili due perché comunque ci sono dei costi di locazione che andiamo a sostenere senza una prospettiva di riduzione perché il contratto quello è finché non creiamo soluzioni alternative abbiamo dato una risposta importante con la rifunzionalizzazione delle scuole di via Santa Liberata che da nido sono diventate materna ed hanno sicuramente migliorato il comfort di chi le occupa però abbiamo ancora qualche limite penso ad esempio alla materna ospitata ancora in quella che era l'ex pretura un intervento di riconversione sostanzialmente riuscito abbastanza bene ma che rischia di essere piuttosto lontano dai nuovi standard di edilizia scolastica a cui stiamo cercando di improntare le nuove realizzazioni il paradosso passatemelo come paradosso e poi non voglio parlare solo di scuole è che l'Eguercino cioè quindi la scuola di via Dante Lighieri che fino al giorno prima del terremoto era la più bella scuola in cui ciascun centese potesse sperare di sognare di studiare potesse sognare di studiare oggi è sicuramente nella parte medio-bassa della classifica perché le scuole di nuova realizzazione prima si citava pensale hanno altre filosofie costruttive ecco per questo sulle pascoli noi immaginiamo una riapertura nei modi nei tempi più rapidi possibile con destinazione a scuola con particolare riferimento alle scuole che oggi hanno un livello di emergenza di emergenza no di criticità più alto o comunque hanno soluzioni meno qualificate in particolare ancora abbiamo dei problemi sulla materna anche se come vedrete e sapete si sta ampliando il polo Pacinotti cioè si sta investendo davvero in edilizia scolastica però c'è ancora un recupero necessario da fare perché abbiamo ancora ritardo quindi rifunzionalizzazione abbiamo un problema legato agli spazi per la primaria di secondo grado quindi da questo punto di vista stiamo valutando quelle che una volta si chiamavano scuole medie perché quella fascia di popolazione ha ancora dei numeri significativi li avrà nel medio tempo e quindi potrebbe starci di dare risposte in questo genere ma su questi aspetti abbiamo un po' di tempo aperta parentesi purtroppo chiusa parentesi per ragionare perché il recupero delle pascoli richiederà un po' di tempo quando prima si diceva al punto precedente che le pascoli stanno un po' indietro al punto che lo vedremo nel piano organico il fatto che noi prevediamo quell'edificio nel piano organico a mio modo di vedere non pretendo di convincere su questo nessuno vuol dire che noi diamo molta centralità a quell'edificio cioè non lo mettiamo lì perché non ci interessa lo mettiamo lì perché lo consideriamo un punto importante su cui concentrare la nostra attenzione e la nostra attività il fatto che noi stiamo candidando quell'edificio su più linee di finanziamento è legato al fatto che la complessità intrinseca del recupero ci costringe a mettere insieme un mix di linee di finanziamento quindi il fatto di provare a cofinanziare un po' con la ricostruzione e ordinanze tradizionali un po' con il piano organico quell'edificio vuole semplicemente dire che stiamo giocando alla partita del recupero edificio Pascoli utilizzando tutte le carte che oggi il sistema normativo del post-sisma ci consente di giocare torno sul resto per pochissimi istanti quello che vorrei che voi provaste a immaginare è un sistema di una nuova piazza sia verde che pavimentata attorno alla Rocca e un sistema che dialoga con Corso Guercino mettendo in rete tutte quelle gallerie a cominciare da quelle nuove che sorgeranno nell'ufficio del registro e poi via via Corte del Teatro Galleria Saquegna Corte diciamo Ghetto e tutto il sistema che potrebbe essere parallelo rispetto a Corso Guercino per creare ancora di più quel sistema di centro commerciale naturale che è già nella natura del nostro centro storico che ha sicuramente avuto un contracolpo pesante per la crisi e per il terremoto e che può se debitamente accompagnato con progettazioni e programmazioni risalire l'ultimo aspetto il piano organico funziona con la logica dei programmi d'area e quindi mette in sistema risorse pubbliche e risorse private da questo punto di vista mette in sistema più fonti di finanziamento cioè questa è la natura dello strumento e quindi anche il tema delle rodari dovrà entrare in questo in questo contesto in maniera aperta nel senso che capiremo nel percorso che ci sarà se le rodari rimarranno completamente pubbliche se saranno in parte alienate che cosa diventeranno se una parte di quell'edificio potrà ospitare servizi o anche dotazioni commerciali è un percorso che dovrà essere costruito e che sarà oggetto di un affinamento successivo all'approvazione di questo piano perché come dicevo prima questo piano è la cornice e vede il disegno tratteggiato poi lo dovremo andare a rendere puntuale colorarlo centimetro per centimetro credo che sia una grossa sfida per la nuova città che sono certo raccoglieremo tutti quanti perché il terremoto non sia solo una tragedia che ci è capitata ma possa essere anche l'opportunità per una riqualificazione che senza risorse straordinarie probabilmente non avremmo mai potuto approcciare capogruppo magania prego grazie presidente mi rallaccio su una considerazione fatta dal consigliere Pareschi in precedenza anch'io sono convinto che questo punto doveva essere trattato dopo lo stralcio sul piano della ricostruzione che verrà trattato dopo anche perché poi nella stessa delibera avete messo che la deliberazione di consiglio comunale numero del 2912 che parla di quello so che passerà perché lei sindaco la fiducia della sua lavorazione però metta mai che non venga approvata dopo crea dei problemi anche su questa delibera perché c'è una cosa non vera a parte questo aspetto qua che secondo me era una procedura più corretta volevo capire questo progetto presumo sia iniziato già da tanto tempo lei sindaco prima nell'inchiusura del suo intervento del punto precedente ha detto che dobbiamo essere positivi e dare dei contributi per quanto mi riguarda io lo farei anche volentieri ma le cose arrivano sempre all'ultimo momento una cosa come questa secondo me doveva fare dopo i due o tre quando ci ricominciamo secondo me non dico che sarebbero uscite tutte cose da prendere in considerazione e quant'altro ma magari uno o due da uscire dalla minoranza poteva anche saltare fuori è in quegli ambiti lì che possono uscire delle proposte costruttive come ha detto lei però se ci arrivano sempre ma sempre perché ormai non è più un'eccezione è una frase consolidata di tutti i lavori tutto il materiale all'ultimo momento si fatica anche a essere costruttivi perché alla fine si riesce a fatica a leggere capire e quant'altro quindi si trovano magari più quelli che si reputano i difetti diciamo più che riuscire a starci sopra ragionare e trovare qualcosa di propositivo e quindi io mi chiedo da quando è che si è iniziato a lavorare questo progetto perché leggendo vari interventi allora io collego alcune scelte di amministrazione fatte in passato tipo l'acconciatura dell'area verde nel cinema a straodeon probabilmente era già derivata dalla vostra idea di poterla mettere nel percorso delle corti fatto anche dell'acquisto questo palazzo può darsi che sia inserito in quello quindi vuol dire che io quello che ne posso capire quanto meno saranno sei mesi ma penso sia veramente poco come tempo niente di più che ci è stato lavorando quindi c'era davvero il tempo di renderci partenti e quindi anche propositivi io adesso per quello che sono riuscito a leggere e quant'altro chiedo soprattutto dei chiarimenti dove la relazione sintetica dove ci sono le proposte di riconversione capisco che è sintetica e bisogna essere anche un po' sintetici lo dice la parola però in più di un punto non si capisce dove cosa si vuole fare perché allora il punto 8 per esempio il quartiere popolare di via Alge di Gasperi il parco da Pandurero l'area produttiva a facciata su 25 aprile al lato del centro polifunzionale che potrebbero essere ripensati complessivamente ok ma in che modo pensando di far cosa e quant'altro questo è molto generalistico diciamo che magari chi abita in quella zona può anche non dico impanicarsi ma mettersi dei problemi dei pensieri perché non sa cosa in che cosa si vuole convertire tutto quell'area qui c'è punto 5 dove dite che via Santa Liberata si figura come natural il proseguimento dell'asso di corso Guercino per il nuovo mercato settimanale ma non l'abbiamo appena riportato in 5 qui parla così poi magari non lo so però quindi possiamo avere così tanti stendisti per mettere il mercato fino là buono poi cento 10 centro sportivo recreativo tra via Ferrarese via Modena esatto anche qui cosa si vuole fare cosa esattamente specificatamente quant'altro poi c'era scusate scusate un altro il centro 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 sportivo in che modo strutturando in che maniera e quant'altro mi sembra capisco che è sintetico ma mi sembra eccessivamente sintetico andando un po' più avanti io adesso con le pagine di riferimento nella pagina 16 questa è una nota cioè fa presente che la pavimentazione della rocca è veramente scabrosa calcolando che sono state spese centinaia di migliaia di euro per provare di sistemarla penso proprio quindi che a questo punto sia stata una spesa malfatta perché se questa stessa è stata rifatta credo una cosa del genere se si dice che è particolarmente scabrosa dopo un intervento che è costato un bel po' di soldini è stato fatto quantomeno non di crismo perché viene ribadita questa problematica che c'era prima e dopo il lavoro continua ad esserci trovo adesso salto un attimino oggettivamente trovo apprezzabile il sistema delle cordi però qui è veramente secondo me è da spiegare da esplicare decisamente meglio così su sulle linee grossolane che sono state messe può essere un'idea percorribile ma secondo me deve essere decisamente più approfondito il discorso anche perché se prendesse piede questa via delle cordi anche se qui si dice che non va in contraposizione della viabilità tradizionale del centro chi va in quella via non riesce a girare nell'altra quindi sicuramente ne risentirebbero i negozi e chi è sulle vie tradizionali del passeggio di centro quindi può essere una buona idea ma bisogna valutarla con estrema attenzione perché può avere dei delle ricadute non particolarmente positive per le attività esistenti sulla viabilità tradizionale attuale ho trovato curioso che sul percorso sul percorso di ripare il bordo diciamo di ripercorre le vecchie mure della città su piazzale Bonzani si parli di rimetere un'alberatura che la logica ci sta in continuazione col viale che c'è che finisce con l'escologica per collegarsi con il piazzale Bonzani però è una cosa curiosa quando sono stati tagliati degli alberi per far fare girare i carri di carnevale nel 2013 e adesso si pensa di rimetere un'alberatura sul piazzale sul piazzale un'altra cosa ci tiene il microfono un altro aspetto faccio fatica a leggere e parlare tutto tenga il microfono perché non riusciamo ci vogliono i microfono quelli all'ordine no no perché la gente che è collegata ai streaming può capire quello che dice un altro aspetto che invece considero una buona idea sinceramente di tutto quello che ho letto quella che condivido di più è sicuramente la biblioteca spostata alla rocca quello penso davvero che possa essere un valore aggiunto che possa davvero riportare ridare un valore alla rocca stessa e portare gente in quella zona lì non trovo cioè oddio può essere positivo anche il fatto di spostare molti uffici comunali nelle due edifici però questo comporta lo stesso ipotetico problema che dicevo sulle corte perché se tutti molti uffici comunali vengono spostati in quella zona lì non essendoci più nel centro di Cento la gente non camminerà più nelle varie vie per poter arrivare negli uffici e quindi non potrà più fare acquisti quant'altro andando magari in un ufficio comunale prima passando davanti al negozio vede un qualcosa che gli piace là dentro compra e così via invece se vengono spostati tutti sulla rocca che avrà sicuramente un accesso più facilitato più immediato in confronto dove sono le varie sedie attuali non ci viene a mancare questo passeggio diciamo della gente quindi ci può essere anche qui un concreto rischio di una diminuzione di introit diciamo per i vari negozi che ci sono in questo momento nelle varie vie tradizionali sono d'accordo sulle rodari che non vengono più adibite a scuole però mi fa un po' specie vedere qua nel piano che il piano terra si vuole mettere un'osteria o ai bar calcolando che a 10 metri c'è già un bar c'è anche una barachina e quant'altro non vedo l'utilità di una concorrenza così smodata diciamo tutta la stessa categoria se proprio si vogliono fare degli esercizi di variarli perché lì è stessa tipologia di chi già è lì in zona quindi non ci vedo un'utilità di adibirle a questo non ha un senso molto organico tutto il mio intervento però io ho riuscito a vedere i punti in questa maniera e quindi ho evidenziato considerazioni dubbi e quanto è emerso dalla mia lettura e valutazione di questo piano organico che ribadisco che per la sua importanza il suo valore il suo cambiamento che può dare alla città di Cento e calcolando che credo che sia partito come ho detto già da tempo meritava di essere affrontato decisamente già da nei mesi passati per poter anche dare come riuscito qualche contributo più propositivo da parte di Palo della legge e anche consigliere bene grazie capogluto Magagna capogluto Pareschi grazie presidente provo a fare un intervento non da bar signor sindaco dunque l'ordinanza commissariale che regola il piano organico parla di ripristino delle condizioni di vita e questo diciamo che è l'obiettivo per arrivare agli scopi dello stesso il piano organico che ci è stato consegnato è composto da tre documenti la delibera una relazione sintetica che da quel che capisco delinea la strategia generale degli interventi è uno studio di fattibilità che è riferito al primo stralcio di lavori che questa amministrazione metterebbe in campo con l'ottenimento dei contributi di cui parlava il sindaco prima tra le più significative indicazioni del piano ho letto nei documenti che ho illustrato e che ho elencato prima che il comune avrà cura di evitare ulteriori processi di spopolamento del centro storico farà interventi atti a riqualificare gli spazi pubblici di relazione e dei servizi di prossimità e farà interventi che rigeneranno il patrimonio edilizio con la promozione di modelli di coesione sociale dalla lettura della relazione sintetica quella che delinea il piano diciamo che l'intervento più importante oltre al percorso alternativo che non trovo male per arrivare dalla Rocca a Piazza Guercino attraverso nuovi spazi che attualmente non sono in uso sicuramente una bella soluzione io vedo di più significativo di importante delle cose fatte nel primo stralzo l'ampliamento degli spazi della Piazza della Rocca con l'inglobamento dei cortili antistante dei rodari delle scuole pascoli vedo una riqualificazione della destinazione della Rocca diciamo che vedo più dare una destinazione alla Rocca che prima non avevo non ce l'avevo e vedo la totale trasformazione delle scuole rodari ex scuole rodari con il wine bar al piano terra e al primo piano altri servizi e vedo la parziale trasformazione delle ex scuole pascoli qui ho visto quello che le dicevo prima nella relazione sintetica vedo che praticamente sparisse tutto l'edificio scolastico rimangono tre vani e facendo un conto appropriato mi pare intorno al 10% per quello che ho detto che è il 90% lo vedo sparire e invece nello studio di fattibilità il 50% di questa di questa struttura invece resta destinato a scuola e l'altra metà ad uffici comunali della metà scuola una parte mezza al piano terra c'è la materna e la scuola primaria al primo piano che però tutta questa parte diciamo destinata a scuola non è oggetto di intervento del primo stralcio quindi i conteggi che ci sono stati presentati non coinvolgono la parte scuola coinvolgono la parte solo uffici solo la sistemazione esterna la ricostruzione del rodale io chiedevo anche in termini di superficie quant'è la parte che resterà a scuola e quanto sarà destinato agli uffici perché trovo una diciamo che sia la relazione sintetica e lo studio di fattibilità sono contraddittorie rispetto a questa scelta per il momento mi fermo grazie grazie capogruppo Pareschi capogruppo Mattarelli prego grazie come vede io mi alzo sempre in piedi quando faccio i miei interventi ma non perché voglio farmi vedere dai tre spettatori che ci guardano forse due a quest'ora che ci guardano a casa due perché oggi è il 29 di dicembre due perché mancano anche diversi assessori due perché vedo che lei si trova da solo insieme al suo presidente ma perché i cittadini centesi appunto come ho detto oggi sui giornali non non trovano più tanto interessante quello che noi diciamo qua nonostante le sue lezioncine di diritto di buon comportamento e di logica politica però vedo che nonostante oggi quello che ho detto sui giornali stasera il dibattito è un po' più vivo sia perché le minoranze hanno avuto un interesse forse nei temi che trattiamo sia perché i suoi consiglieri di maggioranza hanno espresso delle opinioni che raramente le sento dire ma quello che voglio dirle signor sindaco in merito al piano organico è questo lei dice io vorrei delle proposte vorrei fare una politica seria vorrei che voi faceste delle cose diceste delle cose per la città ora io quando ho cominciato a sedermi in questo consiglio nel novembre 2011 subentrando al candidato sindaco a meglio che è stato qui qualche mese la mia intenzione è la era ed è proprio questa ma come si fa a pretendere della gente come noi che normalmente ha una vita una professione una famiglia un lavoro e se permette nella mia attività professionale io ho consentito di creare almeno 200 attività imprenditoriali da zero e sono contate non è almeno 200 vuol dire almeno 200 cioè ci sono 200 attività imprenditoriali nel nostro territorio che ci sono perché io le ho valutate nella mia attività perciò non sono abituato a ragionare su fantasie o su cose per passarsi il tempo ha capito? lei ha detto prima il piano organico benissimo il consigliere Magagna l'ha appena intuito questo piano organico che ci è stato consegnato il 23 dicembre alle ore alle ore eccolo qua alle ore 17 rotti quindi il 23 dicembre 17 rotti io non ho potuto partecipare alla riunione dei capi gruppo perché avevo detto avevo un impegno il 29 siamo qua abbiamo dovuto esaminare il piano organico costituito da quei tre documenti che ha detto il geometra Pareschi che sono quelli come posso dire che ha dato che ha sostanzialmente la delibera la 194 la relazione sintetica e l'allegato studio tutto fatto da tecnici specializzati anche con le valutazioni dell'ingegnere Piacodino ora queste 200 circa rotti pagine di roba 45 di relazione tecnica circa una 22 di proposta e circa 10 di delibera richiedono una valutazione di un certo tipo valutazione che sicuramente oggi andando a ritroso a tutte le proposte fatte dal sottoscritto fra cui l'ordine del giorno 100 città verde che prevedeva proprio guarda caso degli spazi che voi volete invece identificare proprio in un percorso fantasioso delle corti io non giudico neanche interessante fantasioso ho parlato con qualche centese storico molto più storico di me quelli che parlano ancora in dialetto che hanno avuto i bisnonni nati qui e quando gli ho parlato del percorso che avete in mente di fare passando dall'interno dell'ex ufficio del registro a guarda caso all'ex area dei cinema guarda caso passando per la galleria sequenia già presente guarda caso attraversando la cosa del piazzale del getto ricollegarsi dietro al cevolani che vogliamo espropriare e guarda caso chissà perché finire in casa panini perché compreremo anche questa nelle sue intenzioni anche questa allora ho pensato che evidentemente questo disegno era nella vostra testa da mesi allora come si può pensare che noi oggi diamo un parere serio fondato motivato razionale vedendo qua guardandolo il 23 di dicembre lasciando stare che il 24 è la vigilia di Natale che il 25 è Natale che il 26 è il Santo Stefano tanto il governo Renzi ha fatto il consiglio dei ministri il 24 di dicembre poi si vedono poi tutte le reazioni e pensare che noi diamo un contributo positivo ad una fantasia di questo tipo lei prima ha parlato di Angola dice che questa città era come l'Angola allora le ricordo che dal 78 al 93 l'Angola l'ha governata la sinistra la giunta social comunista di Canelli sì dal 78 al 93 l'Angola l'ha governata la sinistra no adesso ne faccio la storia visto che lei la conosce come me no dal 93 al 2006 ha governato una lista civica che nessuno di questa minoranza ha mai potuto non solo dire una cosa o spingere un bottone nessuno di noi ha mai governato in quella lista civica dal 2006 al 2011 ha governato un centro-destra paralizzata dal superamento del patto di stabilità e da oggi ci siete voi abbiamo capito che vi interessano gli edifici pubblici li volete solo comprare volete comprare il palazzo Panini volete fare nelle pascoli degli uffici volete fare nelle rodari dei wine bar volete fare un percorso strano che passa per proprietà private guarda caso tutti in centro che sono finiscono il percorso finisce chissà perché in casa Panini dove siamo qui che casa Panini recentemente è stato rogitato un immobile e questo immobile il notaio non l'ha completato perché non c'è l'abitabilità lo sapete questo? L'atto notarile è stato rifiutato non c'è il certificato di abitabilità e qui stiamo facendo il consiglio comunale adesso io non so se è relativo a quell'ufficio di questo immobile o se è solo quella porzione di immobile però logica vorrebbe che se c'è un ufficio nell'immobile che non è abitabile probabilmente è tutto l'immobile che non è agibile o non è abitabile non lo so questo è quello che mi è stato riferito dal notaio però lo verificheremo il piano organico in quanto tale sul centro 11 milioni e 7 dice che ci sono a disposizione in questo studio ma per che cosa? Chi li spende? In quanti comuni? Quanti potremo utilizzarli in questa città? E per finire per finire chi dovrebbe parlare mesi quindi io stasera per principio voterò contro questa proposta di piano organico che voi state studiando da mesi insieme all'ingegnere e pretendete da noi che siamo io faccio facevo e faccio ancora consulenza finanziaria e banca e tutti gli altri fanno altri lavori però so valutare i progetti finanziari questo progetto finanziario qua se voi lo presentate in una qualsiasi banca per chiedere che sia finanziato chiamano l'ambulanza avete capito? Perché questa è tutta roba realizzabile come era per voi realizzabile il mio ordine del giorno 100 città verde con la differenza che io avevo trovato tra i consiglieri europei che conosco personalmente la possibilità di andare a cercare il denaro per comprare le aree di quei cosiddetti signori che forse sarebbero stati anche contenti di venderla e fare poi dei veri parchi pubblici non delle fantasie bei disegnini fatti al computer come in questo caso qua e poi scusatemi l'unica cosa che ho trovato di sopportabile a meno intellettualmente è che c'è un'idea di fare un po' più di verde nella piazzale della zona della Rocca dove si vede un giardino si abbatte il recinto delle pascoli si abbattono le rodari ovviamente perché quelle sono ormai inapplicabili si fanno delle altre attività commerciali ma si dimentica che tutto il commercio del centro è stato violentato da due cose la crisi il terremoto e il decentramento delle attività commerciali anche presso il Bennett che è stato deliberato negli anni dal 93 al 2006 certamente non da questo centro destra certamente non dalla sinistra che ha governato dal 78 al 93 ma sicuramente ha messo le radici quel centro commerciale negli anni in cui governavate voi con il famoso partito social comunista epoca giunta pinca Canelli per ricordarcela nella memoria storica di chi oggi qui non era presente in quegli anni era in quegli anni là che fu messo il diciamo il seme della famosa decentramento all'estero inoltre questo piano organico parla anche della via ferrarese del recupero di via ferrarese col trasferimento di attività industriali in via ferrarese io ritengo che per fare un adeguato studio di questo piano organico per dare una valutazione che possa essere un pochino applicabile noi avremmo dovuto avere il tempo di guardarci almeno tre o quattro volte in commissione voi invece venite qua a chiederci di dare un parere oggi il mio parere oggi quindi sarà contrario per la illogicità del progetto per la irrealizzabilità dello stesso e per quel poco che ho potuto constatare leggendo quei disegnini che ci avete fornito oggi stesso anche per le incongruenze che il Giovedre Pareschi ha rilevato in merito proprio al discorso della ristrutturazione delle pascoli in parziali uffici pubblici per un costo di 163 mila euro quindi al momento mi fermo qui premettendo comunque che il mio voto sarà contrario e ricordando al signor sindaco grazie che è ritornato e quindi obiettivamente parla bene ma evidentemente quando parlano gli altri poi dopo lei va via vabbè l'Angola l'Angola le ricordo l'Angola è stata generata dai suoi predecessori politici che sicuramente in questa città hanno governato ininterrottamente dal 78 al 2006 mi fermo qua faremo ricerche per adesso ci fermiamo qua bene forse si è consumato anche il secondo intervento comunque dopo vedremo vedremo altri interventi consigliere Cosma Tassinari prego sì grazie presidente solo un piccolo appunto al consigliere Mattarelli è vero non so benissimo che non è determinante la differenza ma un passaggio in commissione è stato fatto il 22 lei Mattarelli era presente all'inizio della commissione poi aveva un impegno giustamente come ciascuno alle sue scelte sceglie i propri impegni e quindi non ha potuto assistere alla trattazione del tema in commissione che non è stata amplissima ma per carità non lo nego ci ho detto entro un po' nel merito del piano ma ci voglio entrare senza entrare troppo nei dettagli in tutta sincerità perché perché non non credo che siano i dettagli di questo piano la cosa fondamentale la cosa fondamentale è che questo piano si inserisce in una visione che questa amministrazione mi sembra stia dimostrando ampiamente che è quella appunto di avere una visione urbanistica non fare dei disegnini con il computer come dice il consigliere Mattarelli ma provare veramente a immaginare che cosa vuole diventare questa città possibilmente non arrivando a 56.000 abitanti edificando due terzi di territorio come qualcuno prima di noi aveva immaginato cercando di fare anche della nuova edilizia ma della buona nuova edilizia come vedremo poi al punto successivo cercando anche di immaginare come gli spazi pubblici di questa città possano essere migliorati e resi più funzionali e resi più più belli più utili per i cittadini il centro non certo per la gioia personale del sindaco Lodio e del consigliere Tassinari vedete il fatto che la Rocca sia qui da qualche centinaio di anni e che la piazza della Rocca sia qui da qualche centinaio di anni non significa che la struttura di Cento debba essere immutata e immutabile il fatto che certo che tradizionalmente via Guercino è la via del passeggio dei centesi ma abbiamo l'ambizione di pensare che si possono anche cambiare le città e cambiare meglio il fatto che i negozianti di via Guercino debbano sentirsi minacciati dal fatto che esista anche un altro posto dove passeggiare mi sembra abbastanza curioso bene ciò detto appunto voglio di nuovo rimarcare il fatto che in questo caso si è colta un'opportunità si coglie un'opportunità questo è il motivo per cui andiamo ad approvarlo oggi 29 dicembre del 2014 e non il 10 gennaio il 22 febbraio del 2015 perché oggi abbiamo un'opportunità di rientrare in un round come dicono quelli bravi di finanziamenti messi a disposizione della regione e che sinceramente non ci sentiamo di lasciarci scappare perché c'è bisogno di più analisi soprattutto nella fase in cui siamo nella fase di ideazione preliminare avremo tutto il tempo di portare in commissione in consiglio comunale le realizzazioni concrete che andremo a fare oggi cogliamo questa opportunità cogliamo l'opportunità di immaginare un po' la come poter migliorare questa città grazie considerazioni signor sindaco prego sì solo due risposte anche se mi sembra che si sia capito complessivamente la portata e l'ossatura di questo ragionamento una prima risposta la devo in termini di ricostruzione cronologica dei passaggi perché è vero che il percorso verso l'approvazione di questo piano organico è un percorso particolarmente accelerato in realtà l'accelerazione non è particolarmente ascrivibile a questa amministrazione anzi direi che non lo è è in parte ascrivibile al passaggio elettivo della regione e in parte forse alla voglia che accomuna la gran parte dei territori dell'area del cosiddetto cratere di fare presto ad avere strumenti operativi in realtà il DGR citato è del 13 giugno 2014 il primo incontro operativo promosso dalla struttura commissariale allora era coordinato dall'assessore peri è stato della seconda metà di luglio 2014 per definirne diciamo le ossature per sommi capi proprio in maniera molto astratta e raccogliere le prime indicazioni poi è stato predisposto una specie di protocollo quindi la regione ha fatto una parte di attività e l'esame è ripreso nella seconda metà di settembre e poi ancora in un ulteriore incontro quasi a fine ottobre quindi i tempi in realtà sono stati assolutamente ristrettissimi quelli per la predisposizione del documento che vedete per sincerità e trasparenza dobbiamo dire che quello che trovate nel piano organico a voi sottoposto oggi non è il frutto del lavoro compiuto da questa amministrazione nel mese di novembre perché non sarebbe stato realisticamente possibile predisporre questa relazione ancorché lo ribadisco oggi vada poco oltre il livello dell'orientamento programmatico e della suggestione perché poi manca tutta la declinazione operativa del come concreta e su questo diceva bene il consigliere nonché presidente da sinari in commissione ci sarà modo e tempo per lavorare a più mani quello che trovate qui è la somma per usare un'espressione più propria citando dai latini di un lavoro che questa amministrazione aveva iniziato nella fase antiterremoto e che poi non ha abbandonato e quindi ha continuato a coltivare ancorché col tempo residuale che era rimasto dal 29 di maggio in poi cioè erano idee ed esplorazioni fatte e abbozzate che poi sono state ricondotte a sintesi quando non ricordo chi nel suo intervento ha detto vedendo questo piano organico ho la sensazione non l'ha detto come lo dico io l'ha detto il capogruppo Magagna ho la sensazione che alcune delle decisioni che ho visto prendere a questa amministrazione fossero figlie di questo piano in realtà non è così ma la sua sensazione personalmente mi fa davvero piacere perché per noi tutto parte da una visione di città che avevamo condiviso con la città stessa durante la campagna elettorale era frutto di un lavoro che facciamo come partiti era frutto di un disegno che avevamo nella testa e che abbiamo sottoposto alla valutazione dei nostri concittadini quello che stiamo cercando di fare diciamo giorno dopo giorno con gli strumenti che ci sono perché sugli strumenti invece non avevamo le idee chiare è quello di colorare uso sempre questa espressione più pezzi possibili di quel disegno che avevamo in testa allora utilizzando le varie opportunità che si presentano però in realtà sì lo diceva Conti prima noi ravvisiamo una coerenza in questo comportamento complessivo perché ci porta a realizzare e proporre alla città non imporre alla città perché anche oggi stiamo proponendo qualcosa alla città non partiranno le ruspe dopo questo nostro voto dopo questo nostro voto noi candideremo questo progetto alla regione inizierà un percorso ci sarà un gruppo di sindaci che dovranno confrontarsi qualcuno dice scannarsi io dico confrontarsi per l'allocazione delle risorse ognuno andrà con la forza delle idee dei progetti che riesce a portare sempre a questo livello di approssimazione quindi di macro idee poi ci sarà tutta una fase attuativa che discende come spesso accade quando si progetta perché progettare è un po' sognare qualcuno che poi deve aver fatto della strada ha detto se vuoi una cosa sognala in termini amministrativi se vuoi una cosa cerca di progettarla di programmarla poi dopo nei modi nei tempi proverai a vedere se trovi degli strumenti per portarla a termine quindi alla domanda che faceva il capogruppo Pareschi che si è offeso per il DABAR mi chiedo pubblicamente scusa non era nella sua metodologia era l'argomentazione mi sembrava invece ha fatto un intervento che ho particolarmente apprezzato quello che voglio dire è che complessivamente noi abbiamo tracciato delle macro definizioni quindi è vero quando dice non è chiaro quanta parte delle pascoli pensate sia scuola e quanta parte pensate possa essere edificio pubblico si non è chiaro perché non è proprio definito l'ultimo incontro su questo con la regione l'abbiamo avuto credo poco più di due settimane fa sempre nella logica di cercare di capire come massimizzare la contribuzione pubblica per la ricostruzione nella logica e nella coerenza con la programmazione scolastica con la programmazione di città eccetera è un percorso di affinamenti progressivi che avverrà è un concetto che ho già provato a spiegare tante volte e mi rendo conto che anche se io ce l'abbia chiaro forse faccio fatica a trasferirlo la capacità che io vedo positiva e che qualcuno magari dirà è una sciagura di questa amministrazione di realizzare più cose di quante hanno realizzato le amministrazioni che ci hanno preceduto è legata al fatto che cerchiamo di aver chiaro che cosa vogliamo fare e poi apportiamo le correzioni più minime possibili in funzione degli strumenti che si presentano e che diventano operativi quindi l'idea complessiva di quella piazza se vi ricordate la funzionalizzazione della biblioteca in Rocca l'abbiamo condivisa proprio in questa sala in una conferenza pubblica un anno dal terremoto quando si diceva cosa sarà della nostra biblioteca che si disse Palazzo Rusconi ci ha recuperato in questi modi in questi tempi e della provincia non sta in fase 1 non sta neanche in fase 2 forse arriverà in fase 3 ma noi pensiamo di rifunzionalizzare la Rocca trasformandola in biblioteca l'abbiamo fatto abbiamo filmato quell'incontro l'abbiamo trasmesso in streaming l'abbiamo messo sul sito perché partisse un dibattito un dibattito che è anche partito in città perché associazioni movimenti eccetera hanno fatto sapere come la vedevano poi come realizzarlo al di là della suggestione non era chiaro in nessuno dopodiché nasce un'opportunità una forza e una disponibilità di finanziamento e allora quell'idea diventa un progetto quindi noi quello che abbiamo fatto nel mese di novembre molto velocemente e di questo doato anche agli uffici che sono riusciti a fare una cosa che ha una sua complessiva coerenza è di mettere insieme suggestioni che aveva sviluppato l'assessorato delle attività produttive suggestioni che aveva sviluppato la parte urbanistica suggestioni che aveva sviluppato qualche singola assessorato indicazioni dell'assessorato della cultura indicazioni che derivano dall'ambito sociale eccetera progetti che erano più o meno pronti bozze che erano state studiate e tracciate ne ha fatto un sistema e siccome erano tasselli che partivano da una visione complessiva univoca il mosaico secondo noi ha una forma poi sui singoli quadratini non partiranno le ruspe purtroppo domani mattina e avremo il modo e il tempo di guardare ogni singolo aspetto come sarà realizzato perché chiudo su questo inglobare le aree verdi di pascoli e rodari creando un'unica piazza pavimentata e non quando si parlava del fatto che la piazza della Rocca ha dei limiti ha dei limiti di pavimentazione e sono evidenti ancorché molto attenuati ma ha anche un altro limite che è che essendo una piazza completamente esposta al sole d'estate e alle temperie d'inverno è una piazza dove si sta meno volentieri rispetto a piazza Guercino che è porticata e ombreggiata per circa un terzo in qualunque condizioni di sole e quindi quello che si è pensato è che mettendo a sistema anche l'area verde puoi creare un sistema di panchine un sistema di aree di aggregazione anche ombreggiate nei mesi caldi eccetera che possono rendere la piazza più piacevole quell'idea là è una bella idea anche a me piace ma le belle idee possono essere realizzate molto bene ma anche molto male guarderemo i progetti mano a mano che prenderanno forma e questo è un lavoro sul quale secondo me le sensibilità diverse potranno fare sistema grazie signor sindaco quindi proviamo a mettere in votazione questo secondo giro se volete lo facciamo prego se avete ancora non avete ancora esaurito gli argomenti prego capogruppo Pareschi per il secondo giro quest'altra volta ci saranno tre microfoni garantisco grazie presidente niente due parole una per il consigliere Cosma del Sinari che mi diceva che non dobbiamo guardare i dettagli noi oggi abbiamo letto mille fasi quelle che siamo riusciti a fare come in anticipo il capogruppo Martarelli ha evidenziato e guardiamo quello che ci viene dato noi non partecipiamo alla formazione di questi piani non non conosciamo niente noi il 23 c'è stato illustrato e poi c'è stato consegnato un plico e lì l'abbiamo valutato non c'è possibile fare diverso voglio dire quello io spero che non sia perché non ci si vuole far sentire la nostra opinione però devo prenderla come considerazione io volevo dire che per quello che noi possiamo capire cioè senza queste discussioni non riuscivamo cioè non riesco a a capire che l'azione programmata sia una buona azione e sia anche diciamo in parallelo col piano della ricostruzione cosa che dovevamo secondo me guardare prima perché anche questa di conseguenza per quello che l'avevo legata in modo diverso perché il piano della ricostruzione prevede un ulteriore sviluppo dalla parte opposta della città rispetto a Quartmoreno se Quartmoreno saranno le nostre scuole abbiamo una pianificazione urbanistica che non è praticamente diciamo consola conviene andare a scuola decima se uno abita in via santo liberato però è lo stesso che è perché dico se prima le avevamo tutti se ne togliamo due bisognerà mettere questi bambini da quante parte vanno a scuola a Quartmoreno esatto era quello che io per questa sera tutti questi punti portavano quel ragionamento lì per quello e quindi avevo capito che dopo l'attuazione di questo piano organico con togliere le scuole si volesse lasciare a cento solo un ruolo burocratico in un momento dove tra l'altro la burocrazia sta per essere superata la tecnologia che si dunque chiedevo inoltre se questo progetto è stato fatto vedere alle consulte perché a me sembra un progetto di competenza anche delle consulte e per il valore e l'importo delle opere e perché alla fine è un'opera di pianificazione neanche se il piano è iniziato per quello che è proprio la domanda grazie grazie capogruppo pareschi secondo giro Magagna capogruppo prego grazie presidente io mi ripeto come prima mi mancano delle risposte magari era nel momento che ero fuori che sono stato via 5 minuti non mi è stato detto del quartiere comunemente detto Ceres che si parla di pensamento complessivo di tutta l'area poi volevo far notare chi è che ha fatto questo lavoro che ha messo 100 sotto Bologna e più di 100 sotto Ferrara qui c'è scritto sono state chiedendo le province ma questo è un errore a provincia però davvero c'è scritto 100 province di Bologna più di 100 province di Ferrara però la parte seria è quella precedente magari l'ha detto mentre ero fuori momentaneamente però vorrei capire a grosse linee cos'è questo ripensamento complessivo come l'area perché è piccola e qui comprende un bel proprio cittadino di questi grazie Capogruppo Mattarelli prego una semplice precisazione il progetto in quanto tale come tutti i progetti il sindaco l'ha appena detto comporta una visione le nostre visioni determinano quindi i nostri comportamenti così come nell'attività quotidiana anche nell'attività di pianificazione urbanistica se noi vogliamo vedere la città con questo progetto che parte la piazzale della Rocca lo riqualifica in modo anche la piazza della Rocca anche condivisibile come dice il sindaco e ombreggiandolo eccetera già stato oggetto di interventi in passato dalle amministrazioni precedenti anche da questa quindi quel piazzale della Rocca e quella Rocca ristrutturata se sommiamo gli interventi nel tempo che potessimo fare la somma algebrica storica non rivalutata dei costi della Rocca e del suo piazzale secondo me raggiungiamo forse la decina di milioni tenuto conto anche della Rocca però non è quello che volevo precisare quello che volevo precisare è che la fantasia nel vedere le cose non vuol dire che le cose poi non si realizzino quello che io vedo che ho potuto vedere leggendolo velocemente come hanno fatto tutti quindi non si può pensare che una commissione del 22 dicembre come diceva il presidente Cosma è vero alla quale sì io ho partecipato solo in parte quindi non tutta fino alla fine possa in un'ora di tempo valutare un progetto di questo tipo per il quale ci sono mesi e mesi di idee di pensieri di studi che poi si traducchi in un qualche modo in un disegno anche a me un cliente un tempo mi chiese 2 miliardi per poter fare una pista di disesa a buona compra di sì sintetica e io di sì va bene aspetti un attimo abbiamo chiamato chi di dovere però tutti i progetti sono belli tutti i progetti sono idealizzabili perché altrimenti uno non li chiamerebbe progetti li chiamerebbe esecuzioni questo progetto di piano organico sembra quasi più una bella idea per cercare di andare a gareggiare per prendere quegli 11 milioni e 7 e questo è condivisibile che ci sono a disposizione della regione per poi poterli spendere in un qualche modo ammesso che riusciamo a vincere una parte che riguarda noi che il nostro progetto sia ritenuto credibile sembra più una cosa del genere che non è una cosa effettivamente realizzabile con quel percorso un po' strano che parte dall'interno dell'ex ufficio del registro e arriva fino qui in questo stabile e quindi quella sì mi sembra più una fantasia mi sembrava meno fantasioso e qui mi richiamo e finisco al fatto che veniamo rimproverati di non fare proposte le proposte contenute nei due unici ordini del giorno che io ho presentato tutti e due bocciati dalla maggioranza mi sembravano più realizzabili anche perché c'era la possibilità di istituire una commissione insieme maggioranza e minoranza per cercare i soldi se i soldi non si trovavano è chiaro che non si faceva ma io avevo i parlamentari europei che mi avevano promesso che c'erano i miliardi di euro in Europa a disposizione per il verde pubblico fra l'altro compresi anche nel piano della regione che vuole la bellezza di 180 metri quadri ad abitante in regione Emilia Romagna per parametro di verde pubblico pro capite mi pare che siano questi i numeri poi casomai se non sono 180 saranno 130 ma una roba del genere casomai sarò più preciso nel prossimo intervento sul piano della ricostruzione quindi la mia precisazione è relativa a questa è la mia contrarietà alla proposta e più che altro nel metodo di presentarla non nella vedete ognuno il sindaco l'ha detto e ha detto una cosa giusta ognuno di noi ha dei sogni e ha delle visioni i sogni ti fanno rimanere vivo anche se hai 90 anni le visioni determinano i tuoi comportamenti anche se sei un ragazzino o se sei un adulto o se sei un amministratore ma e quindi le nostre visioni molto spesso divergono dalle vostre alcune volte no altre volte sì ma quando anche proponiamo delle nostre visioni io ne ho proposte almeno due con due ordini del giorno voi non le avete ritenute condivisibili quindi non possiamo dire signor sindaco che la politica che facciamo in questo consiglio non è costruttiva non è costruttiva perché voi non condividete le nostre visioni le visioni determinano i comportamenti io ritengo che lo stato deve essere minimale ordine pubblico scuola confini e lo stato fine poi ognuno ha la sua vita la sua gara la sua libertà io sono un neikeisiano non un keynesiano è il contrario però non sono confrontabili le visioni la storia insegna che fino ad oggi chi ha pensato che lo stato dovesse pensare a tutto ha portato a questa situazione un'Europa che sta per frantumarsi dal punto di vista economico in declino sicuramente più degli Stati Uniti questo è tutto un altro discorso e ho già finito e ho già finito e ho già finito e quindi la seconda parte era quella che c'è una parte condivisibile nel vostro progetto che è la visione che sono i vostri progetti i vostri sogni ecco per me rimarranno tali grazie capogruppo Mazzarelli certo capogruppo Pareschi prego la prendiamo come dichiarazione di voto mi ero dimenticato di dire una cosa non ho visto la pinacoteca nel giro progettato era per quello che chiedevo se era previsto qualcosa o dire semplicemente uno di quei puntini da inserire in fase esecutiva la mia dichiarazione di voto sarà contraria va bene allora diciamo che abbiamo esaurito gli interventi non li abbiamo esauriti Tassinari Cosma presidente di commissione prego lei la parola grazie solo solo perché in particolare il consigliere Pareschi volevo dire che rispetto profondamente giustamente il fatto che abbiate analizzato approfonditamente le 1200 pagine voi date però voglio provare a farlo a fare una metafora per vedere se mi spiego meglio perché evidentemente non sono stato chiaro prima e voglio spiegarmi meglio io posso essere un editore che legge un libro di 1200 pagine e poi dire all'autore che a pagina 768 perché era scritto con l'accento la parte sbagliata oppure posso dirgli che era un bel libro o un bruttissimo libro scegli di rocca un bel libro poi passerà al correttore di botte che lo sistemerà metterà a posto l'accento forse sposterà anche qualche intero capitolo ne cambierà anche larghe parti ma se era un buon libro all'inizio sicuramente verrà un libro ancora migliore alla fine ecco questa metafora per dire che noi qui in consiglio comunale siamo l'editore oggi e dobbiamo decidere se quello che vi stiamo proponendo è un bel libro o meno dopodiché una volta avendolo scorso giustamente con il tempo a disposizione dopodiché una volta decisi su questo sarà tutto il tempo per passare al correttore di botte cioè alla commissione e agli uffici per raffinare questo libro e farlo diventare bellissimo il tutto ulteriormente per dire che questo progetto non sta scritto per rimanere nel tema da nessuna parte che debba essere condiviso dall'opposizione al 100% questo è il nostro progetto è la nostra visione della città può piacere o meno all'opposizione quello che è certo è che a noi piace molto bene se c'è anche qualche altra dichiarazione di voto non ci sono dichiarazioni di voto mettiamo in votazione il punto 6 all'ordine del giorno approvazione del piano organico in senso dell'articolo 369 legge numero 147 del 2013 articolo 1 dell'ordinanza 33 del 2014 con assunzione dei contenuti preliminari finalizzati alla predisposizione del programma d'area rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma attuazione dei piani organici di cui al decreto legge regionale numero 10 1094 del 2014 tornici chi è favorevole favorevole gruppo PD federazione della sinistra chi si astiene chi è contrario contrario noi che Forza Italia Lega Nord per le frazioni immediata esecutività della delibera unanimità punto numero 7 piano della ricostruzione di cui l'articolo 13 legge regionale numero 16 2012 adozione secondo stralcio la relazione signor sindaco prego io farò soltanto un'introduzione poi dopo passerò la parola all'ingegnere capo del comune datemi un cenno per capire come la vogliamo impostare nel senso che il piano della ricostruzione secondo seconda fase la chiamiamo secondo stralcio è stato illustrato in commissione illustrato il capigruppo la volontà dell'amministrazione comunale sarebbe di illustrarlo anche in consiglio volevo capire anche solo con un'espressione del volto a quale livello di dettaglio volete si fermi l'illustrazione la disponibilità dell'ingegnere capo che scuote affermativamente il capo è per un'illustrazione anche a livello analitico volevo capire come la vogliamo gestire lo illustriamo lo ridico la volontà dell'amministrazione sarebbe di farlo però siccome il tempo è anche il vostro non vorrei appropriarmene unilateralmente allora faccio la premessa poi chiedo all'ingegnere di prendere il mio posto per la parte vera e propria come voi sapete e questo è un inquadramento noi stiamo gestendo il piano della ricostruzione su due stralci e il primo stralcio l'abbiamo gestito su due fasi con questo secondo stralcio andiamo a completare oggi solo a livello di adozione quello che è lo strumento istituito dopo il terremoto per le amministrazioni colpite dal sisma per ricostruire riqualificare rilanciare il nostro territorio voi sapete che il primo stralcio ha avuto prevalentemente alcuni obiettivi l'attività produttiva in primis anche se ci sono ancora contenuti produttivi anche in questo secondo stralcio ha avuto come macro obiettivi alcune previsioni sulle quali ci siamo confrontati ampiamente poi c'è stato un secondo stralcio molto molto ristretto e limitato e una seconda fase e questo secondo stralcio ancora ha una visione più generale in questo caso ci sono alcuni inserimenti strategici e altri inserimenti che sono di recepimento diciamo delle indicazioni pervenute dai professionisti e dai privati dopo l'adozione del primo stralcio quello che mi preme dire come prima cosa è che quell'effetto che speravamo cioè di utilizzare il primo stralcio come annuncio e come elemento di informazione sulle potenzialità dello strumento ha funzionato nel senso che tra la prima adozione e poi approvazione del primo stralcio e oggi quindi l'adozione del secondo stralcio sono intervenute altre sollecitazioni e altre richieste diciamo da parte di professionisti e privati ovviamente non tutto ciò che è stato richiesto è stato inserito nel piano altrettanto noto è ma lo ribadisco visto che stiamo facendo illustrazione ampia che questo piano della ricostruzione si muove nei confini più generali del vecchio PSC adottato e mai approvato e rispetta il cosiddetto regime di salvaguardia cioè non va a contrastare precise previsioni urbanistiche contenute nello strumento adottato nel PSC adottato quindi dovete immaginare che c'è un confine più grande che è quello del PSC e c'è un confine più piccolo che è quello del piano della ricostruzione che come mi avete sentito dire molte volte ha avuto un primo chiaro ed evidente obiettivo quello di dotare la città di uno strumento urbanistico che con la decadenza del PSC che avverrà nella primavera prossima il nuovo quadro urbanistico sarà costituito dal vecchio PRG così come modificato dall'attuale piano della ricostruzione e questo nuovo strumento urbanistico che guiderà la nostra città sino all'adozione e poi approvazione di un nuovo PSC secondo noi ha i contenuti di riuscire a soddisfare i fabbisogni per un tempo superiore al decennio con un consumo di territorio non paragonabile rispetto alle previsioni molto ampie del vecchio PSC adottato quello che evidenzio come annotazione politica è che dai banchi dell'opposizione allora il PD sosteneva sostenne questo verbo visto il tempo passato sostenne il sovradimensionamento del PSC adottato sostenne l'incongruenza e l'opportunità di una serie di previsioni con questo piano della ricostruzione si comincia a disegnare un modello e un confine di sviluppo della città secondo noi molto più adeguato alle realistiche e reali possibilità di crescita della popolazione quindi un piano pensato per una città che cresce e che cambia ma che ha come obiettivo tra i primi la riduzione del consumo di territorio e l'attenzione a ciò che è riqualificazione piuttosto che a ciò che è nuova urbanizzazione io passerei la parola l'ingegnere capo se il presidente è d'accordo e poi dopo per valutazione di natura tecnico-politica o politica ovviamente sono a disposizione bene ingegnere percudio prego buonasera il secondo stralcio del piano della ricostruzione come ricordava poc'anzi il sindaco si basa sugli stessi presupposti sulle stesse normative del primo stralcio le ricorderò solo in maniera molto sintetica poi se qualche consigliere avrà bisogno di ripercorrere gli aspetti anche di carattere procedurale ovviamente sono a disposizione in questa prima slide ricordiamo quali sono gli ambiti di applicazione della normativa articolo 12 della legge regionale 16 del 2012 che è appunto la legge sulla ricostruzione gli ambiti sono le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione per conseguire obiettivi generali gli incentivi urbanistici e le misure premiali per la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione di riprissino con miglioramento sismico e ricostruzione per ottenere più elevati livelli di sicurezza sismica energetica e qualificazione dell'assetto urbanistico e le varianti alle previsioni cartografiche normative della pianificazione che possono servire per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione all'interno della prima di queste tre categorie troviamo quelle che sono le variazioni urbanistiche ordinarie ci tengo a precisare questo aspetto perché anche in occasione dell'approvazione del primo stralcio da parte di qualche consigliera è venuto il dubbio che questo fosse uno strumento anche di natura ordinaria il dubbio è utile fugarlo si tratta di una variante specifica a tutti gli effetti il comune di Cento avrebbe potuto modificare il proprio strumento urbanistico utilizzando altri strumenti ordinari previsti dalla normativa regionale in particolare a seguito dell'approvazione della legge regionale 6 del 2011 c'è stata la possibilità anche per i comuni che avevano già ampiamente superato i termini di legge previsti dalla legge regionale 20 la legge urbanistica regionale che fa da quadro normativo all'intero sistema aveva dato già la possibilità al comune di poter intervenire con una variante di carattere generale o con una variante specifica tant'è che l'amministrazione aveva già affidato un incarico per la formazione di uno strumento che partiva addirittura da una sorta di avviso di selezione che era stata fatta dalla precedente amministrazione per individuare dei progetti di interesse pubblico che potevano essere utili per apportare variazioni dello strumento urbanistico quindi oltre a tutte quelle misure che possono essere utili per premiare per stimolare per incentivare interventi di riparazione il piano della ricostruzione può occuparsi di varianti specifiche al PRG l'articolo 3 della legge regionale 16 del 2012 nello specifico dice che tutte quelle modifiche che apportano variazioni alla qualità dell'assetto urbano in particolare che migliorano gli standard urbanistici quindi le dotazioni di verde di parcheggio di viabilità eccetera sono tutte quante modifiche che possono essere apportate attraverso il piano della ricostruzione come vi farò vedere più avanti le nostre modifiche sono tutte quante in quella ottica di miglioramento di qualità urbana qui in questa slide sono riportate le delibere di consiglio comunale relative al primo stralcio del piano della ricostruzione come vi ricorderete abbiamo suddiviso in tre tranche il primo stralcio per poter anche garantire tempi utili ad alcuni interventi più urgenti qui invece in questa slide sono praticamente elencati quelli che sono i temi che sono oggetto di questo secondo stralcio la numerazione segue la stessa numerazione del primo stralcio ed è per questo motivo che non trovate il punto 2 la sezione numero 2 era quella dedicata alle UMI alle unità minime di intervento che in questo secondo stralcio non vedono per il momento oggetti da inserire è per questo motivo che viene riportata la sezione 1 vincoli espropriativi perché abbiamo un vincolo espropriativo da apporre ci sono alla sezione 3 alcune riclassificazioni di fabbricati in centro storico alla sezione 4 che è la sezione che ritengo più importante sono inseriti in questa sezione 4 ipotesi di accordi con i privati alla sezione 5 tornano tutte quelle attività di pianificazione volte a sostenere le aziende insediate sul territorio alla sezione 6 ci sono una serie di modifiche normative che sono legate e non alle modifiche cartografiche che vi elencherò alcune di queste modifiche normative vengono introdotte semplicemente per aggiornare adeguare l'impianto normativo del nostro piano regolatore o per introdurre come vi illustrerò più avanti alcune misure premiali che possono essere utili a tutto il territorio consolidato nella sezione varie sono individuate per lo più delle modifiche cartografiche che vanno a correggere errori piuttosto che a riallineare il catasto con il piano regolatore generale alla sezione numero 8 questa è una sezione aggiuntiva rispetto a quelle individuate dal primo stralcio vengono individuate invece una serie di delocalizzazioni di edifici colpiti dal sisma che in virtù della legge regionale 16 possono essere delocalizzati spostati nella loro potenzialità altrove questo è l'unico vincolo espropriativo che viene inserito con la variante che vi viene proposta questa sera si tratta dell'area di proprietà della partecipanza agraria a Renazzo in parte già utilizzata come impianto sportivo e dell'area adiacente si tratta di un vincolo di natura espropriativa finalizzato all'acquisizione e all'implementazione di attrezzature sportive a Renazzo in buona sostanza con questo vincolo l'amministrazione intende avviare una procedura volta all'acquisto di un'area che può essere anche ampliata in termini di offerta sportiva attraverso le attrezzature di aree verdi per finalità ludico ricreative o anche sportive alla sezione numero 3 centro storico sono ascritte quattro modifiche si tratta di quattro interventi di riclassificazione legati questi interventi a degli errori di classificazione che sono stati riscontrati a seguito di richieste da parte di privati in questa planimetria in scala ridotta li vedete cerchiati si tratta di quattro edifici assolutamente minori collocati all'interno della parte più marginale del centro storico fuori da quelli che sono i percorsi e le strade principali all'interno di corti dove questi edifici hanno visto il piano regolatore generale in prima battuta in sede di classificazione compiere degli errori ci sono dei fabbricati che erano stati individuati come fabbricati da demolire anche se sono fabbricati di fatto storicizzati che meritano di essere trattati con l'intervento della ristrutturazione edilizia e in altri casi nel caso del 3b di fabbricati che erano stati assolutamente dimenticati dalla pianificazione previgente e che con questa variante vengono classificati alla sezione 4 come vi dicevo la sezione più importante in questa sezione vengono collocati quattro ipotesi di accordo di accordi con soggetti privati per la realizzazione di altrettanti interventi di nuova edificazione il primo di questi interventi riguarda la zona di via dei Tigli siamo nella zona alle spalle dell'insediamento produttivo che c'è in via Bologna in questa zona attualmente la classificazione urbanistica è in parte zona per attrezzature ed aree verdi e in parte zona agricola la previsione urbanistica prevederebbe che tutto il comparto di più di 100.000 metri quadri prevede che tutto questo comparto diventi una zona di espansione una zona C dove una parte dell'area quella a valle quindi più lontana dal Reno diventa una zona destinata in parte a residenza e in parte a residenza assistita quindi una struttura per anziani e in parte invece viene ceduta al comune per poter essere destinata o ad edilizia residenziale sociale o ad attrezzature pubbliche o più in generale a residenza la parte invece a monte quella più prossima all'argine viene tutta quanta ceduta all'amministrazione comunale è l'area al netto del nucleo ex-rurale che non fa parte di questa previsione è l'area che si estende dall'ANFAS fino al centro preparazione pasti quindi una zona che già vede l'insediamento di alcune attrezzature pubbliche di un certo rilievo e che potrebbe garantire a questa zona il giusto completamento attraverso ulteriori attrezzature pubbliche per lo più a raso in questa scheda vengono sintetizzati i numeri di questa previsione quindi il comparto privato si estenderebbe per circa 51.500 m2 con una potenzialità di circa 10.900 m2 di questi una parte destinata a residenza per anziani e una parte destinata più genericamente a residenza il comparto invece pubblico vedrebbe circa 50.000 m2 destinati all'amministrazione comunale che possono essere utilizzati come vi dicevo per l'edilizia residenziale sociale o per attrezzature pubbliche l'area che c'è invece più a monte verso l'argine del Reno è un'area di circa 40.000 m2 che verrebbe destinata interamente ad attrezzature a parco pubblico altra area oggetto della sezione 4 accordi è quella che vedete punteggiata in via del pioppo è un'area limitrofa ad un'area di via del pioppo che è stata già oggetto di un accordo nel precedente piano della ricostruzione primo strancio di dimensioni più ridotte rispetto a quella precedente se vi ricordate nell'altro caso parlavamo di circa 55.000 m2 qui siamo su un ordine di grandezza completamente diverso circa 3.000 m2 che però vengono trattati con le stesse logiche di natura perequativa che hanno visto fondare l'accordo con i signori biondi proprietari del terreno adiacente quindi a fronte dell'accessione al comune di due lotti edificabili di circa 1.000 m2 la proprietà ottiene la potenzialità edificatoria per poter trasformare ad uso residenziale gli altri due lotti rimanenti quindi come vedete anche in questo caso la trasformazione è da una zona di verde pubblico con vingolo preordinato all'esproprio scaduto ad una zona invece di tipo edificabile che va a completare un quadrante che aveva già visto con la lottizzazione eco e l'accordo di via del pioppo proprietà biondi la destinazione di circa un 90% dell'area stessa in via in via santa liberata torniamo più o meno nella zona di via dei tigli dove eravamo prima è una zona leggermente più a nord ovest di quella c'è un'ipotesi di accordo che vede la trasformazione di un'area da zona agricola a zona edificabile a zona di espansione anche qui applicando i principi perequativi fissati dalla delibera di giunta comunale del dicembre del 2013 attraverso la trasformazione di quest'area a favore del privato il pubblico ottiene la cessione di circa 8000 metri quadri in questa zona a puro scopo edificabile quindi in questa zona potrebbero essere localizzate delle nuove abitazioni che l'amministrazione comunale può utilizzare o per l'edilizia residenziale sociale o anche per finanziare delle opere pubbliche mentre ad ovest di via Santa Liberata la cessione di quest'area circa 30.000 metri quadri è finalizzata alla realizzazione di attrezzature sportive siamo in una zona molto vocata ad attività sportive all'aperto vedi il campo da golf e i campi sportivi privati che ci sono lungo via dei tigli e che potrebbe vedere per esempio la delocalizzazione dell'attuale circolo del tennis che si trova in via Santa Liberata angolo via 25 aprile di fronte alla rocca che è una zona molto sacrificata molto compressa e che potrebbe essere utilizzata per altri scopi da parte dell'amministrazione anche qui nella scheda vengono sintetizzati i numeri di questa previsione i 43.000 metri quadri di terreno che rimangono a disposizione del privato contro i circa 35.000 metri quadri che vengono ceduti all'amministrazione comunale ovviamente sono sempre garantiti sia per la parte pubblica che per la parte privata agli standard minimi previsti dalla normativa sia in materia di verde pubblico che in materia di parcheggio pubblico in aggiunta rispetto a quelle quote di verde attrezzato che verranno destinate all'attrezzatura sportiva l'ultima previsione riguarda un'area tra via nuova e via pamperso si tratta di un'area attualmente classificata come zona agricola siamo in prossimità della rotatoria di via alberelli che viene proposta in modifica come zona di T1 cioè una zona per attrezzature sportive ludico-ricreative quest'area individuata dal PSC adottato come una zona di tipo residenziale viene meglio destinata attraverso questa variante specifica ad attrezzature private ma aperte al pubblico di tipo ludico-recreative come possono essere per esempio una piscina dei campi da tennis delle attrezzature anche per lo spettacolo piuttosto che per il tempo libero attraverso una convenzione pubblico-privata l'amministrazione comunale andrà a disciplinare l'accesso sia a questa struttura di carattere ludico-sportivo-ricreativo sia a quella struttura per anziani che è uno degli obiettivi dell'accordo di via dei tigli quindi una parte del contributo per equativo del contributo di sostenibilità che l'amministrazione ottiene da parte di questo privato che intende attuare la previsione viene trasformata in benefici per la collettività in termini di facilità di accesso alla struttura per gli anziani saranno un certo numero di posti letto convenzionati a determinati prezzi mentre per quanto riguarda l'attività ludico-ricreativa sarà una convenzione che stabilirà il prezzo dei biglietti di ingresso alle varie attività e attrezzature sia di tipo sportivo che di tipo ricreativo alla sezione numero 5 invece vengono scritte una serie di previsioni legate alle attività economiche già insediate sul nostro territorio così come aveva fatto il primo stralcio del piano della ricostruzione anche il secondo stralcio ha dato risposta ad una serie di richieste che sono pervenute anche a seguito dell'attività di partecipazione che l'amministrazione ha fatto per rendere pubblica questa possibilità questa opportunità si tratta di modifiche piccole e medie e grandi modifiche che vanno però tutte nello stesso tipo di direzione cioè vanno ad incentivare a sostenere le attività produttive già insediate a 12 Morelli per esempio viene ampliata la zona di tipo di 1 in via maestra grande per poter consentire ad un'azienda di poter realizzare un nuovo capannone al capoluogo viene modificata in via Fava alle spalle dello stabilimento Fava e dello stabilimento Baltur viene modificata una zona destinata a verde pubblico con vincolo preordinato all'esproprio scaduto trasformandolo in una zona di zero quindi priva di edificabilità propria che deve comunque garantire questa forma di filtro tra le attività residenziali che ci sono sul lato del macello e le attività produttive che ci sono verso via perarese ma che però può comunque garantire all'azienda di poter realizzare nuovi insediamenti produttivi a distanze inferiori rispetto al limite di zona che era preesistente a Casumaro viene inserita una zona di zero in corrispondenza di un'attività produttiva esistente si tratta di un'attività di vendita di materiali dei vini di nuovo nel capoluogo una previsione questa volta che va in direzione opposta rispetto a quelle che siamo abituati a vedere cioè viene richiesta l'eliminazione di una zona produttiva e il ritorno alla zona agricola di un ambito in via Cairoli verso la zona dei nostri capannoni per i carri mascherati in una zona molto marginale rispetto all'abitato esistente verso l'argine del Reno a Corporeno viene individuato un'area per l'impianto di istituzione di carburanti lungo la statale siamo più verso Dosso a dire la verità che verso Corporeno a Casumaro è stata chiesta una modifica di classificazione per poter garantire l'insediamento di alcune attività che altrimenti sarebbero state soggettate a piano particolareggiato e quindi avrebbero avuto delle complicazioni di natura procedurale nel capoluogo si modifica la classificazione da zona D4-3 a zona D1-8 solo perché all'interno della macro categoria D questo tipo di sottocategoria la D1-8 è più consona a quello che è il tipo di attività che si è insediata a Casumaro viene chiesta una modifica di classificazione da zona B a zona D in corrispondenza di un'attività produttiva esistente che altrimenti non riuscirebbe ad ampliare la propria attività a Renazzo viene modificata la classificazione da zona B a zona D5 in via Tassinari per un'attività di servizi alla sede alla sede della Molino Pivetti si tratta di una modifica ad un'area che attualmente è destinata a parcheggio privato dell'azienda che è volta alla realizzazione di un centro servizi che il Molino Pivetti intende realizzare per poter garantire al proprio inseriamento produttivo una zona di rappresentanza oltre che una sorta di laboratorio per la sperimentazione delle farine nella sezione 6 ci sono tutte le modifiche normative che riguardano le nuove destinazioni che vengono introdotte a livello cartografico ma oltre a quelle ci sono anche alcune modifiche che non hanno un particolare legame con la cartografia né evidenzio alcune quelle che ritengo più importanti per esempio all'articolo 23 applicazione completa dei parametri di utilizzazione fondiaria viene inserito un articolo che già il piano casa e poi una modifica alla legge regionale 20 avevano sollecitato a inserire all'interno delle strumentazioni urbanistiche comunali un articolo che va a premiare quei proprietari di abitazioni piuttosto che di edifici più in generale che intendono riqualificare la propria proprietà la riqualificazione è di tipo generale può riguardare l'abbattimento delle barriere architettoniche può riguardare l'efficientamento energetico l'efficientamento sismico può riguardare anche il miglioramento dell'aspetto della composizione dell'immobile per chi intende per esempio migliorare la forma del fabbricato attraverso una ristrutturazione del tetto piuttosto che una nuova forma dell'intero edificio questi interventi che vengono tutti quanti elencati all'interno della normativa sono incentivati dal punto di vista della superficie utile assegnata al fondo al lotto quindi chi intende migliorare il proprio edificio per almeno uno due o tre degli aspetti che vengono elencati nella normativa può accedere a delle maggiori potenzialità edificatorie che possono arrivare fino a un massimo del 20% in più rispetto alle esistenti quindi a fronte di un miglioramento funzionale piuttosto che di qualità compositiva piuttosto che di efficientamento energetico sismico l'amministrazione comunale mette a disposizione degli incentivi di superficie utile altra modifica degna di nota è quella che riguarda l'articolo 70 e i soggetti attuatori in zona agricola avevamo un articolo 70 un po' datato che riportava quali soggetti attuatori in zona agricola dei soggetti che non sono più riconosciuti dalla normativa vigente per cui si procede ad un aggiornamento di quest'articolo ma dietro questo che sembra un semplice adeguamento normativo c'è anche una modifica un po' più sostanziale viene definito in maniera chiara che i soggetti attuatori in zona agricola non sono solo gli imprenditori professionali agricoli o i coltivatori diretti sono riconosciuti come soggetti attuatori anche altri soggetti per esempio le società agricole che a fronte del pagamento degli oneri possono intervenire in zona agricola ad implementare i fabbricati che compongono l'azienda a condizione che questi fabbricati siano solo esclusivamente ad uso produttivo quindi sono esclusi da questa facoltà gli interventi di tipo residenziale un'altra menzione la farei per la disciplina particolaggiata del centro storico e per la tematica delle corti interne ritenute di valore storico in zona agricola questo è un intervento che ha a che fare anche con il terremoto andiamo a introdurre la possibilità per le corti storiche in zona agricola di poter intervenire anche con interventi di ristrutturazione edilizia così come negli edifici vincolati in centro storico dal restauro e risanamento conservativo diamo la possibilità di fare degli interventi più drastici più invasivi a condizione per entrambe le casistiche che sia documentato lo stato statico dell'edificio ma soprattutto che venga messo in evidenza qual è l'effettivo livello di valore storico culturale tipologico testimoniale che ha l'edificio in modo che solo quelle parti che hanno effettivamente determinati pregi e determinati valenze possano essere considerate come degne di restauro e risanamento conservativo mentre sulle restanti poter intervenire con un po' più di invasione al fine di ottenere come già avete ascoltato più volte in questa illustrazione delle migliori performance dal punto di vista sia strutturale quindi antisismico che dal punto di vista energetico nella sezione delle varie sono elencate una serie di rettifiche alla perimetrazione di zone edificabili abbiamo evidenziato con una sovrapposizione tra il PRG e il Catasto anche a seguito di una serie di richieste da parte dei privati dei disallineamenti che con questa variante andiamo a correggere queste operazioni di allineamento non vanno a produrre delle nuove vere e proprie potenzialità edificatorie ma consentono in molti casi di poter realizzare o degli ampliamenti a delle abitazioni o delle attività esistenti oppure di poter realizzare all'interno dei cortili di pertinenza di questi edifici delle nuove pertinenze all'interno di questa categoria ci sono anche alcune riclassificazioni da zona B1-7 a zona B1 che servono solo ed esclusivamente a evitare la presentazione del piano particolareggiato il piano particolareggiato in questi ambiti abbiamo verificato che non è uno strumento indispensabile per poter garantire una corretta trasformazione delle aree e in molti casi erano strumenti che disincentivavano o addirittura impedivano la trasformazione a causa dell'eccessiva parcellizzazione frazionamento proprietario degli immobili questa modifica consente ai proprietari di essere più autonomi nella gestione del proprio immobile viene riconosciuto in cartografia con un simbolo l'edificio destinato a caserma dei carabinieri a Renazzo anche essendo di proprietà dei privati è giusto che questo edificio che da anni è utilizzato per funzioni pubbliche abbia almeno questa corretta individuazione attraverso un simbolo si appunto percepisce che quello è un edificio anche se privato però destinato a funzioni pubbliche il cambio di classificazione da zona G1 a zona B0 in via Piemonte è un altro intervento che cerca di ripianificare un'area destinata a zona verde un vincolo preordinato all'esproprio ampiamente scaduto che è stato anche oggetto di un contenzioso che vede l'amministrazione a rischio di soccombere e che quindi con questa modifica che non produce nuove edificabilità ma riclassifica in maniera secondo noi coerente questa zona rispetto a quello che è il contesto si cerca anche di trovare una sorta di transazione con il privato infine la sezione numero 8 delocalizzazioni la legge regionale 16 all'articolo 9 prevede espressamente la possibilità per chi possiede fabbricati colpiti gravemente dal sismo quindi con danno di categoria almeno E di poter ricostruire il fabbricato lì dove era oppure se vuole di delocalizzarlo altrove se questa delocalizzazione avviene nello stesso ambito territoriale dove era preesistente il fabbricato danneggiato o addirittura demolito dal sismo allora la delocalizzazione può avvenire attraverso la richiesta del permesso di costruire quando invece la delocalizzazione avviene in ambiti diversi allora è necessario il piano della ricostruzione queste sono tre previsioni dove l'edificio preesistente viene completamente raso al suolo se non lo è già stato raso al suolo dal terremoto e trasferito in località completamente diverse da quelle originarie in via dei Gelsi zona sempre via dei Tigli verso l'argine del Reno in via Lamborghini all'incrocio con via Maestra Monca quindi in un ambito di tipo rurale e in un ambito invece del capoluogo dalle parti di via del Pioppo praticamente di fronte a quella previsione che avete visto prima descritto con la sigla C20 una precisazione importante in merito alle delocalizzazioni in base ai criteri individuati dalla legge 16 le delocalizzazioni vengono gestite in questo modo quando il fabbricato viene rilocalizzato delocalizzato in una zona rurale deve essere ricostruito con un unico corpo di fabbrica come quello originario utilizzando caratteristiche e forme consone a quella che è la tradizione quindi devono essere fabbricati simili ai fabbricati recuperati in zona agricola e non possono essere disgiunti separati in più fabbricati quando invece la delocalizzazione avviene in un ambito urbano periurbano o comunque in un ambito molto prossimo al consolidato urbano esistente allora in quel caso la delocalizzazione può avvenire anche sfruttando la potenzialità come se fosse una potenzialità di una zona di espansione o di una zona di completamento pura quindi un unico fabbricato può essere anche diviso in più unità immobiliari in più edifici è il caso per esempio di via del Pioppo dove appunto la delocalizzazione avviene in un ambito che come vi farò vedere è un ambito molto urbano questo io avrei finito con questa prima illustrazione rimango a disposizione per eventuali chiarimenti quindi grazie ingegnere vediamo se ci sono interventi grazie Presidente dunque io vorrei fare prego prego preisco posso? vorrei come anche ho fatto poi del resto in occasione dell'altro stralcio suddividere diciamo il mio pensiero in due tipi di valutazione una tecnica e una politica allora per adesso farei quella tecnica io sotto il profilo tecnico lo stralcio è abbastanza chiaro c'è stato modo sia in commissione sia questa sera discorrere rapidamente i tanti punti che compongono questa variante al piano regolatore che è fatta di tanti piccoli aggiustamenti e anche però di qualche intervento limitato al capoluogo qualche intervento di nuova costruzione io per quel che riguarda la nuova costruzione ho visto che l'area che è interessata limitandomi agli interventi di carattere residenziale è di circa 23 ettri 7 però sono ceduti interamente al comune per destinarli a aree attrezzate sportive e qualunque ho tolto da questo conto il terziario dai numeri che sto dicendo ho tolto il terziario perché lo vedo come compatibile con il rilancio del territorio e quindi ho tolto i metri quadri di SU commerciale della parte terziario per quanto riguarda la parte invece ad uso abitativo ho fatto il conto ho guardato nella relazione che poi ho guardato nella relazione e ho visto che c'è una SU che viene aggiunta rispetto a quella precedente di 20.890 metri quadrati questi 20.890 metri quadrati se li vado a trasformare in superficie commerciale mi diventano 32.000 metri quadrati commerciali aggiungendo la superficie accessoria ed aggiungendo le murature trasformate in superficie commerciale se divido per circa 100 metri quadrati questa superficie diciamo che un alloggio è circa 100 metri quadrati tengo fuori 325 alloggi diciamo 300 circa per fare un conto ora io mi auguro che mettere sul mercato altri 300 alloggi in un mercato già congestionato per il momento che stiamo vivendo sia una cosa che possa avvenire senza problematiche c'è da dire una cosa che le costruzioni che vengono fatte grazie alle nuove leggi nazionali e anche regionali sono costruzioni che sono sicuramente diverse da quelle che sono esistenti e in venduto in quanto avremo strutture antisismiche avremo prestazioni energetiche migliori avremo quindi un prodotto migliorato sotto il profilo politico invece non modifico la mia opinione precedentemente espresse che vedeva questa diciamo questo piano di pianificazione lo vedeva poco più di una variante al piano regolatore generale dove nella maggior parte dei casi non spiccano finalità condotte alla ricostruzione vedo invece con piacere la modifica dell'articolo 23 delle norme tecniche di attuazione che l'ingegnere ci ha appena illustrato dà dei premi incrementali di superficie rispetto a quegli interventi che vengono fatti con dei livelli di qualità migliori tipo le prestazioni energetiche spinte tipo l'eliminazione delle barriere architettoniche tipo l'arredabilità diciamo delle unità immobiliari il recupero delle acque meteoriche l'accessibilità verticale sensori e quant'altro riduzione del consumo di acqua potabile maggiori superfici permeabili all'interno dell'otto posti auto aggiuntivi tutte cose che dal punto di vista diciamo se dovessi parlare su Facebook direi mi piace io auspico adesso verrà adottato prima dell'approvazione possa essere anche ulteriormente migliorato grazie grazie a lei Capogruppo Pareschi Capogruppo Mattarelli prego in merito a questo secondo stralcio del piano della ricostruzione data anche l'ora ormai non più presto ribadirò quello che ho detto in commissione avendo esaminato velocemente non dal punto di vista tecnico come ha fatto il collega Pareschi che in professione si occupa esplicitamente di questi ambiti ma io non ho fatto questi calcoli ma in commissione ho ribadito ho detto alcune cose che ribadirò qua il piano della ricostruzione è uno strumento urbanistico potente che consente di applicare all'amministrazione una sua logica una sua visione urbanistica sopra al piano regolatore e sopra anche al PSC adottato ma non approvato e quindi si trasforma quello che sono le visioni e le correzioni anche tecniche che si possono fare sul PRG in strumenti in uno strumento urbanistico potente ci sono dei vincoli espropriativi che non condivido non ho condiviso e non condividiamo quello sul palazzo in cui siamo e soprattutto quello che non condivido di questo piano della ricostruzione è la logica ancora del vecchio PRG di scambio di aree pur con indici e parametri più bassi naturalmente ovviamente speriamo però alla fine quello che vi era fuori diciamo tra calcolato circa 300 alloggi in commissione si era parlato di circa 200 alloggi 200 alloggi quindi 800 persone 750 800 persone 600 automobili quindi sicuramente che si riverseranno dalla via del Piopo da via Santa Liberate via dei Tigli sul traffico congestionato già della città che si aggiungeranno quello già congestionato che esce da via Santorsano sulla via Ferrarese con la nuova urbanizzazione che non è piano della ricostruzione ma anche quella è verde che viene sottratto al verde della città e quindi tutto questo progetto questo piano della ricostruzione non fa altro che ricalcare quello che è la logica vecchia degli anni precedenti pur se con un rispetto di indici un po' più bassi cioè coprite del verde il verde viene eroso mangiato distrutto costruito incementato poi naturalmente ci sono i tecnici che sono contenti perché vedono far progetti disegni ma siamo ancora convinti che lo sviluppo urbanistico e l'adilizia di residenziale con tutto l'inventuto che c'è a 100 in Italia 830.000 immobili sia il futuro sia il futuro del PIL dell'occupazione del reddito del benessere dei cittadini secondo me no io mi aspettavo un piano della ricostruzione che volesse dire un vero e proprio piano della ricostruzione su quello che è il distrutto dal terremoto il danneggiato ma qui invece stiamo applicando delle logiche di piano regolatore tutto qui piano regolatore che poi alla fine se lo uniamo al piano organico per il centro storico se lo uniamo al piano della ricostruzione primo stralcio vediamo ben poche innovazioni di carattere divisioni diverse probabilmente non è possibile fare diversamente io non condivido questo piano della ricostruzione in questo modo l'unica idea che trovo ancora un attimino un attimino sopportabile è quella nell'area di via dei Tigli dove vediamo un'assistenza per anziani che però è un progetto di tipo come posso dire privato ma è di tipo utilitaristico cioè per fare bilancio per fare soldi perché poi alla fine è una residenza che verrà casomai a pagamento convenzionata ma a pagamento allora io non vedo non vedo una possibilità di migliorare né il PIL né la qualità della vita di questa città specialmente specialmente con la possibilità di dare con la possibilità di vedere costruiti altri circa 200 alloggi grossomodo nuovi con tutto quello che oggi è il problema residenziale dovuto al fatto che quello che è stato eccessivamente costruito in passato dalle amministrazioni e qui signor sindaco le ricordo nelle quali nessuno di noi dell'attuale centrodestra ha mai partecipato e non ha mai né partecipato alla pianificazione né alla pianificazione urbanistica né tantomeno alla progettazione urbanistica di questa città nel passato a cui lei ha fatto riferimento la volta precedente vero voi forse state correggendo qualche errore di natura urbanistica forse qualche stortura ma qui ci sono più che una stortura ma storture alle quali noi io in particolare non ho mai fatto parte non ho mai progettato quella città che oggi noi vediamo e difficilmente potrà essere modificata anche da questo piano della ricostruzione che ha una visione io non vorrei dirla in tono spregiativo perché naturalmente il lavoro degli altri non va mai disprezzato ma di carattere geometristico come potrei dirla non la vedo come una 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 ho cognato in questo momento un termine che non vuole essere ovviamente offensivo e spregiativo ma non la vedo come una nuova città dell'arte e della scienza come per esempio si vede a Valencia dove una parte della città è diventata un'altra cosa qui qui non si vede niente di questo qui si vede uno scambio di aree una monetizzazione sempre a favore di chi ha le aree che le concede ma più che altro vediamo poi alla fine che si trasformerà soprattutto in acquisto anche di immobili pubblici perché il primo stralcio ricordiamoci che c'era anche l'acquisto l'espropriazione di Casa Parini per il successivo acquisto e quindi io non vedo uno sviluppo della città peraltro quello che vedo ancora abbastanza fantasioso curioso è quello di fare una zona ludica una zona con le piscine all'aperto vicino alla rotonda di via alberelli che asomai ha pochi passi da dei silos che producono polveri anche se di grano e di frumento però sempre polveri oppure di vedere un ulteriore grande distributore a Corporeno dalla parte quasi verso dosso come ha indicato prima l'ingegnere che pur essendo per la concorrenza ricordiamoci che sulla direttrice Modena Ferrara nel giro di tre chilometri ci sono già quattro grossi distributori due con questo che verrà fatto eventualmente Corporeno due in via Modena e sono tre chilometri voglio dire va bene la concorrenza però obiettivamente io non non vedo anche questa una grande una grande inventiva o una grande spazio alle nuove alle nuove idee è chiaro che i nuovi mobili che vengono costruiti sono tutti costruiti con le nuove tendenze di carattere energetico urbanistico e vorrei ben vedere però è anche vero che in centro abbiamo un sacco di immobili invenduti vuoti che stanno degradando e purtroppo chi li possiede siano essi privati o aziende vedono i loro investimenti deperire se il loro investimento deperisse la loro situazione economica finanziaria pure e questo si riversa sul pil della città che non può che essere orientato al negativo per dare una visione diversa probabilmente bisognava avere anche qui come nel piano organico si è avuto una qualche idea fantasiosa di vedere qualcosa di diverso qui invece non vedo questo scatto e soprattutto non vedo altro che la logica degli scambi di aree e di terreni fra chi li possiede e chi non li possiede la solita vecchia logica del piano del regolatore che chi improvvisamente ha un pezzo di terra in campagna dopo un poco diventa fabbricabile e diventa ricco ecco questa non è creazione di posti di lavoro non è pil non è futuro non è economia digitale non è niente di tutto questo e non mi sembra affatto innovativo è il solito scambio di favori con i padroni della roba grazie bene grazie Mattarelli Cosma Tassinari prego non è la parola sì buonasera faccio contento Mattarelli stasera parlo intervengo così rendiamo anche un po' più vivace la serata visto che dobbiamo far tardi almeno passiamocelo a tempo no in realtà io intervengo perché come faccio sempre mi riprometto di fare anche a costo di ripetere infinite volte le stesse cose che dico molto spesso quando approviamo degli strumenti urbanistici è che io continuo ad essere convinto che diversamente da quello che pensa Mattarelli questo strumento sia profondamente diverso non solo è profondamente diverso dal piano regolatore che ha una logica completamente diversa ma è completamente diverso nonostante sostanzialmente la logica diciamo normativa sia molto vicina a quella del PSC la logica politica con cui è stato fatto questo piano della ricostruzione è proprio dalla parte opposta rispetto a quella del PSC Mattarelli come ho detto quando parlavamo dell'insediamento di via del Pioppo le città verdi sono bellissime i parchi sono bellissimi le suggestioni come quelle che abbiamo visto prima il piano organico sono bellissime però a me piace correre sui parchi di erba e non sui parchi di carta quindi il fatto di poter accettare un'urbanizzazione peraltro un'urbanizzazione come viene chiesta oggi dal mercato come sa benissimo lei Mattarelli perché è inutile che stiamo qui a farci discorsi sui 100, 1000 o 10.000 immobili invenduti a 100 sapendo benissimo che non sono immobili invenduti ma forse sono immobili invendibili in molti casi ecco dicevo accettare e forse di buon grado un'urbanizzazione di questo tipo a 100 per avere in cambio una struttura residenziale protetta per anziani parchi pubblici aree sportive ecco a me piace perché io sulle aree sportive costruite con l'erba ci posso andare a correre mi piace poi faccio solo un piccolo appunto a lei consigliere Mattarelli mi piace lei interviene molto quindi si prende anche un po' di appunti il fatto che lei si dice sempre convintamente liberale poi però accidenti fare prevedere un nuovo distributore sulla via statale è un grosso problema perché può mettere in difficoltà l'altro distributore presente gli altri tre certo ma non è la concorrenta quello che lei presta Mattarelli perfetto rispetto alla concorrenta non abbiamo tutti come beneficio anche l'abbassamento dei prezzi per esempio come cittadini poi dispiace è chiaro per quei tre distributori di carburante che avranno un po' meno di lavoro non siamo felici che le persone abbiano meno lavoro però se poi abbiamo delle pompe di benzina con un carburante un po' meno costoso e questo discorso può valere per tutte le attività economiche come lei ben sa consigliere Mattarelli forse non ne abbiamo così male bene grazie consigliere Tassinari data l'ora c'è ancora mi pare una decina di punti portiamo in votazione questo punto prima naturalmente dell'intervento dichiarazione di voto certo ha ragione del capogruppo Magagna grazie presidente dispiace per il consigliere Cosma sono intervenuto dopo di lui ho rovinato una consuetudine mi dispiace vorrei dare a parte che il mio voto sarà contrario questo minuto però che mi è concesso voglio dire due cose una consigliere Cosma sì la concorrenza va bene però se si fa concorrenza creando un problema tutte le attività o parte di attività dello stesso ramo che quindi tutti non vanno più avanti non ha molto senso bisogna anche guardare il numero delle attività di un certo genere per far sì che tutte possono avere una redditività tale da poter continuare ad avere l'attività perché se tutti dopo non guadagnano più da poter sostenere il proprio reddito non ha senso perché saltano per aria parte quello l'altro aspetto è che ho condiviso quindi non sto neanche ripetendo quanto ha detto il consigliere Pareschi quindi faccio un coppia in colla e vorrei fare una precisazione al sindaco che mi piace sempre tirare fuori cose storiche diciamo però si scorda poi sempre di dirle tutte è vero il PD nel PSC non l'ha votato perché diceva che era sovradimensionato ricordiamo anche che la Lega Nord ha provato prima nella propria maggioranza non c'è riuscito a cambiarlo e anche la Lega lo riteneva inopportuno e sovradimensionato e come il PD si è alzato dal consiglio il sito fuori non l'ha votato e quindi ha avuto la stessa valenza del suo partito quindi diciamo le cose tutte come sono è vero il PD ha fatto una cosa ma l'ha fatta anche la Lega Nord non diciamo solo parte delle verità perché è giusto dirle completamente dare a Cesare quello che è perché tra l'altro non è che l'ho sentito dire ero io quello che si è alzato lo so comunque il voto per questo piano della ricostruzione sarà contrario per quello che come ho detto condivido di cui è stato anche detto precedentemente al consigliere coerentemente con quanto fatto anche nella scorsa negli scorsi stralci l'unica cosa che ridico che ha già detto lui è che effettivamente il piano della ricostruzione di ricostruito c'è poco è vero che tutto normato consentito e quant'altro quindi non c'è niente che non vada bene però è più una grossa nega variante di PRG di ricostruzione c'è oggettivamente quindi grazie il gruppo Pareschi per dichiarazione di voto il mio voto sarà di estensione auspicando il miglioramento nella fase delle osservazioni mi sono dimenticato di dire prima lo torno a dire lo dico sempre poi dopo non ottengo mai soddisfazione che manca anche qui non ho visto il parere delle consulte il parere delle consulte è obbligatorio io torno a dirlo lo dico sempre ma lo ritengo che sia così grazie interventi mettiamo in votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno piano della ricostruzione l'articolo 13 legge regionale 16 2012 adozione secondo starcio che è favorevole favorevole gruppo PD federazione della sinistra chi si stiene la votazione l'abbiamo già chi si stiene è tenuto il gruppo per le pressioni chi è contrario gruppo noi che Lega Nord Forza Italia approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera che è favorevole unanimità punto 8 all'ordine del giorno autorizzazione alla ditta l'uva SRL con sede in renasso alla presentazione di un piano di recupero di iniziativa privata in via larga a renasso relazione signor sindaco assessore all'urbanistica prego sì grazie presidente è una proposta di deliberazione lo dico spesso quando l'oggetto della delibera è lungo la relazione dell'assessore di riferimento è breve autorizzazione alla ditta l'uva per la presentazione di un piano di recupero di iniziativa privata in via larga a renasso sostanzialmente noi oggi diamo un anno di tempo alla società l'uva per presentare un piano di recupero relativo agli immobili appunto ubicati in via larga a renasso superficie fondiare complessiva di 3780 m2 nella quale si prevede la demolizione degli immobili artigianali dismessi è un'ex segheria per imballaggi e di recupero delle superfici preesistenti nuovi fabbricati per 6 unità immobiliari ad uso residenziale sostanzialmente è una di quelle attività di recupero di un vecchio di una vecchia presenza diciamo artigianale che un po' per la caratteristica del nostro territorio sono così frequenti in particolare nel territorio spasso della partecipanza è un intervento lo dico senza particolare il più serenamente possibile ma anche il più sinceramente possibile che non è particolarmente condiviso al punto che la normativa vigente è stata poi modificata con piano della ricostruzione queste logiche di recupero di edifici diciamo artigianali non saranno più consentiti la domanda è pervenuta quando questa riconversione era invece incentivata e auspicata dal nostro regolamento urbanistico diciamo che l'intervento complessivo è un intervento comunque misurato e quindi ancorché la logica generale non sia particolarmente condivisa da me l'intervento specifico è un intervento sostanzialmente di buon senso sei unità abitative eccetera faccio una riflessione più in generale sulla filosofia di fondo voi avete presente che in particolare per la presenza della partecipanza agraria ma a prescindere da questo noi abbiamo una tradizione di unità artigianale sparse anche nel territorio rurale in maniera significativa che nella frazione di Renanzo poi in maniera molto massiva in una certa fase storica hanno visto nascere segherie quindi edifici con capannoni piuttosto grandi ma in altre località ci sono altri tipi di attività comunque sempre caratterizzate da una certa presenza di capannoni e rimessaggi la logica tutta la cubatura di un'ex attività artigiana può essere convertita in residenza rischia di creare quell'effetto micro borghi sparsi nel territorio che a mio modo di vedere comporta un consumo di territorio non particolarmente rispettoso e porta a una serie di problemi dal punto di vista delle dotazioni di servizi per questi micro aggregati che possono nascere in territorio sparso in questo caso sia per l'ubicazione che per le tipologie del progetto che per una serie di altre valutazioni l'intervento appare comunque accoglibile e da qui la delibera di cui stiamo discutendo se ci sono domande a disposizione interventi prego capogruppo Pareschi ho visto che la domanda è stata presentata nel dicembre del 2011 volevo sentire se è possibile le motivazioni per cui fino ad oggi è ancora sospesa la domanda dalla ditta l'UVA è stata presentata il 6 di dicembre del 2011 volevo capire se esisteva qualche problema per cui ancora oggi se ne stava parlando telegraficamente è più o meno quello che ho cercato di dire prima è una tipologia di intervento che nella sua categoria generale non è condivisa al punto che abbiamo modificato il regolamento c'è stata un'istruttoria molto ampia proprio perché la consideriamo l'ultima eccezione a una nuova regola l'eccezione è stata consentita non solo perché comunque la richiesta è antecedente rispetto alla modifica normativa e quindi voglio dire un minimo di certezza del diritto bisognerà anche garantirla ma anche perché a seguito di un'istruttoria ampia si è ritenuto che questo fosse tollerabile accettabile resta valido quello che ho detto pochi istanti fa cioè sul fatto che l'automatismo struttura artigianale dismessa dunque conversione della cubatura in nuova edificabilità di tipo residenziale è un automatismo che adesso non esiste più nel nostro territorio e io credo che sia un elemento di tutela del paesaggio che molto opportunamente è stato da noi tutti come assemblea con voti pur diversi introdotto recentemente secondo giro adesso mi voto mettiamo in votazione il punto numero 8 all'ora del giorno autorizzazione di talude a sharelle consiglio di renasso alla presentazione di un piano di recupero di iniziativa privata in via larga renasso che è favorevole ringraziamo l'ingegnere Piacodio per vederci allora votazione PD pd favorevole setazione della sinistra chi si stiene astenuto noi che forse italia lega nord per le frazioni approvata maggioranza immediata esecutività unanimità punto numero 9 convenzione con il con con i comuni di Crivalcore per la gestione congiunta del campo da calcio e degli spogliatoi sovracomunali in frazione di bevilacqua rinnovo periodo 2014 2015 in relazione signor sindaco prego ho la sensazione che oggi rischio di fare l'unplay sull'illustrazione delle delibere è la prima di una serie di convenzioni che oggi abbiamo l'ordine del giorno la gran parte sono costituite da rinnovi questa è una tra quelle voi sapete che bevilacqua è frazione divisa fra due comuni è buona prassi tra le due amministrazioni collaborane a gestione degli impianti a servizio della cittadinanza questo è il campo da calcio che è nel territorio dell'un comune ed è gestito in convenzione con l'altro non facciamo altro che rinnovare la convenzione alle medesime condizioni che si ripetono ormai invariate da parecchi anni annotazione perché ne stiamo parlando assieme al comune di Crevalcore realizzeremo con un meccanismo analogo terreno di proprietà del comune di Crevalcore ed edificazione da carico del comune di Cento la nuova palestra della scuola quindi è una tradizione consolidata quella di collaborare con i comuni frontalieri che si era un po' persa per alcuni anni si è ritrovata e oggi rapporto è molto forte con tutti delibera tecnica condivisibile per cui mettiamo in votazione il punto numero 9 all'ordine del giorno convenzione con il comune di Crevalcore per la gestione congiunta del campo di calcio e degli spogliatoi sovracomunali in frazione di Bevilacqua rinnovo periodo 2014-2015 che è favorevole con un'unanimità immediata stavo per fargli complimenti finalmente ogni tanto almeno si diceva che votare contro questa allora vuol dire non vuol dire allora siamo al punto numero abbiamo già votato la immediata esecutività all'unanimità modifica convenzione fra il comune di Cesena amici Anci Emilia Romagna l'unione dei comuni della bassa Romagna e altri per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente io credo che non ci sia neanche da relazionare abbiamo già parlato e riparlato una cosa anche questa condivisa io direi che ne la mettiamo ah allora diamo la parola speravo che passasse velocemente diamo la parola al capogruppo Massarelli prego al fine di migliorare il tema siccome abbiamo parlato di queste cose di patologie del rapporto di lavoro dipendente molto spesso si parla di mobbing quindi forme di vessazione che si chiamate nei confronti dei dipendenti comunali che possono arrivare anche involontariamente e all'insaputa degli organi amministrativi allora recentemente ho partecipato a un convegno di specialisti sul tema organizzato dall'ordine dei dottori commercialisti e dal di Ferrara e dall'ordine degli avvocati di Ferrara in camera di commercio e se l'amministrazione lo riterrà opportuno credo che valga la pena casomai affrontare il discorso di un o convegno anche locale o un incontro con i vertici amministrativi della città con la giunta al fine di valutare la possibilità di fare una specie di sensibilizzazione dei dipendenti comunali in merito a questo tema tema che peraltro è molto diffuso proprio negli ambienti di lavoro pubblici più che privati e specialmente nel settore credito e media industria quindi un suggerimento che ho piacere che l'assemblea ne venga a conoscenza se poi il signor sindaco vorrà approfondire avremo modo in futuro bene capogruppo Magagna prego grazie la mia era solo una curiosità che forse magari non sapete neanche illustrarmi perché non è inerente è su questa delibera ma non è strettamente correlata con il centro notavo che tra gli enti ci sono alcuni enti che entrano e altri che escono ci sono due unioni e quattro comuni e come specifica per le due unioni una è quella della Reno Galliera quindi di là dal ponte escono fuori da questa convenzione per esigenze organizzative avete qualche notizia in più cioè come mai questi due unioni e quattro comuni sono tirati fuori da questa cosa infatti io chiedo però immaginavo che comunque due anni fa abbiamo votato favorevolmente e votiamo come Degano favorevolmente anche questo rinor solo per la verbalizzazione no non abbiamo informativa di quello che avviene in altre unioni quindi punto 10 all'unione del giorno modifica convenzione con il comune di Cesena Anci Emilia Romagna l'unione dei comuni della bassa Romagna e altri per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente chi è favorevole unanimità immediata esecutività unanimità passiamo al punto 11 all'orine del giorno approvazione schema di convenzione 11 approvazione schema di convenzione tra la provincia di Ferrara e Comunicento per la gestione del centro per l'impiego dell'Alto Ferrarese Sedincento periodo 1-1 2015 31-12 2016 lo stesso tenore del libro numero 12 andiamo a leggere poi voteremo di aggiuntamente approvazione schema di protocollo d'intesa per l'amministrazione provinciale di Ferrara e il comune di Cento e la direzione IMS di Ferrara per la gestione di un punto IMS presso il centro per l'impiego dell'Alto Ferrarese Sedincento Ferrara periodo 1-10-1 2015 1-1-2015 31-2016 anche questa mi sembra un attimo un attimo prego che eravamo nel periodo di modifica dell'assetto delle province ricordate di sì quell'occasione siccome la provincia sta cambiando da ente di primo ente di secondo livello non è chiaro come si andrà ad assestare questa cosa e quindi allora ritiriamo il punto e prendiamo tempo il punto in realtà riguarda il fatto che nel centro per l'impiego insomma quello di via Mare Scalca di fronte a piazzare Sette Fratelli Govoni coesistono il centro per l'impiego e un punto INPS entrambe risorse preziose per il nostro territorio oggi riportiamo in consiglio la convenzione per il mantenimento del punto per una serie di motivi il primo perché ci siamo stancati di aspettare di capire cosa succederà delle province enti di secondo livello nel senso che questo passaggio da primo al secondo livello dell'ente ha tempi un po' lunghi e quindi non è più possibile differire in secondo luogo perché già comunque il consiglio provinciale ha deliberato la sussistenza del centro di centro come un centro strategico nell'ambito delle politiche di promozione dell'incontro tra domande e offerte di lavoro e quindi posto che il nostro centro sta ancora nella piantina nella carta geografica dei centri per l'impiego di questa provincia ecco che allora accompagniamo questo percorso andando a chiudere la convenzione resta inteso che il prossimo periodo potrà essere un periodo di cambiamenti mano a mano che la provincia avrà un orizzonte più chiaro di quelle che sono le sue competenze e che noi poi faremo la parte di nostra rispettiva competenza Prego Capogruppo Magagna Sì dovrebbe essere parte della risposta di quello che vuole dire però non fu ritirato perché qui c'è la delibera che dice che fu approvato il 30 luglio del 2014 la mia domanda era come mai se in consiglio comunale era stata approvata la deliberazione il 30 luglio poi la stipula della convenzione è stata fatta 10 giorni fa 20 giorni fa il 9 di dicembre la mia domanda era questa perché deliberata in consiglio non capivo il perché si fosse aspettato così tanto per fare questa stipula perché è stata fatta 20 giorni fa un nuovo schema di convenzione per il periodo primo gennaio 2014 31-12-2014 che però è stata stipulata il 9 di dicembre mi sembrava un po' un'anomalia infatti per lui direi che sono quasi certo che sia un errore perché se vedete oggi approviamo lo schema di convenzione se avessimo già approvato lo schema di convenzione a luglio all'epoca ritiramo il punto perché c'era un dubbio io sono abbastanza certo se la memoria non mi inganna che non sia poi più tornato il consiglio comunale se così è è un errore faremo la correzione materiale qualora non fosse un errore nel prossimo consiglio comunale utile vi daremo conto di cosa è capitato ma credo di non sbagliare quando dico che erroneamente è stata indicata l'approvazione invece l'approvazione non c'è stata poi c'eravate anche voi a me sembra di ricordare che non abbiamo votato ecco voglio dire poi io non ricordo non più soddisfatto sì va bene andiamo votiamo allora votiamo prima il punto numero 11 approvazione schemi di convenzione tra la provincia di Ferrara e il comune di Centro per la gestione del centro per l'impiego dell'alto ferrarese sedicento periodo 1-1 2015 31-12 2016 che è favorevole 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 ma ganale favorevole favorevole gruppo PD della seconda sinistra noi che Forza Italia chi si astiene astenuto per le frazioni e lega nord approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità delibera numero 12 approvazione schema di protocollo d'intesa tra l'amministrazione provinciale di Ferrara il comune di Centro e la direzione IMS di Ferrara per la gestione di un punto IMS presso il centro per l'impiego dell'alto ferrarese sede di Centro periodo 1-1 2015 31-12 2016 chi è favorevole favorevole gruppo PD federazione della sinistra noi che Forza Italia lega nord sei favorevole questo vedo la mano sei confuso allora chi si astiene astenuto lega nord per le frazioni approvato alla maggioranza immediata esecutività unanimità punto numero 13 all'ordine del giorno rinnova convenzione tra il comune di Centro e Lacer Ferrara per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale per la durata di 5 anni anche qui credo non ci sia bisogno di che è già stato ampiamente illustrata quindi mettiamo in votazione la delibera appena citata chi è favorevole PD federazione della sinistra noi per le frazioni chi si astiene astenuto noi che Forza Italia lega nord approvato a maggioranza immediata esecutività della delibera unanimità delibera numero 14 approvazione della convenzione per la gestione associata del servizio di protezione civile dell'alto ferrarese tra i comuni di Bondeno Centro Mirabello Poggio Renati Presidente Agostini di Garano Mainarda anno 2015 non c'è bisogno di relazionare relazioniamo questa volta il sindaco ne ha voglia prego signor sindaco adesso la voglia è un concetto relativo però diciamo che sento il bisogno di mettervi a parte di un ragionamento che vale per il punto 14 e anche per il punto 15 sono due convenzioni che ci portano verso l'operatività dell'Unione Alto Ferrarese in particolare si è deciso in giunta dell'Unione e per quanto riguarda il punto 14 il punto 15 anche nel comitato di distretto di procedere al rinnovo delle convenzioni così come vigenti sino a domani dopo domani per un altro anno come operazione diciamo paracadute ma in realtà ci siamo dati politicamente l'obiettivo di procedere alla nuova convenzione in capo all'Unione vera e propria entro Pasqua perché questa scelta la scelta è semplice le convenzioni sono sostanzialmente pronte stiamo predisponendo un aspetto che però è fondamentale per l'operatività dell'Unione che è quella di dotare l'Unione stessa dei cosiddetti servizi orizzontali quindi tesoreria bilancio le funzioni essenziali stiamo studiando qual è la forma che ci consente di avere il più alto livello di efficienza in questa fase di start up che ha carichi di lavoro piuttosto ridotti contemporaneamente cercando di ottenere il miglior rapporto costo beneficio e quindi stiamo ragionando diciamo ampio raggio ci siamo dati come giunto dell'Unione l'obiettivo di risolvere questo punto tra i primi alla ripartenza dell'anno nuovo e quindi una volta chiuso questo punto potremmo iniziare il giro nei singoli comuni e poi nel consiglio dell'Unione per l'approvazione delle convenzioni di cui sopra l'ultima annotazione la debba un articolo di stampa uscito qualche giorno fa in cui veniva messa paventata un sconvolgimento all'interno dell'Unione come se ci fosse un clima di conflitto in realtà nulla di questo in particolare un assessore del comune di Bondeno evidenziava presunti ritardi nel convenzionamento purtroppo ha ragione nel senso che c'è stato oggettivamente un rallentamento curioso che lamentarsi sia il comune di Bondeno visto che il rallentamento è da imputare al 100% alla richiesta dell'allora sindaco Fabri di attenderlo fino a quando non avesse finito la sua fase di campagna elettorale ci siamo fermati due mesi per consentire di fare la campagna elettorale adesso il suo assessore che forse non lo sa dice avete perso del tempo la logica della giunta dell'Unione era stata quella di rispettare un sindaco che si trovava a competere in una campagna elettorale oggettivamente complicata insomma quindi il motivo del ritardo è ascrivibile a questo sono convinto che siccome stiamo facendo l'Unione la stiamo facendo per sempre aver aspettato il sindaco Fabri per due mesi è una cosa che fa onore all'intero Alto Ferrarese e quindi ho trovato un po' in generosa l'accusa ma ci sta perché anche questa è un po' politica ma quello che voglio rappresentarvi è che il clima in realtà continua a essere quello di grande collaborazione tant'è che il percorso di questi due rinnovi è stato votato all'unanimità in giunta regionale in giunta dell'Unione bene approvazione convenzione per la gestione associata al servizio di protezione civile all'alto ferrarese tra i comuni Bondeno Centro Miraberlo Poggio Renatico Sant'Agostino e Via Granai Anno 2015 che è favorevole unanimità mi sembra sì vedo un'anima immediata esecutività della delibera unanimità stessa cosa per la delibera numero 15 convenzione tra i comuni di Centro Sant'Agostino Mirabello di Verano Minarda e Poggio Renatico per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali con la partecipazione limitata del comune di Bondeno approvazione rinnovo anno 2015 che è favorevole unanimità punto numero 16 immediato in un'unità evidentemente un'unità che dovremmo metterlo all'ufficio tutte le volte convenzione numero 6 convenzione di reciprocità tra i comuni di Sant'Agostino il comune di Centro per il servizio di mensa scolastica ampiamente dibattuto in commissione capigruppo quindi mettiamo in votazione se qualcuno vuole no non c'è interventi chi è favorevole favorevole gruppo unanimità immediata esecutività della delibera unanimità punto punto numero 17 convenzione tra la provincia di Ferrari e i comuni del territorio per organizzare organizzazione e sviluppo della rete bibliotecaria provinciale primo gennaio 30 giugno 2016 quindi approvazione credo che sia una cosa banale per cui mettiamo in votazione il punto che è favorevole unanimità immediata esecutività unanimità siamo arrivati all'ultimo punto l'ore del giorno interrogazioni interpellanze chi chiede la parola pensavo di no consigliere capogruppo Magagna a lei la parola la mia non sarebbe neanche un oggettivamente una vera interrogazione perché io ho fatto una richiesta ho fatto una richiesta protocollata su un determinato tema ma aspettavo speravo e auspicavo che il sindaco ne desse conto nelle comunicazioni del sindaco nel primo punto quindi nelle comunicazioni del sindaco ma non ne ha minimamente parlato quindi io non l'avevo presentata come un'interrogazione perché secondo me era semplicemente da spiegare perché è sulla questione delle perizie del Pasco e infatti era una richiesta di chiarimenti perché con tre con tre visite alle Pasco gli sono uscite tre cose differenti con discrepanze non da poco e come avevo messo nella premessa di questa richiesta è in base poi a quanto emerso da questo che si è scelto poi di fare ci ha optato per fare per costruire la scuola di Corporeno quindi io ribadisco nelle comunicazioni speravo auspicavo che il sindaco ne desse conto non ne ha dato conto non so se ha voglia di oppure dice che magari lo spiega al prossimo giro non lo so però gradirei anche per i cittadini perché quanto emerso dal periodico che ha evidenziato tutto questo lo leggono in tante persone mi sembra giusto che si possa avere una risposta che tante persone possono avere perché adesso forse ci stanno guardando davvero in due persone però se vuole si dice vai a vedere lo streaming e sa di cosa si sta posto immediato bene signor sindaco prego sì no in realtà non ci siamo semplicemente capiti io pensavo lei me lo volesse porre nell'interrogazione di interpellanza e quindi non sì sì non volevo toglierle la paternità della richiesta e quindi usciamone e comunque sì adesso le rispondo e quindi non è un problema sì fa piacere anche a me pur se non è la prima volta che chiarisco questo punto questo punto è stato chiarito parecchie volte anche sull'interrogazione del capogruppo Mattarelli recentemente non ricordo se fosse la risposta scritta quindi forse quello può essere il motivo per cui non è stato messo al corrente il capogruppo Magagna in realtà sul fatto che sia uscito su un periodico locale è oggettivo sul fatto che lo lega tanta gente ognuno ha la sua opinione sul fatto che ci sia bisogno di chiarire quel punto anche su questo ognuno ha la sua opinione ma un elemento di chiarezza male non fa mai esiste un sistema di verifiche fatte sulla scuola Pascoli la prima verifica è una verifica fatta dal Mibac in quanto bene vincolato che ha indicato la cifra necessaria per il ripristino dell'edificio stesso e la quantificata lo prenda con beneficio di inventario perché posso sbagliare mi dà un suggerimento? no no circa nell'ordine di 400 mila euro qualcosa meno è il Mibac esiste un'ulteriore verifica speditiva fatta dall'ingegner biotalline no fatta fatta eh fatta da un altro che quantifica il danno in una cifra quasi dieci volte superiore oltre tre milioni e mezzo di euro poi esiste un un progetto preliminare per il ripristino che è stato fatto con procedura di pubblica evidenza e che ci è stato consegnato circa un mese fa che conferma la valutazione del danno in qualcosa di più di tre milioni e mezzo di euro il come? no niente non è una domanda e il motivo della discrepanza in realtà eh non c'è perché non c'è nessuna discrepanza nel senso che anche il progetto preliminare quantifica in circa 400 mila euro il ripristino del danno cioè dice ripristinare il danno costa 360 380 circa qualcosa meno di 400 mila euro è il raggiungimento del livello di miglioramento sismico previsto dalla normativa che comporta la differenza di costo perché per raggiungere quel livello di sicurezza è necessario intervenire sui solai intervenire sui solai lo dico a chi ha un'esperienza tecnica ovviamente maggiore della mia è un intervento particolarmente invasivo e quindi il motivo della discrepanza è che mentre il MIBAC ha fatto una verifica visiva e la prima perizia invece fece già una prova di carico mentre la seconda perizia ha fatto prove di carico ai carotaggi la discrepanza è che all'occhio cioè il livello del quadro fessurativo crepe disconnessioni eccetera ha un costo di ripristino come quello che vi ho quantificato portare i solai a livello di portanza prevista da normativa fare le legature fare tutta quella serie di attività comporta un intervento molto invasivo sulla struttura scuola che ha un costo di intervento stesso molto importante e un costo di ripristino al termine dell'intervento stesso ugualmente importante su questo lo dicevo prima il rapporto con l'ufficio sismico della regione e con la struttura commissaria della regione è costante perché l'edificio Pascoli è un unicum da questo punto di vista nell'area del cratere per le sue caratteristiche perché è un edificio scolastico vincolato e non sono tanti nell'area del cratere ad avere il livello di vincolo è un edificio scolastico di grandissime dimensioni stiamo parlando di due aste di circa di più di mille metri quadri per piano per asta quindi stiamo parlando di un edificio molto vasto e stiamo parlando di un edificio che ha un costo di ripristino a metro quadro fatto anche a computometrico assolutamente rilevante soprattutto perché la criticità riguarda l'intersezione tra solai e pareti cioè è lì che dobbiamo intervenire quindi è un tema di carico di portanza questo ha creato un'apparente contraddizione legata al fatto che in un primo tempo la procedura commissariale ha preso per buona la perizia del Mibac perché era una perizia diciamo pubblica mentre la nostra valutazione è una valutazione di parte ma immediatamente è stata trasmessa la valutazione di parte alla regione che ne ha preso atto e abbiamo concordato di rinviare all'effettuazione di un progetto preliminare il progetto preliminare ha tolto ogni dubbio nel senso che lo dico ai tecnici al tecnico che è tra voi ma penso che avendo tutti quanti gestito cose pubbliche pur dai banchi del consiglio comunale ne avete un po' coscienza il progetto preliminare presuppone settimane di lavoro contro diciamo le decine di minuti di sopralluogo del Mibac e le ore di lavoro del primo sopralluogo fatto dal tecnico perito che ci ha sopportato nella fase di contestazione e l'assicurazione lo do come annotazione è già stato detto in più occasioni chi ci ha seguito per la perizia per l'assicurazione questo è il professor Dio Tallevi ha valutato il livello di danno ma aveva una franchi cioè un massimale assicurativo di 2 milioni di euro e noi avevamo 20 volte quella cifra dal punto di vista dei danni quindi aveva sì bisogno di capire il livello di danno ma non doveva andare così per il dettaglio fino ad arrivare alla quantificazione nel senso che purtroppo nel comune di Cento i 2 milioni di euro li abbiamo potuti documentare molto facilmente visto che questo era il massimale assicurativo per cui eravamo coperti nonostante questo il nostro perito di assicurazione ha comunque fatto qualche prova di carico e ha comunque acceso il primo punto interrogativo sul fatto che il livello fessurativo e il livello di danno percepito a una visione è una cosa il costo necessario per arrivare a un livello di sicurezza accettabile è tutt'altra siamo davvero un caso unico da questo punto di vista lo stiamo gestendo in maniera concertata con la regione il costo complessivo dell'edificio è un costo dal punto di vista del ripristino molto elevato e siccome tutto il meccanismo della ricostruzione si basa su quote di risorse imputate alle diverse tipologie di edificio e per ciascuna tipologia ci sono dei tetti andare a calcolare è molto complicata spero di trasferirvelo andare a calcolare l'intero ammontare del ripristino delle pascoli su una sola annualità dei nostri contributi rischia di farci mettere usate l'espressione balorda tutti i fagioli in una sola pentola cioè in un solo vaso invece ne abbiamo bisogno di poter lavorare su più fronti la stessa cosa vale per la regione che non mette in dubbio la copertura e il finanziamento dell'intervento ma assieme a noi sta individuando come imputarne la copertura stessa è un lavoro complicato mi riallaccio alla discussione di un paio d'ore fa se sembra che sia abbandonato è una percezione sbagliatissima perché non passa settimana senza che si dedichino alcune ore a fare qualche passo avanti su quel fronte è un tema davvero delicato al punto che per questo è stato costituito un gruppo di lavoro regione Mibac comune il gruppo di lavoro fosse un'espressione ridondante ma un gruppo che comunque si è già riunito più volte per analizzare l'aspetto tecnico oggi il ruolo del comune è un po' più ridotto cioè il ruolo del nostro ufficio tecnico perché abbiamo un progetto preliminare che è diventato il punto di riferimento di qualunque valutazione perché è un progetto preliminare fatto da uno studio anzi da un atti tra professionisti che si è giudicato all'appalto e che ha prodotto una relazione molto corposa corredata da una sede di attività di indagine puntuale il ufficio tecnico credo proprio in questi giorni gli ha chiesto un piccolo supplemento perché stiamo cercando di andare a capire alcune cose che non ci sono chiare e che cercheremo di approfondire già nelle prime settimane dell'anno stiamo provando a mettere a fuoco al meglio la situazione lo dico e io capisco che una passeggiata fatta una mattina con tre tecnici e un consigliere comunale possa dare delle sensazioni diverse ma vi assicuro che valutare un edificio di quelle dimensioni presuppone un sopraluogo molto lungo molto accurato e in questo caso è stato fatto un lavoro di analisi che ha comportato il geometra Parischi può aiutarmi nel suo esti geometra non di capogruppo hanno dovuto forare aprire fare delle perforazioni per andare a vedere la struttura come è stata costruita eccetera eccetera il tutto in un rapporto di confronto tra il miglioramento sismico fatto in più tappe e completato nel 2011 estate perché anche quell'attività si sta cercando di capire come ha interagito con la struttura è un'attività abbastanza profonda insomma quella di analisi spero di averle risolto il giallo per suo tramite alla cittadinanza bene io rinnovo a tutto il consiglio gli assessori e al sindaco gli auguri di buon anno ricordando che di là c'è ancora qualcosa da bere gentile pubblico signori consiglieri signor sindaco il consiglio è terminato grazie a tutti 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 grazie a tutti